Abbiamo convocato questa assemblea nazionale dei promotori dell'appello I lavoratori non sono carne da macello. Mi preme innanzitutto ringraziare la Camera del Lavoro di Modena che ci ha dato la possibilità di utilizzare la struttura. Mi preme ovviamente a ringraziare Manuela, segretaria generale della CGL di Modena Gino Giove che è presente ai nostri lavori segretario regionale della CGL e ringrazio anche il compagno Maurizio Landini che pur non essendo presente noi l'avevamo invitato ci manda un suo saluto e è impegnato in un altro incontro prima già programmato e quindi ringrazio anche lui per questo saluto. La presidenza della riunione di oggi è composta dal sottoscritto, chi non mi conosce, Paolo Brini del Comitato Centrale della FIOM, Simona Leri che farà da moderatrice e raccoglierà interventi e quant'altro che oltre ad essere l'Assemblea Generale della Camera del Lavoro di Modena è anche delegata in Coppa Alleanza 3.0, dico bene, questa si chiama così adesso. Abbiamo Paolo Grassi che è componente dell'Assemblea Generale del NIDIL a livello nazionale e che è uno dei promotori naturalmente dell'appello in questione e Mario Javazzi che è del direttivo nazionale della CGL. Tra poco iniziamo i lavori, do intanto la parola a Simona per i dettagli. Raccomandiamo a tutti, come già detto prima, chi è in questa sala se dovesse uscire e ritornare in questa sala, chi è nella sala di sopra quando esce di ritornare nella sala di sopra per le questioni naturalmente di distanza, di sicurezza e di mantenere nel limite del possibile la mascherina, date appunto le disposizioni di sicurezza che ci sono. Quindi niente, do la parola a Simona. Ah, chiedo scusa. Come avevate visto nella convocazione alla Presidenza doveva esserci la compagna Margherita Colella la quale però purtroppo ha avuto un grave problema familiare quindi oggi non è presente qui, si scusa naturalmente, le facciamo i nostri migliori auguri. Allora, buongiorno a tutti, spero che abbiate visto il gesto che ho appena fatto perché comunque è bello vedersi tutti i giorni, cioè finalmente qui, però diciamo che il Covid ancora purtroppo non ci ha abbandonato, quindi dobbiamo prestare parecchia attenzione insomma alle norme come ha già detto Paolo, quindi ribadisco, indossiamo la mascherina, facciamo attenzione agli assembramenti, distanziamoci se siamo seduti troppo vicini, cerchiamo di mantenere insomma tutte le norme di sicurezza. Per chi verrà qui a parlare appunto, visto che comunque il microfono è vicino, c'è questo gel igienizzante, adesso vediamo un po' uno magari se lo spruzza all'inizio oppure lo spruzza alla fine, comunque l'importante è spruzzarselo per essere tranquilli. Allora, la giornata si svolgerà così, abbiamo l'introduzione di Paolo Brini che farà appunto una relazione sulle tesi che abbiamo presentato, poi ci sarà spazio per i saluti, insomma dei compagni che ci ospitano, Luigi Giove e anche Manuela Gozzi se ci vuole salutare e dire qualcosa. A seguito di questo ci sarà l'intervento di Paolo Grassi che presenterà la proposta di coordinamento provvisorio. Dopo questo avremo appunto il dibattito, il dibattito che si svolgerà fino alle 6 indicativamente, dove poi daremo la parola a Mario Giavazzi per le conclusioni. Alla fine delle conclusioni procederemo alla votazione della risoluzione che abbiamo presentato e per chi non l'avesse ancora è sul tavolo qua fuori e anche la votazione sul coordinamento. Quindi direi che non ci sia altro da aggiungere, diamo inizio al dibattito e buon lavoro a tutti. Ah, è giusto, aspetta che... Ecco, me la sono spurtata la faccia, maledetta. Mi sei sanificato. Mi sono sanificato completamente. Ma va bene, battute a parte. Cari compagni e cari compagni, come lo scorso 30 marzo, data la gravità di quello che stava accadendo e la necessità di intervenire e dare un seguito concreto e conseguente all'appello che noi abbiamo lanciato e promosso, appunto i lavoratori non sono carne da macello, che ha avuto un'adesione straordinaria. Abbiamo convocato la prima assemblea nazionale sindacale, era un'assemblea in streaming, ma era la prima assemblea sindacale a livello nazionale in un contesto nel quale sia il mondo sindacale, per non parlare di quello politico, ancora era completamente paralizzato e travolto dagli eventi che si stavano succedendo. Così noi oggi qui convochiamo la prima assemblea nazionale sindacale in presenza e ci abbiamo tenuto a fare in modo che fosse in presenza, esattamente per segnalare l'importanza e la portata di quello che sta accadendo, del bilancio che noi dobbiamo fare di quello che è accaduto e soprattutto dei compiti che ci aspettano nel prossimo periodo. Ci sono nella storia e soprattutto nella storia della lotta tra le classi dei momenti di rottura, dei momenti di rottura nei quali tutta una serie di processi si accelerano dal punto di vista politico, economico, sociale. Ecco, la crisi del Covid è uno di questi momenti di rottura che nel giro di qualche giorno, qualche settimana ha catalizzato tutta una serie di processi e ha catalizzato e ha approfondito e acquito la crisi sia dal punto di vista politico, sociale che economico. Ora, i dati dal punto di vista economico, li potete leggere tutti i giorni, sono da brivido. Le stime che si fanno sono che nella seconda parte dell'anno ci troveremo di fronte a qualcosa come a livello mondiale 400 milioni di posti di lavoro persi. Per quello che riguarda l'Italia si parla di almeno un milione e mezzo di posti di lavoro persi in più. Per quello che riguarda la crescita economica si parla di un meno 3% del PIL a livello mondiale, per quello che riguarda l'Italia addirittura stiamo parlando di un meno 8 o 9%. Per quello che riguarda la produzione industriale si sta parlando di un meno 42%, al punto che Federmeccanica ha dichiarato che il prossimo autunno sarà il più terribile della storia. Per non parlare di settori che non sono industriali come quello del turismo che già di partenza ripartono con un 30% di attività che non hanno nemmeno riaperto. Dal punto di vista sociale è emersa in tutta la sua chiarezza il fatto che non è andato tutto bene con la crisi del Covid, proprio per nulla, ma al contrario è emerso in maniera chiara e lampante che anche questo virus miete vittime su base di classe, non per volontà del virus in quanto tale naturalmente, ma perché in ogni realtà, in ogni contesto, in ogni sistema in cui la sanità non è un diritto pubblico universale gratuito per tutti, ma è un privilegio per chi se lo può permettere o in cui il processo di privatizzazione della sanità è andato avanti come è successo anche nel nostro paese. Il bilancio è stato disastroso. E infine dal punto di vista politico, se ce ne fosse stato bisogno, questa crisi ha mostrato per l'ennesima volta le responsabilità, le colpe di governo e padroni in quello che è accaduto e la mostruosità di un sistema come quello in cui noi siamo, questa crisi, questo disastro sanitario ha dei colpevoli con nomi e cognomi precisi e sono i padroni e il governo, colpevoli di aver privatizzato la sanità pubblica, di aver fatto un processo di privatizzazione della sanità pubblica, che ha visto in quella che veniva raccontata come il modello fiore all'occhiello, la Lombardia, il disastro più totale ed è esattamente una delle ragioni in cui il processo di privatizzazione è più andato avanti, con una gestione altrettanto colpevole sia a livello centrale che a livello regionale, colpevoli perché hanno obbligato, nonostante questa crisi sanitaria, i lavoratori ad andare lo stesso a lavorare e al massacro, nonostante fosse chiaro ed evidente il pericolo che questo avrebbe comportato per i lavoratori. Perché ancora una volta i profitti vengono prima di tutto, vengono prima della salute, vengono prima del prezzo e del valore dei lavoratori. Sempre per rimanere in tema, dato il processo alla ThyssenKrupp, ancora oggi i padroni della ThyssenKrupp, pur essendo stati condannati a danni di galera, beneficiano di tutte le attenuanti del caso della semilibertà. Perché questa è la loro natura, è la loro colpevolezza. E se ci fosse ancora qualche dubbio, che il primo e principale centro di contagio, di pericolo di contagio, sono i luoghi di lavoro, basta vedere quello che sta succedendo in questi giorni. Alla Bartolini, a Roma, a Fiumicino nel ristorante, giusto ieri alla laserjet a Vicenza, dove addirittura uno dei titolari è ritornato e non si è neanche messo in quarantena e ha contagiato mezza azienda. Allora qui è il punto. E allo stesso tempo si è costretto i lavoratori della sanità, ci sono compagni qui che poi racconteranno che cosa è successo in quel mondo, che sono stati costretti ad andare a lavorare in condizioni di totale insicurezza. Solo tra i medici noi contiamo 171 morti. Più c'è il personale, il resto è il personale sanitario, più ci sono gli ultimi, quelli che non si considera mai nessuno, che sono quelli che magari andavano dipendenti di una cooperativa, che andavano a fare la senificazione nei locali, anche degli ospedali e che erano privi di qualsiasi tutela perché erano gli ultimi degli ultimi degli ultimi. E se la situazione, ed è qui il tema centrale, non è stata ancora più grave di quella che noi abbiamo oggi, è per una e unica ragione. Il fatto che è intervenuto in maniera prepotente sulla scena durante le settimane di marzo la classe lavoratrice di questo paese e ha aperto un conflitto la cui portata deve essere presa in considerazione perché è alla base dei ragionamenti della nostra discussione ed è alla base anche delle scelte che credo noi dobbiamo fare da qui in questa assemblea di oggi. La reazione dei lavoratori, soprattutto a partire dalle grandi fabbriche, alla provocazione, perché non si può chiamare in un altro modo il primo DPCM cosiddetto del governo, il quale da un lato ha dichiarato emergenza sanitaria, ha chiuso tutto ma ha lasciato aperto le fabbriche, costringendo i lavoratori ad andare a lavorare. Questa provocazione ha scatenato una reazione che erano anni che non si vedeva, nelle fabbriche e nei posti di lavoro. Ripeto, a partire innanzitutto da grandi posti di lavoro. È partita Pomigliano subito il 10 di marzo, si è estesa ad altre fabbriche importanti, penso alla Bonfiglioli, penso alla Fincantieri, penso alla GKN, penso alla TNT e nei giorni susseguenti questo processo di lotte, di mobilitazioni si è ulteriormente esteso. Un movimento che rivendicava due cose precise, uno la chiusura delle attività non essenziali e due la tutela della salute e della sanità dei lavoratori sul luogo di lavoro. E lo si rivendicava in un paese in cui, ricordo, ogni anno muoiono tutti i giorni quattro lavoratori, mentre stanno lavorando per, citando quel film, quattro lire vigliacche. Allora, e credo che sia importante cogliere la caratteristica di fondo di queste lotte, di questa mobilitazione. Perché, se ci pensate, numericamente, probabilmente non è stata neanche di dimensioni enormi, avrà probabilmente coinvolto attorno a un centomila lavoratori, anche se soprattutto delle fabbriche e dei luoghi di lavoro più grandi e più importanti, il che ha comunque un suo peso politico. Ma rispetto, penso io, ad altre mobilitazioni del passato, penso per esempio a quella del 2014 sul Jobs Act, sicuramente in termini numerici la dimensione era inferiore. Ma qual è la differenza, qual è la caratteristica, qual è la forza di queste lotte di marzo, di questi scioperi di marzo? È che mentre quelle manifestazioni erano tutto sommato, passatemi il termine, un po' spintanee e, come dire, si contestualizzavano in un contesto di mobilitazioni che aveva molto il sapore di essere mobilitazioni testimoniali, questi scioperi, queste lotte sono scoppiate nelle fabbriche, dal basso e hanno scavalcato chiunque. Hanno scavalcato anche noi come organizzazione sindacale e hanno posto all'ordine del giorno i temi che io dicevo. E oltre ad aver fatto questo, è vero che appunto era un numero limitato, ma ha sicuramente intercettato quello che era il pensiero, la volontà e le aspirazioni dei milioni di lavoratori. Ed è per questo che ha fatto paura, perché non è stato forse colto, ma se ci sono state due, diciamo così, conquiste, perché forse è la prima volta da decenni che ci sono aperti due principi di avanzamento per i lavoratori durante queste settimane, dopo anni. Esattamente per questo, e queste due conquiste sono uno, il blocco dei licenziamenti. Io poi, gli storici del movimento operaio presenti in sala mi correggono se mi sbaglio, ma a quanto mi risulta è dal 1945 dal governo Pari che non c'è un blocco dei licenziamenti. Generalizzato, esteso. E dall'altro lato, l'apertura del principio per cui si devono chiudere le aziende e le attività non essenziali. Dico l'apertura del principio non a caso, perché appunto formalmente, ufficialmente, si è tentato di assecondare appunto questa aspirazione dei lavoratori di chiudere le attività non essenziali. Dopodiché, come sempre, il governo, assieme al padronato, hanno fatto la legge e trovato l'inganno. E a un certo punto ci siamo trovati che, misteriosamente, improvvisamente, la classe operaia è tornata ad essere essenziale. Dopo 40 anni di propaganda martellante in cui ci dicevano che la classe operaia non esiste più, che sono categorie del passato, sono categorie del Novecento, sono robe vecchie, pipe mentali di questo genere, nel giro di dieci minuti si è scoperto che tutte le attività dei lavoratori sono essenziali. E quindi, come dire, fatta la legge trovata l'inganno, il DPCM famoso del 25, ha sostanzialmente offerto ai padroni tutti gli strumenti per poter, come dire, eludere quel decreto. Tant'è che, alla resa dei conti, alla fine dei conti, noi abbiamo che il 52% delle aziende non ha mai chiuso, che 180.000 aziende in corso d'opera hanno cambiato il famoso codice Ateco per dimostrare che loro facevano tutti attività essenziali. E a un certo punto, dopo qualche giorno, visto che comunque sia, anche se si fosse violata questa chiusura, non ci sarebbero state né sanzioni né provvedimenti di alcun genere, ovviamente i padroni hanno cominciato a prendere coraggio e dopo un po', come dire, non avevano più neanche la faccia di chiudersi dietro una formalità, hanno completamente aperto in maniera totalmente spudorata. Ecco, ed è proprio da qui, ed è proprio dalla gestione e da come è stato affrontato questo passaggio, queste settimane di lotta e quello che ne è conseguito, che credo che sia immersa con forza la inadeguatezza e la impreparazione del gruppo dirigente della nostra organizzazione, della CGL, che fin da subito ha assunto un approccio di totale subordinazione alla logica del governo e dei padroni. Al punto che, dopo la prima settimana di scioperi, che sono scoppiati dal 10 e sono arrivati fino al 13, il 14 si è siglato un protocollo, solo Confindustria e sindacato, che sostanzialmente non faceva altro che recepire quel di PCM contro cui appunto gli scioperi erano esplosi. E quindi da un lato, come dire, apprendo pericolosamente dei principi di peggioramento di alcuni diritti importanti per i lavoratori, penso all'articolo 5 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, penso alla questione dello smart working imposto unilateralmente da parte delle aziende, penso al diritto alle assemblee, che certo non veniva negato, ma con quelle formulazioni noi ci siamo trovati una valanga di difficoltà per tutto un periodo a poter convocare delle assemblee sindacali in presenza, organizzate anche appunto tutelando le distanze di sicurezza e quant'altro tra i lavoratori e veniva utilizzato strumentalmente dai padroni da questo punto di vista. Ma soprattutto era un protocollo che non rispondeva a quella che era l'aspirazione di fondo che aveva scatenato gli scioperi, e cioè la chiusura delle attività non essenziali. Ed è per questo che infatti, da un lato, la settimana successiva gli scioperi, se possibile, non solo non sono finiti, ma sono addirittura aumentati, ed è esattamente per questo che noi abbiamo promosso questo appello, i lavoratori non sono cane da macello che, ripeto, ha avuto un'adesione che è andata al di là di ogni aspettativa. E quindi si è arrivati poi al punto del cosiddetto DPCM, quello del 25, del 22, 25, con tutte le contraddizioni del caso. Si sono fatti scioperi generali in alcune regioni a livello di categoria. La CGL ha minacciato lo sciopero generale, ma lo sciopero generale non è stato fatto e quindi ovviamente la conseguenza è stato quel pasticcio che è appunto quel DPCM con tutte le contraddizioni e scappatoie del caso che prima ho illustrato. Ma la cosa io penso ancora più rilevante è che questa stessa linea sindacale è stata portata avanti anche dopo il 25, dopo la chiusura di questa prima fase in cui questa prima ondata di lotte è finita. E quindi in maniera anche piuttosto spiazzante, cioè da un lato i padroni non l'hanno mandato a dire. Nei giorni successivi hanno eletto a presidente di Confindustria un certo Bonomi, che è uno dei falchi dell'Asso Lombarda, quindi del centro responsabile prima di tutti di questo disastro, perché ricordo che appunto nella zona di Bergamo, di Brescia, i padroni hanno imposto di mantenere aperte le aziende con la conseguenza del disastro che ben conosciamo. E quindi la risposta di Confindustria è che il primo presidente che è stato eletto, se non ricordo male, con solo tre astenuti, quindi praticamente all'unanimità dopo anni, ed è uno che la prima dichiarazione che ha fatto sono stata una dichiarazione di guerra nei confronti dei lavoratori, dicendo vi scordate i contratti nazionali, vi scordate, ne stanno discutendo adesso nelle loro segrete stanze, di non riconoscere i premi di risultati per l'anno 2020 e che pretendono e rivendicano soldi pubblici, regali pubblici che naturalmente dovranno pagare i soliti notti, cioè i lavoratori a fondo perduto. E a questa dichiarazione di guerra il nostro segretario generale risponde in un'intervista in cui dice non è il momento del conflitto, cioè a questi che mettono i carri armati schierati di fronte a noi, noi rispondiamo alzando bandiera bianca e promuovendo la pace e amore tra i popoli, senza aver capito che questa è la situazione, queste sono le intenzioni che i padroni hanno. E a maggior ragione questo si è concretizzato anche nella gestione della fase successiva, a partire dai grandi gruppi e quello che succede, penso a FCA, perché FCA è l'azienda, è il gruppo più importante a livello nazionale e naturalmente detta le regole di conseguenza in quello che succede in tutte le altre realtà. E allora proprio in FCA da un lato alla richiesta spudorata dell'azienda di avere un prestito che è un regalo di soldi pubblici di 6,3 miliardi di euro il giorno dopo aver staccato un cedolino per gli azionisti di 5,5 miliardi di euro di profitti, la risposta nostra è stata sì va bene i finanziamenti pubblici di fatto a fondo perduta in cambio della cogestione, cioè del modello alla tedesca, cioè in cambio sostanzialmente di una cosa che è il più grande inganno che si può fare ai lavoratori perché la cogestione è la via attraverso cui il padrone fa credere ai lavoratori di contare qualcosa nelle decisioni delle aziende e in realtà è semplicemente lo specchietto delle allodole dietro a cui si nasconde comunque e costantemente quello che è l'interesse del padrone in quanto tale. E allora io voglio dire da quando sono in CGL ho sempre avuto come... mi è sempre stato detto che se c'erano due punti centrali cardine della natura del nostro sindacato e che ci distinguevano nettamente per esempio dalla CISL erano il fatto che uno noi non siamo sindacato dei servizi, due respingiamo la logica che era della CISL di entrare nei consigli di amministrazione, delle cogestioni e cose di questo genere. Nel giro di dieci minuti, appunto perché tutti i processi poi vengono catalizzati durante queste crisi, abbiamo avuto l'esatto contrario, cioè abbiamo sdoganato questo tipo di logica. Allora io voglio essere estremamente chiaro su questo. Io penso che non può essere... che la strategia per poter difendere i diritti dei lavoratori e migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori in questo contesto non può essere la rincorsa dei tavoli di trattativa a qualsiasi costo per potersi legittimare. E badate che questa non è nemmeno la via neanche per salvare la CGL, perché il modo e l'unico strumento che noi abbiamo per salvare la CGL, per recuperare anche il calo di iscritti che noi abbiamo, drammatico, per recuperare i problemi anche di bilancio conseguenti a questo, per recuperare autorevolezza e credibilità agli occhi dei lavoratori, è esattamente quello di basarci sui lavoratori, sulla forza dei lavoratori e sulla capacità di lotte di mobilitazione. Durante le giornate di marzo questo era possibile e se avessimo proclamato quello sciopero generale lo scenario sarebbe stato diverso e invece continuiamo a essere all'inseguimento e alla coda del governo e della confindustria. In un contesto in cui l'autunno che noi avremo sarà un autunno, come dicevo all'inizio, rovente e mi viene da dire devastante, perché il blocco dei licenziamenti il 17 agosto finirà, poi si sta parlando di un rinnovo di questo blocco ma solo specifico, settorializzato, ovviamente non è ancora chiaro, naturalmente se c'è una cosa che sta sui maroni ai padroni in questo momento è esattamente il blocco dei licenziamenti ed è chiaro che lo scenario che si va a delineare è esattamente quello del DPCM del 25 marzo. Cioè magari ti dico blocco i licenziamenti per alcuni e poi dopo di che i padroni fanno comunque quello che gli pare, che è esattamente quello che comunque già in parte sta succedendo. Penso a vertenze come quella alla Jabil, penso di vertenze come la FIAC o alla Comer di Reggio Emilia o alla TNT. Ed è chiaro che appunto, come dire, questo elemento sarà dirompente, perché il rischio che noi ci troviamo di fronte ai licenziamenti di massa è un rischio estremamente concreto e dall'altro lato i padroni ce l'hanno detto e ribadito che la crisi, che i soldi pubblici che stanno chiedendo all'Europa, ce l'ha detto e l'ha ribadito anche la Merkel giusto ieri l'altro, che si chiamino MES, Recovery Fund, quello che volete voi, sono soldi, sono debiti che qualcuno dovrà poi ripagare e indovinate a chi verranno a chiedere il conto. Non certo all'FCA a cui hanno regalato appena adesso 6,3 miliardi di euro a fondo perduto praticamente. Allora è qui il punto, di fronte a questa situazione, di fronte a questa prospettiva, noi non possiamo accettare queste regole del gioco, noi non possiamo accettare, mi si passi, di cogestire questa situazione che si va a delineare. Mai come oggi noi dobbiamo dire no alla collaborazione di classe e sì a una linea di indipendenza di classe, basata sul conflitto e sul porre al centro gli interessi della classe lavoratrice. E proprio per questo ci sono due temi, due parole d'ordine che credo siano all'ordine del giorno e che sono esattamente il contrario di quelle che sono state avanzate, cioè quella di dire se finanziamenti pubblici oppure pubblico e privato non è quello il problema da un lato e la cogestione dall'altro. Che siano da un lato il tema di rivendicare la nazionalizzazione e rinazionalizzazione di quello che è stato privatizzato. E penso che il disastro della sanità ce lo dice, penso che la crisi e quello che sta accadendo in grandi aziende a partire dall'Ilva di Taranto dimostrano che quella è l'unica strada e stiamo parlando, voglio essere chiari, non di una nazionalizzazione che abbia alla base la logica del socializzare le perdite e privatizzare i profitti come quelle che abbiamo visto spesso neanche nel recente passato, ma una nazionalizzazione che sia un esproprio, senza indennizzo e che garantisca i posti di lavoro e pensando a Taranto anche la garanzia della salute dei lavoratori e della città. E dall'altro lato conseguenzialmente legato a questo non la cogestione della crisi, ma il controllo operaio. Ma il controllo operaio. E il controllo operaio si pone all'ordine del giorno esattamente quando si rivendica la nazionalizzazione, ma si pone all'ordine del giorno anche quando succede quello che è successo a marzo. E cioè quando si pone il problema della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Perché il punto sta lì. Quando si parla di sicurezza sui posti di lavoro, di rispetto della sicurezza sui posti di lavoro, si sta dicendo una cosa precisa. Si deve andare a mettere mano all'organizzazione del lavoro. E se c'è una cosa che i padroni non vogliono è che qualcuno vada a mettere mano all'organizzazione del lavoro che non siano loro stessi, perché sono loro che comandano. E quando si pone questo problema, si pone il problema dei problemi. E allora non è entrando nei consigli di amministrazione, non è cogestendo, non è accettando questo cinema che ci propongono i padroni, che noi possiamo davvero affrontare il problema. Ma è esattamente all'opposto. Partendo dalla tradizione che peraltro è una tradizione che noi abbiamo, quella consigliare, quella del protagonismo dei lavoratori e dei delegati. Ora, e proprio per questo, proprio perché questa è, e vado verso le conclusioni della mia relazione, proprio perché questi sono i compiti, queste sono le parole d'ordine che noi abbiamo, questo è quello che gli eventi ci pongono di fronte, credo che sia necessario anche essere noi conseguenti da questo punto di vista, ed è necessario fare una scelta netta, se vogliamo anche dolorosa, ma necessario. Perché siamo franchi, se il gruppo dirigente della CGL, appunto, non sono stato molto diplomatico prima, se il gruppo dirigente della CGL è stato totalmente inadeguato, non possiamo però non riconoscere il fatto che l'area sindacale in cui noi abbiamo militato fino ad oggi è stata totalmente inconsistente. Ed è stata inconsistente a maggior ragione in un momento in cui sono scoppiate le lotte, in cui più c'era bisogno di avere uno strumento che potesse intervenire in quel contesto. E allora qui è il punto, perché il problema è la totale incapacità che si è dimostrata in tutti questi anni, ma che ha avuto un piccolo, ennesima dimostrazione in queste giornate di marzo, di come l'area in cui siamo a livello nazionale non riesce a essere uno strumento utile alla battaglia per l'egemonia. Allora, e invece sostanzialmente, come dire, lascia più o meno ognuno alla merced di se stesso quando va bene e basta. Ora, un'area di opposizione all'interno della CGL ha un senso di esistere, ha una ragione di esistere nel momento in cui è uno strumento utile, utile a intervenire nei movimenti concreti, reali ed è utile alla battaglia per l'egemonia, alla battaglia per l'egemonia di una linea di classe conflittuale. E per fare questo, come dire, non è che ci sono ricette magiche o cose molto fantasiose o molto nuove rispetto a quello che ci insegna la storia del movimento operario, perché bisogna essere capaci di aprire contraddizioni, bisogna essere capaci di sapersi inserire nelle contraddizioni che si aprono, partendo dal basso. E per fare questo, come dire, tu devi avere la capacità primo, di saper fornire analisi, secondo, di saper fornire parole d'ordine, terzo, di saper costruire autorevolezza e quarto, di conseguenza, proporre un metodo corretto di costruzione, di battaglia, di intervento nell'organizzazione e nei luoghi di lavoro. Se non fai questo, come area sei totalmente inutile. Invece l'area in cui noi abbiamo militato, ripeto, ha dimostrato di non essere in grado di fare questo. Non riesce. È totalmente, come dire, sepolta nella discussione degli organismi e al massimo nella mediaticità dei social. E si ferma lì. Allora, un'opposizione di questo genere non serve. Non è utile. Perché non ti pone mai concretamente davanti al vero problema. Allora, non si può limitarsi ad alternare verbalismo più o meno radicale e scivoloni, diciamo così, anche preoccupanti dall'altro e di conseguenza in contemporanea essere incapaci di saper intervenire nelle lotte reali, nei movimenti reali e nei processi reali. Perché ci si è totalmente rinchiusi in una autorefinanzialità e, come dire, si è totalmente autocentrati. Credo che questo abbia una ragione di fondo, che è la ragione, come dire, più importante che, come dire, ci porta oggi a fare questa proposta. E cioè la totale sfiducia nei confronti della classe lavoratrice. Che, come dire, si può leggere anche ormai nel sito, anche se è sempre più, come dire, sciapo come sito. Ma questo lo si può tranquillamente vincere, e non vi dico nelle discussioni a livello nazionale. Al punto che non si è colto in alcun modo la portata e il significato degli eventi che noi abbiamo visto e di cui abbiamo parlato, di cui vi ho appena parlato appunto negli sciopperi di marzo, la loro portata e il loro significato. E allora, come dire, questo implica che siamo in un'area che, come dire, è morta. E allora abbiamo la necessità di essere conseguenti. E per questo la proposta che facciamo, vedete, abbiamo proposto una relazione che naturalmente poi da discutere, eventualmente modificare, da mettere ai voti, naturalmente, alla fine della nostra assemblea, propone in maniera molto netta di costituire nell'ambito della mozione 2, di cui rivendichiamo la validità come documento congressuale e a cui, mi permetto di dire, abbiamo portato anche parecchi voti all'ultimo congresso, un'area, la formalizzazione di un'area che parta dalle giornate di marzo e che possa e debba essere uno strumento utile ed efficace per portare avanti la nostra battaglia. Ripeto, non è che c'è una ragione di una qualche presa di posizione particolare e sbagliata che ci ha fatto dire no a questo è troppo. No, il punto è proprio un altro, che non c'è stato nulla. C'è stata la totale inconsistenza concreta, pratica. E allora non è possibile continuare appunto in questo modo. Noi abbiamo bisogno di uno strumento che sia utile, ripeto, alla battaglia per l'egemonia. Lo diciamo senza, naturalmente, nessun tipo di polemica e senza nemmeno volerle fare, mantenendo i toni in maniera molto tranquilla, molto bassa, naturalmente con la disponibilità a discutere e a fare fronte comune, come con tutti, quando ovviamente ci sono opinioni e condivisione, ma abbiamo bisogno, come dire, di altro. E prendiamo oggi questa decisione esattamente per quelle che sono le prospettive che noi abbiamo di fronte. Proprio perché pensiamo che avremo un autunno estremamente caldo e non lo pensiamo solo noi, lo pensano i servizi segreti, dati tutti i rapporti del Ministero degli Interni, lo pensa Confindustria, lo pensa la classe dominante. Proprio perché ci troveremo di fronte a questo contesto, noi abbiamo bisogno di avere uno strumento che ci permette di intervenire e di essere efficace e che sia utile alla battaglia per l'egemonia. Perché quello che sta succedendo negli Stati Uniti non è altro che, come dire, l'esempio di quello che può accadere anche nel nostro Paese. E come ha detto Boots Riley allo sciopero dei portuali nella costa occidentale degli Stati Uniti lo scorso 19 giugno, uno sciopero generale di massa che ha bloccato i porti, qual è il nostro potere? Ecco la nostra risposta. Il nostro potere deriva dal fatto che creiamo la ricchezza. La ricchezza è potere. Abbiamo la capacità di vanificare quel potere. Abbiamo la capacità di astenerci dal lavoro e chiudere tutto. Immaginate se questo non fosse solo un blocco dei porti della West Coast di un giorno. Immaginate se decidessimo di chiudere tutti i porti della West Coast a oltranza. Perderebbero miliardi di dollari. Dobbiamo mostrare loro che non stiamo chiedendo, ma che stiamo facendo. Fermeremo il mondo e faremo saltare quei figli di buona donna. Grazie. Allora, siccome mi dovrò alzare io a dare la parola e tutto, ho deciso che ve lo spruzzo io questo qua. Così? Così? Quale? Però non lo sto usando. Va bene, comunque se lo usiamo lo facciamo. Esatto. Allora, Paolo ha preso poco più di 30 minuti, è stato bravissimo, breve, conciso, un'ottima relazione. Ora do la parola a Luigi Giove che ci viene a salutare. Buongiorno a tutte e a tutti. Vi ringrazio per l'invito. Devo confessare che non ero preparato alla conclusione di questa relazione, quindi mi ha un po' sorpreso, però insomma direi che era anche un po' nell'aria. Adesso in parte magari posso anche sorprendervi, fermo restando il fatto che vi rubo 5 minuti perché credo che abbiate a questo punto molto da discutere e anche delle cose da decidere. Io condivido gran parte dell'analisi appena fatta. Credo che ne manchi un pezzo e mi sorprende anche che manchi. Io credo che manchi un ragionamento approfondito, serio, su tutto ciò che è stato il periodo di lockdown rispetto alla possibilità di esercizio della democrazia in questo Paese. Che tra tutte le questioni che sono emerse, molte venivano citate da Brini nella sua relazione, in particolar modo, diciamo così, il difficilissimo equilibrio, delle volte l'assente equilibrio tra il diritto alla salute delle lavoratrici e dei lavoratori, il diritto alla salute anche delle cittadine e dei cittadini di questo Paese e, diciamo così, i diritti del capitale. Io però a questo, ripeto, aggiungerei anche un ragionamento perché in questo Paese, non solo in questo Paese, ma in questo Paese ancora oggi si legifera per decreto e si è arrivati al decreto del Presidente del Consiglio che ha deciso che è tutto vietato tranne ciò che è consentito. vorrei, lo ripeto, cioè in questo Paese ancora oggi il Presidente della Regione, della singola Regione, e il Presidente del Consiglio di tanto in tanto ordinano e ordinano che cosa da adesso in poi è tornato ad essere consentito. E io vorrei che non la sottovalutassimo questa cosa, perché abbiamo scoperto che in un Paese la cui Costituzione è antifascista e nasce come risposta democratica fondata sulla resistenza ad una dittatura, come questa Costituzione può essere messa in freezer nel giro di 48 ore e con il decreto di un Presidente del Consiglio. Secondo me una riflessione su questa andrebbe fatta, perché io potrò anche sbagliarmi e magari era assolutamente giustificato, ed era anche giustificato mettere in quarantena il Parlamento. Però un brivido lungo la schiena mi è corso più e più volte nel corso di quelle settimane. E ancora oggi, tutte le volte che esce un decreto e tutte le volte che esce un'ordinanza che dice che da adesso in poi è consentito giocare a briscola, questa è l'ultima ordinanza dei bonacini. Da adesso in poi è consentito giocare a briscola, io penso come sia stato possibile vietarlo. Dopodiché dico solo questo, perché secondo me nell'analisi questo ragionamento è un ragionamento che bisogna che noi approfondiamo e che dentro la nostra organizzazione non abbiamo, diciamo così, se non molto timidamente sfiorato. Cosa abbiamo di fronte? Quello che abbiamo di fronte non è la riedizione delle giornate di marzo, scusate se ve la dico così brutalmente, però insomma Mario e Brini sono abituati anche, diciamo così, a un'interlocuzione schietta e quindi credo di potermela permettere. Noi non avremo la riedizione delle giornate di marzo per capirci, noi avremo la necessità di capire come si fa a mantenere in piedi un sistema produttivo ed economico in costanza di una pandemia, perché così sarà, perché questo Paese non potrà permettersi un altro lockdown, almeno non generalizzato, pena il default del Paese, perché questa è la realtà. E sulla scia di questo credo che dovremmo cominciare ad attrezzarci, perché nel frattempo altri soggetti si sono già attrezzati e chi nelle settimane di fine febbraio, marzo, aprile, diceva vedete che la sanità pubblica è quella che sta salvando il Paese, usciremo da questa crisi, che la sanità pubblica sarà più forte. Le proposte di Confindustria Emilia Romagna di ieri dicono più sanità privata e lo rivendicano. Ci siamo detti, vedete, per garantire un minimo di copertura reddituale, delle volte non l'hanno ancora visto, in un mercato del lavoro polverizzato, parzializzato come quello che abbiamo di fronte è stato necessario inventarsi tre più due tipologie di ammortizzatori sociali, infiniti bonus, compreso il reddito di emergenza e il reddito di ultima istanza. Molti lavoratori ancora non hanno visto il becco di un quattrino. Le richieste di Confindustria sono più flessibilità nel lavoro. diciamo, abbiamo la necessità di, e io penso che sia giusto per capirci, di utilizzare i fondi del MES per fare un investimento in sanità e nella sanità pubblica, la ricetta di Confindustria è ulteriori tagli all'IRAP, che come noto a tutti serve a finanziare la sanità pubblica. Ecco, io poi mi fermo qua, dico, noi abbiamo bisogno adesso di mettere in campo una nostra idea di quella che sarà la fase della transizione e quindi di convivenza con il virus e con la pandemia e quindi comunque di limitazioni. È un'idea di rilancio e di utilizzo delle ingenti quantità di risorse che arriveranno dall'Europa, che non sono gratuite e che è vero che andranno restituite, ma l'alternativa a questo, non essendo io credo in questo momento con quel governo, con quel Parlamento praticabile, diciamo così, altro, una patrimoniale ad esempio che rimetta in equilibrio i patrimoni in questo Paese tra chi non ha nulla tantissimi e chi ha tanto pochi, quelle risorse vanno utilizzate bene e io credo noi dovremmo avere qualcosa da dire rispetto a questo e magari sarebbe anche opportuno avere un'idea dello sviluppo di questo Paese, di che cosa vorremmo fosse questo Paese all'uscita dalla crisi. Nel frattempo mi preoccupo perché vedo correre velocemente un decreto semplificazioni che semplifica sulla infiltrazione della criminalità organizzata e sui diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Vedo un contesto nel quale siamo passati molto troppo rapidamente dalla centralità e dall'essenzialità del lavoro e dei lavoratori alla centralità e l'essenzialità dell'impresa del capitale. Io mi fermo qui, ovviamente vi dico in bocca al lupo per il vostro percorso, come è noto in Emilia Romagna siamo rispettosi di tutte le sensibilità e di tutte le opinioni, quando ci diciamo che non siamo d'accordo ce lo diciamo francamente in faccia, però abbiamo la tendenza a rispettarle tutte le opinioni, le minoranze e delle volte anche le opposizioni, anche se sono un po' fastidiose, sono però utili nel dibattito e nella crescita più complessiva dell'organizzazione. Buon lavoro. Bene, grazie mille per l'intervento Gino e non so se Manuela vuole dire qualcosa o ci vieni a dire ciao, ci fa piacere, sei la nostra ospite, vieni pure. Non è una battuta che vi dico solo ciao, nel senso che non è solo rispetto delle gerarchie che è il fatto che è intervenuto prima Gino. Bene, io vi ringrazio di essere qua a Modena e di aver scelto questa location per fare una roba che lui l'aveva sentire l'aria e io manco quella perché vivo in un mondo evidentemente mio. Aggiungo solo due rapidissime riflessioni alle diverse cose che voi avete da dire e da fare. che sono in parte state sfiorate a quello che diceva Gino e ci tengo a sottolineare. Fermo restando che anche per me è condivisibile una buona parte della relazione di Paolo, credo che il coronavirus abbia messo in evidenza per tutti, non solo per una parte di lavoratori o una parte dell'organizzazione, le difficoltà che abbiamo all'essere nei luoghi di lavoro, come nelle sedi sindacali, la risposta unicomprensiva ai bisogni. E lo dico perché mi ha ferito profondamente, che non è solo una testimonianza personale, che dentro alle aziende la pluralità di applicazioni contrattuali e di modalità con le quali si possa accedere al mondo del lavoro, ci ha messo in una condizione che la nostra rappresentanza, al di là di avere più o meno consenso o fare più o meno ore di sciopero, quando non si può intervenire sull'insieme dei lavoratori e mettere in condizione che i loro diritti vengano rispettati indipendentemente dal contratto di applicazione è una riflessione che tutta l'organizzazione deve fare, non è solo di una parte o di una sensibilità. L'altra considerazione è quella che è conseguente a questo, che questo è quello che ha poi portato anche a situazioni eclatanti dove al di là di quel che avviene nei giorni nostri si è visto che anche erogazioni economiche appartenessero a qualcuno e non all'insieme di quello che è stato invece necessario insieme sviluppare. Io credo che da questo punto di vista sia necessario che tutti quanti insieme, pur con i distinguo e le diverse modalità con le quali si possono portare a casa i risultati dobbiamo agire e nell'azione mettere in campo la volontà di continuare ad essere una confederazione generale del lavoro che rispecchia e risponde in modo integrato alla tutela individuale, alla tutela collettiva, ma soprattutto in modo adeguato all'interno dei luoghi di lavoro, perché per me questa è stata la carenza più grande e l'altro elemento, e poi mi taccio, è quello che abbiamo vissuto, vent'anni di berlusconismo spinto che ha portato le persone a muoversi nell'individualismo, oggi l'individualismo è diventata paura e la paura è parente stretta di moti che vorremmo dimenticare perché vengono dal passato, da un passato che però i nostri genitori, i nostri nonni ci hanno ricordato e che la pandemia ci ha impedito di ricordare con le modalità classiche e continuo a dire a me è una serata in piazza il 25 aprile e il primo maggio mi fa ancora soffrire e quindi non è che, ma non perché sono date storiche, perché sono momenti importanti di riflessione dove si accendono i riflettori su temi fondamentali per il continuo e proseguo di un paese democratico. Detto questo io vi auguro indubbiamente buon lavoro, comunque finisca, sono sicura che la mia spina nel fianco, che è Paolo Brini e la Simona e altri, spina nel fianco nel senso buono perché se c'è una cosa che ci tengo, lui è stato molto gentile a ringraziare la Camera del Lavoro, io non sono gentile, sono oggettiva, è una spina nel fianco ma è anche un pungolo necessario a mantenere quel pluralismo dentro la nostra organizzazione nella quale le differenze di impostazione e di valutazione sui fatti deve essere una crescita politica e la differenza è uno dei beni valoriali della nostra organizzazione e come tale va preservato. Questo deve stare ovviamente sempre nel sulco del reciproco rispetto della democrazia più complessivamente intesa ma io vi auguro davvero che questa giornata sia produttiva e positiva perché l'importante è continuare ad avere chiaro per tutti e credo che qua ce l'abbiamo chiaro tutti che non solo siamo la CGL ma teniamo ai diritti dei lavoratori, dei pensionati, dei disoccupati quindi a contribuire a modificare questa società in una logica che veda la sinistra sempre più protagonista e non invece collaterale come è in questo periodo. Grazie. Grazie mille Manuela. Ah fatto io. E niente allora do la parola all'ultimo intervento prima del dibattito e incomincio a incentivarvi insomma a segnarvi perché per ora abbiamo solo un intervento dopo Paolo quindi se volete incominciare a farmi un cenno spero di vedervi tutti altrimenti chi ha il mio numero mi mandi un whatsapp insomma cerchiamo un po' di organizzarci. Grazie. Scusate è vero è Paolo Grassi l'avevo detto all'inizio ora parlerà Paolo Grassi dell'agenzia eh sì dell'agenzia dell'assemblea generale del NIDIL nazionale. Ciao grazie. Ok. Allora mi chiamo Paolo Grassi per i compagni che non mi conoscono sono uno dei promotori dell'appello eh che abbiamo lanciato per l'assemblea del 30 marzo eh sono stato delegato a farvi la proposta del coordinamento provvisorio un coordinamento provvisorio che eh poi dovrà essere ratificato in un'assemblea che dovremo fare tra settembre e ottobre eh dopo che Mario Iavazzi avrà formalizzato la nostra area eh nel direttivo nazionale perché questa è la prassi. Quindi un ehm un coordinamento provvisorio perché comunque eh come ha spiegato molto bene Paolo eh noi non non ci aspettiamo come dire un autunno eh rutinario anzi eh non voglio fare un intervento però è chiaro che eh la necessità di incominciare a mettere eh per tempo alcune ehm cose eh pronte per l'autunno ci aiuta eh a poter discutere e essere presenti eh nelle manifestazioni mobilitazioni che ci saranno il prossimo autunno per tempo. per questo eh abbiamo eh abbiamo proposto questa assemblea per questo eh proponiamo di prendere alcuni aggiustamenti organizzativi per questo proponiamo di preparare una nuova area per questo pensiamo che sia necessario però per essere coerenti con quello che diciamo anche darci una prima eh forma eh organizzativa eh che vede però al contrario di quello che abbiamo conosciuto eh in questi anni non soltanto in cui stiamo tutto o sindacato un'altra cosa o rete ventotto aprile ma anche nelle aree sindacali programmatiche che hanno preceduto questa eh quest'area cioè parlo di alternativa sindacale cambiare rotta eh lavoro società essere sindacato la vista è lunga perché sono trent'anni ehm ecco al contrario delle delle esperienze precedenti pensiamo che non ci deve essere un automatismo tra eh essere componenti di un eh organismo dirigente eh nazionale, regionale, locale, di categoria eccetera eh e far parte di un coordinamento. Un coordinamento scusate che dimenticavo che proponiamo di ventidue compagni perché in primo luogo eh credo che è giusto dare rappresentanza ma allo stesso tempo credo ipocrita come invece è con cui siamo tutto che questo eh gruppo dirigente deve essere pletorico e gli organismi pletorici non decidono mai niente alla fine portano le discussioni alla lunga finché decide sempre un gruppo ristretto. Quindi abbiamo deciso di fare anche un coordinamento di ventidue compagni per avere un equilibrio tra la necessità della rappresentanza ma anche la necessità di fare discussioni che siano poi alla fine operative. Ecco quindi dicevo eh non un rompere col passato non eh un criterio che è quello una trasposizione del ruolo che si gioca negli organismi dirigenti con quello che eh è poi il coordinamento che deve dirigere un'area che che credo abbia un elemento di ipocrisia perché sappiamo tutti come hanno funzionato in questi anni i congressi della nostra organizzazione eh spesso negli organismi dirigenti eh non ci vanno i compagni più rappresentativi eh del loro lavoro della loro azienda della loro categoria eh ci vanno anche ma non solo loro e eh per motivi legati a eh equilibri interni alla maggioranza ci sono criteri come la questione di genere la questione eh di produzione eccetera che io credo che andrebbero rispettati in un altro modo politicamente più ehm corretto e politicamente più coerente ma che però vengono utilizzati esclusivamente per eh coprire del degli organismi eh a scapito magari eh di una corrente meno organizzata all'interno del congresso. Insomma quello che voglio dire è che il nostro coordinamento deve essere effettivamente rappresentativo di un radicamento e di un riconoscimento eh in quanto dirigenti all'interno di questa organizzazione. Detto questo io ehm premetto che non tutti i compagni presenti conosceranno tutti i compagni in questa lista. Eh credo però che eh ci sia un elemento anzitutto di fiducia di partenza che deve anche contare nella nostra discussione perché ehm credo che ci voglia anche il tempo per conoscere eh i compagni e poi soprattutto perché appunto essendo provvisoria eh i compagni poi avranno anche il tempo di informarsi, ragionare, verificare in modo che quando arriveremo all'assemblea eh autonale in cui ratificheremo un coordinamento eh definitivo e i compagni possano avere più elementi per eh presentare le loro opinioni. Eh questo la proposta di questo coordinamento è composta da ovviamente Mario Iavazzi che è il nostro rappresentante del direttivo nazionale della CGL eh Paolo Brini eh che avete appena ascoltato compagno del comitato digitale della FIOM. Paolo Grassi cioè il sottoscritto promotore dell'appello e eh dell'assemblea generale del NIDIL nazionale CGL. Gian Placido Ottaviano che fa parte della che oggi purtroppo non è potuto venire ma fa parte dell'assemblea eh generale della FIOM e ehm delegato sindacale alla Bonfiglioli di Bologna. Antonio Forlano che chiedo di alzare la mano così i compagni lo possono vedere. Eh membro del direttivo nazionale della Filt. Mi piacerebbe prendere del tempo per spiegare questa lista perché ogni dietro dirigente in una categoria nazionale c'è una lunga battaglia fatta eh verso la maggioranza ma anche all'interno della minoranza. Eh delegato sindacale all'UPS eh logistica due volte licenziato e costretti a riassumerlo. Ehm Angelo Raimondi delegato eh S. Lunga nella provincia di Milano eh è scritto Filcams. Eh Simona Leri eh che tutti conoscono. Delegata della COP eh Allianza 3.0 e eh dirigente della Camera di Lavoro di eh Modena. Ilice Vezzosi che sarà presente domani e oggi purtroppo non è potuto venire eh di Reggio Emilia eh adesso lavoratore dell'FLC e membro del direttivo della Camera di Lavoro di Reggio Emilia. Margherita Colella di cui prima Paolo ha eh giustificato l'assenza ehm dell'assemblea generale dell'Emilia Romagna e eh eh iscritta del FLC eh di Parma. Diego Sabelli che dovrebbe alzar la mano se c'è ma forse di sopra eh delegato eh eh dell'azienda eh di Finmeccanica eh FIOM eh Lazio. Domenico Loffredo eh operai di Pomigliano eh direttivo FIOM della della campagna di Napoli. Di tutti due. Ok. Eh Arianna Mancini eh sanità funzione pubblica eh di Roma. Daniele Chiavelli FLC eh di eh Mantova. Federico eh Irene Forno eh eh direttivo nazionale NIDIL che oggi non è potuta essere presente causa problemi familiari. Federico Toscani eh funzione pubblica a Parma eh lavoro socio sanitario. Matteo Parlati delegato Ferrari e direttivo FIOM Modena. Eh Davide Bacchelli eh delegato del Lima eh azienda storicamente concertativa di Bologna in cui però eh ci sono anche delegati molto radicali e eh direttivo FIOM eh Bologna. Eh Alessandro Albarani della eh FLY eh di Modena. Giuseppe Faillace delegato Motovario e eh direttivo FIOM Modena. Luca Ibatici eh delegato della SPAL di Reggio Emilia e direttivo eh della FIOM di Reggio Emilia e Franco Ferrara eh SPI eh quindi abbiamo anche un compagno dello SPI ehm delegato eh scusate SPI eh di Genova eh eh che anche lui non ha potuto venire per problemi personali eh e che mi fa venire in mente che un altro criterio che abbiamo adottato per fare questa lista è avere anche comunque dove è possibile un compagno riconosciuto sindacalmente nella zona in quanto punto di riferimento perché vorrei ricordarvi e concludo con questo che il nostro obiettivo è eh non solo costituire una nuova area in CGL perché dobbiamo mostrare quello che eh vediamo che sta cambiando potendo farlo con tutte le nostre forze e anche le mani libere. Ma anche quello che noi puntiamo soprattutto a rivolgerci alle centinaia di migliaia di lavoratori che magari giovani e non giovani che magari fino all'altro ieri di sindacato non si interessavano delegavano eh e invece con eh la crisi di marzo hanno svoltato e deciso di guardare a quello che sta succedendo e incominciarsi anche impegnarsi eh politicamente e soprattutto sindacalmente. Grazie. Bene grazie Paolo dell'Agenzia Generale e allora il primo il primo intervento è quello di Matteo Parlati che è già stato presentato comunque da Paolo e qui a Modena lo conosciamo comunque ripeto è delegato alla Ferrari ed è nel direttivo FIOM di Modena. Allora adesso siccome lui è nella sala in una sala in un altro piano proveremo a farlo intervenire da lì. Se non si sente eh un attimo di pazienza che lo facciamo insomma venire qua giù. Uh? Com'è? Si sente? Perfetto. Ma allora compagni c'è eh veramente tanta carne al fuoco eh per cui mi soffermerò su due punti intanto eh inizio eh inizio col dire che condivido eh la relazione di Paolo ehm. Eh? Eh? Mi senti? Scusa. Dimmi. Eh no esatto è meglio se vieni giù guarda perché non ti sentiamo molto bene ti aspettiamo. Ok. E se intanto qualcun altro vuole intervenire in sala così? Ah aspetta che mi dicono che puoi provare un attimo risiediti scusa. Va bene. Vado provo? Sempre sto problema con le connessioni. Va bene. Eh dai provo provo di nuovo. E dicevo ehm c'è veramente tanta carne al fuoco perché comunque eh il momento è particolare eh dicevo condivido in pieno la relazione di Paolo eh condivido un po' meno eh l'intervento di di Luigi e di di Manuela ma per un semplice motivo noi non siamo qui per mantenere gli equilibri fra capitale e lavoro perché i padroni non vogliono mantenere quell'equilibrio, lo vogliono spezzare al loro favore e noi siamo qui proprio per ribadire il nostro punto di vista, il nostro punto di vista di classe che quell'equilibrio è arrivato il momento di spezzarlo perché tante volte eh come dire il sindacato si è fatto portavoce di istanze intermedie proprio per eh eh riuscire a eh a mantenere... Scusa Matteo scusa vieni giù o meglio... Vengo giù vengo giù guarda... 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 Vengo greo mi faccia un cenno... Per adesso non vedo nessuna manina alzata... Un po' di coraggio che spezziamo... Il ghiaccio... Dice una cosa paolo Grassi... Sì, mi devo scusare ma nella foga ho dimenticato di leggere un compagno che ha sulla lista del coordinamento, che è il compagno Vincenzo Chianese dell'indotto Fiat di Napoli. Mi scuso col compagno e con tutta la platea perché nella foga di leggere la lista mi sono dimenticato il suo nome, che è il ventiduesimo. Grazie. Grazie a te che sta arrivando. Grazie a te. Anche perché abbiamo sempre sostenuto, anche nel documento congressuale presentato quello di opposizione, presentato all'ultimo congresso, che per noi è importantissima anche l'unità di lotta fra i lavoratori e gli studenti. Quindi io direi che è un ottimo inizio questo per iniziare una nuova fase all'interno del nostro sindacato. Dicevo prima, io confermo, sottoscrivo la relazione che ha fatto Paolo, i punti critici che ho sentito negli interventi del compagno Giove e della compagna Manuela sono il fatto di dover mantenere gli equilibri. Ma questi equilibri chi li vuole sostanzialmente? E voglio dire anche un'altra cosa, sarò molto breve perché voglio sentire gli interventi degli altri. Insomma, il punto fondamentale su cui abbiamo proposto questa roba qui è che ormai le parole vengono sorpassate dai fatti costantemente. Ci siamo trovati in una fase in cui non è stato il coronavirus a farci piombare addosso una crisi. La crisi c'era già, è stato un accelerante. È stato un accelerante soprattutto in questo paese dove, Paolo lo spiegava molto bene, la sanità pubblica e i diritti di base sono stati erosi completamente. Infatti non vogliamo ritornare a una sanità, passatemi il termine, misto privato, misto pubblico. Noi vogliamo una sanità totalmente pubblica e non per il motivo che ci paghiamo le tasse, che sarebbe uno dei motivi per scardinare questo nuovo impianto, ma proprio perché la sanità per noi è un principio ineludibile della classe operaia. Chi ha i soldi si paga la sua, si prende il suo dottore privato, il suo cerusico, se lo porta a casa, lo fa mangiare, altrimenti non ne usciamo fuori, non usciamo veramente fuori da questa situazione. Io direi che Paolo per limiti di tempo non ha spiegato quello che noi intendiamo all'interno della società, ma l'analisi che abbiamo fatto è che in questo momento particolare, più che in altri, i processi che sono comunque accelerati, hanno fatto vedere una svolta buonapartista di questo governo. Perché al di là della discussione che ci può essere, che poi molti di noi hanno visto le discussioni che ci stanno all'interno dei parlamenti borghesi, insomma sono abbastanza fasulle, però c'è stata un'accelerazione tale per cui molti dei diritti sanciti, anche dalla Costituzione, sono stati messi in discussione. Allora, partendo da quel punto, partendo dal fatto che a un certo punto, se arrivate alla conclusione che l'unica cosa che si poteva fare era lavorare, era andare a morire in fabbrica, perché è quello che sta succedendo ogni giorno, al di là del coronavirus che è un problema, ma la sicurezza sui posti di lavoro, quella è sempre stato un problema e forse qualcuno se l'è dimenticato. Il punto fondamentale è che noi dobbiamo rompere quel tipo di equilibrio che ci hanno imposto. Concludo dicendo una cosa, adesso al di là della solidarietà che possiamo esprimere alla nostra compagna Elena Como che ha fatto lo sciopero della fame, ma non è quello il modello di opposizione che noi intendiamo portare avanti in questa organizzazione, il modello è quello conflittuale e prendere esempio da tutte quelle realtà che si sono opposte a quello che è venuto avanti nell'ultimo periodo e portarlo avanti, al di là del legalitarismo strisciante, perché non mi si può venire a dire vabbè è illegale in questo momento fare un'assemblea, sì ho capito che è illegale fare in questo momento un'assemblea o sarebbe illegale anche fare un sciopero, ma se sono le uniche armi con cui possiamo discutere e con cui possiamo avere degli obiettivi in questo momento e se abbiamo i rapporti di forza e i lavoratori hanno dimostrato che per difendere la loro salute si sono messi in prima linea loro scavalcando anche le dirigenze sindacali, noi dobbiamo seguire quegli esempi e li dobbiamo seguire ogni giorno dobbiamo seguire ogni giorno e generalizzarli. Quando Paolo mi dice, e qui vorrei concludere il mio intervento, quando Paolo dice che nel momento in cui si arriverà a settembre probabilmente, ma neanche tanto, verranno prorogati i divieti di licenziamento, eccetera, è chiaro che noi quella roba lì la dobbiamo vedere sotto un'ottica di pressione della nostra classe, perché se arrivati a quel punto, però lo dobbiamo dire anche con franchezza ai lavoratori, dobbiamo dirgli che senza un'organizzazione generale quegli interventi rimangono solo scritti, solo scritti e non troveranno mai applicazione, non troveranno mai applicazione perché è un equilibrio che non può tenere più. L'ha dimostrato questo periodo, lo dimostrerà più avanti perché le condizioni economiche di questo sistema stanno completamente sgretolandosi, quell'equilibrio non esiste più, ce ne dobbiamo rendere conto, punto, basta. E dobbiamo, come dire, trovare un modo per esprimere queste prospettive anche all'interno della più grande organizzazione sindacale e politica, che è ancora viva in questo paese. Grazie, compagni. Allora, bene, grazie Matteo, che è stato breve. Allora, dopo Matteo abbiamo Federico Toscani, che è un educatore di Parma della funzione pubblica CGL. Dopo di lui si prepara Giuseppe Violante. Grazie. Buongiorno, compagni. Vi parlerò un po' di una cosa che osservo dal mio osservatorio che è quella delle cooperative, no? Perché c'è un denominatore comune che questo Covid ha fatto emergere, cioè che non c'è molta differenza fra pubblico e privato in quelle che sono le logiche aziendali e come viene intesa la tutela dei lavoratori e della sicurezza. oltre agli shopperi di marzo, di cui si diceva prima, forse è anche il motivo per cui magari sono anche stati sottovalutati e non visti nella loro portanza. Nel mio settore abbiamo assistito a shopperi bianchi, cioè è successa la stessa cosa, solo che non sono magari come gli shopperi che possono esserci in un'azienda dove i lavoratori oggettivamente si vedono. Ma io vi posso assicurare che gran parte dei servizi essenziali, come quelli di assistenza domiciliare, disabili o anziani, sono stati chiusi per il rifiuto coparvio di centinaia di lavoratori di andare al lavoro perché non c'erano i DPI, per esempio. E questi, diciamo, chiamavano i shopperi bianchi perché anche le organizzazioni sindacali non ne hanno saputo niente. Sono stati proprio i lavoratori stessi a rifiutarsi di andare e questo ha fatto successivamente bloccare dagli istituzioni, dai servizi sociali, i servizi. E' su questi denominatori comuni un po' che vorrei parlare perché è vero, le cooperative sono diverse, un settore parastatale, non ha rischio di impresa, ma ha la logica del profitto, la logica è esattamente quella che riguarda l'industria privata, sia sul piano appunto della sicurezza, in cui a oggi non ci sono di fatto investimenti. I colleghi che facevano i servizi domiciliari ci raccontavano che le cooperative invitavano ad andare a lavorare senza mascherine in casa di utenza, gente che ha 4-5 famiglie con disabili, su cui è anche difficile spiegare a un autistico grave la distanza di sicurezza o di non saltarti addosso. Idem nei servizi di assistenza domiciliare di persone anziane non autosufficienti, i famosi OSC che vanno a fare le lealzate, a girare gli utenti a casa, un servizio preziosissimo. Si scambiavano la mascherina queste lavoratrici, sono prevalentemente donne, per esempio. E la cooperativa diceva, non ne abbiamo, scambiatevele, igienizzatele come potete. I lavoratori delle cooperative sono abituati da anni che il profitto viene prima di tutto, non vi sto a raccontare come vengono redistribuiti gli utili nelle cooperative, come vengono gestite le assemblee dei soci, ma insomma, che nell'ambiente sa, se no vi lascio immaginare, assolutamente farsesco. Esattamente come nel privato, le cooperative vogliono aprire a tutti i costi, o volevano tenere aperto a tutti i costi. Adesso si pone il problema dei centri estivi, il problema che tutti voi sapete, chi ha famiglia, non stanno facendo nulla. Cioè, la legge magari c'è che dice, aumentare il distanziamento, aumentare il numero di lavoratori per bambino o per disabile, a seconda del tipo di centro estivo che c'è. Le cooperative non le rispettano, vogliono però che si vada ad aprire. Insomma, quello che io posso assistere e testimoniare, è che secondo me, appunto, come in altri settori, le lotte continueranno, ricapiteranno presto. Perché rispetto al passato, quando dopo una tempesta, come è accaduto adesso, la situazione si calma, come è apparentemente calma adesso, i lavoratori si rassegnavano. Questa volta io non vedo rassegnazione nei colleghi, nei comunicati, in quelle che sono le iniziative, ma vedo che continua la rabbia. È ancora lì, perché anche il nostro settore è un settore fra i meno pagati, più sfruttati, ci sono già tanti problemi a monte. Ma io vedo e assisto a, appunto, il permanere della rabbia per i problemi di prima, che non si sono mai risolti, i problemi di oggi, che ci sono, e il futuro, che è chiaro, che non sarà diverso. Allora, io credo che su questa cosa la CGL deve cambiare. La CGL, nel nostro settore, è prigioniera da anni, come in altri, ovviamente, ma qui è evidente di questa logica concertativa, perché da un lato le cooperative non fascino chissà perché, forse frutto della loro storia, in cui c'è l'autogoverno dei lavoratori, non lo so. Comunque vedono di buon occhio, in un certo senso, le relazioni con questi padroni. Che non chiamano così, infatti. Poi c'è anche in mezzo il dialogo con le istituzioni, che sono quelli che pagano. Quindi, insomma, la logica concertativa si spreca in questo settore. E la CGL ne è palesemente ostaggio e prigioniera, perché di fronte alle continue disattese di accordi che magari ci sono, le cooperative non firmano accordi che hanno promesso di firmare. Adesso non vi sto a parlare dei salari della Cassa Integrazione che non l'ha vista quasi nessuno. Ma di fronte a questi schiaffi che le centrali cooperative vedanno i lavoratori la risposta dei sindacati a inequivocabilmente i sindacati confederali dovete capire, è faticoso, non sappiamo che fare, gli accordi... E questo non è più il tempo. Cioè, soprattutto, in questi settori che questa crisi ha chiarito che sono settori essenziali in cui l'intelligenza e il know-how, si dice in inglese, le competenze dei lavoratori devono essere valorizzate. Perché, scusate, forse non l'ho premesso, ma vuol dire il settore delle cooperative, al di là delle cooperative di trasporti, logistica, che, vabbè, siamo cugini, le cooperative educative gestiscono dalla nascita alla morte, asili nidi, scuole, disabili, centri estivi, anziani, ospedali, i barillieri degli ospedali, cosa credete che siano, persone della sanità o gli operatori sociosanitari che fanno le alzate a letto, tutta gente delle cooperative. Noi gestiamo tutto il welfare, fondamentalmente. E chi meglio di questi lavoratori sa come cavolo bisogna gestire un centro estivo o un disabile in classe o che personale c'è bisogno in un ospedale o in un servizio domiciliare. E i sindacati devono saper rivolgersi nella fase che verrà. Questo protagonismo dei lavoratori è necessario perché i lavoratori sono stati protagonisti in questa fase e lo saranno ancora di più. Perché, ripeto, la rabbia non è soppita per fortuna e per forza. Quindi, quando noi parliamo di re-internalizzazione non è una parola d'ordine propagandista buona, bella che è dentro la nostra testa, ma è una proposta reale presente nella testa di decine di migliaia se non centinaia di migliaia di lavoratori. È uno dei settori più grandi e i sindacati devono solamente organizzare questi lavoratori, devono proprio riuscire a cambiare la loro mentalità. Non è più fase di concertazione, è fase di organizzare i lavoratori su una proposta chiara che è assolutamente alla portata e alla comprensione dei lavoratori. Perché, ripeto, l'hanno già fatto e lo stanno già facendo. Perché i lavoratori oggi hanno benissimo chiaro in testa cosa significa con le norme Covid fare un centro estivo e come invece glielo vogliono far fare. Allora, questo è il compito della CGL, io penso. I sindacati di base, per quello che vedo nella mia esperienza, che è molto egemonizzato dei sindacati di base, non sono capaci, non possono, o per litigi fra di loro, o perché hanno una poca massa critica e poi perché vedo che non sanno bene come organizzare i loro stessi lavoratori, spesso perché prevalgono logiche di competizione. Allora, a me stupiva lo stupore del compagno Giovo che non vede queste cose, basterebbe parlare ai lavoratori e organizzarli. Io sono sicuro che questa è la chiave di volta per quello che è. Mi auguro che la CGL si imbarchi in questa interessante avventura, noi ci saremo, noi queste cose le diciamo da anni, vogliamo costruire, lo costruiamo, continueremo a farlo. ma ripeto, la parola d'ordine è il protagonismo dei lavoratori in questi settori e la re-internalizzazione ripeto, è una parola d'ordine comprensibilissima e evidente che serva. Come diceva Matteo, siamo lavoratori ma siamo anche un servizio a favore dei lavoratori e assolutamente siamo dentro la classe lavoratrice. Grazie. Grazie. Grazie mille Federico che è stato abbondantemente nei dieci minuti. Ora chiamo a intervenire Giuseppe Violante che è un delegato della Maserati qui di Modena nonché del direttivo FIOM sempre di Modena lo conoscete tutti e dopo di lui si prepara Maurizio Muzzoli. Ciao a tutti. Allora discussione molto interessante. Allora io sarò anche molto breve perché mi sforzerò di abbracciare i punti proprio quelli più importanti che credo quelli che si debbano discutere maggiormente. Allora partiamo ad un dato ci troviamo di fronte a una situazione veramente diversa difficile e sicuramente quando si parla di crisi diciamo crisi economica sociale ecco credo che sia abbia un aspetto abbia delle differenze rispetto diciamo a quella ultima del 2008. È chiaro che quello che stanno cercando di fare come sempre cercano di fare quando c'è una crisi nel sistema economico si dà la colpa a qualcosa di esterno no? ma poi è chiaro che a conti fatti facendo un'analisi seria sappiamo benissimo che le crisi economiche sono cicliche e fanno parte appunto di questo sistema capitalistico e cosa succede ogni qua volta che credo succederà anche nel prossimo diciamo autunno cioè nel senso che la cazza patronale cercherà di fare di tutto perché non 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 ci sia una rottura sociale nel vero senso del termine e che quando appunto ci sono queste crisi come dire si cerca appunto di elargire il più possibile denaro nei mercati per far sì che appunto per fare un po' la quadra per farli donare un po' i conti ma sostanzialmente noi adesso ci troviamo di fronte a una situazione che le contraddizioni quando si accumulano nel sistema capitalistico ora effettivamente ci troviamo di fronte a una contraddizione che è difficile da gestire cioè diceva anche nelle relazioni dell'ottiva Paolo e qui si fa veramente fatica a gestire da parte della classe patronale questo tipo di contraddizione che comunque è molto molto particolare e molto complessa e quindi è chiaro che è una crisi che trasversalmente prende qualsiasi tipo di settore io che lavoro nel settore dell'auto sono delegato della Maserati ecco se noi prendiamo il settore dell'auto è una crisi veramente difficile adesso da gestire perché ci sono tre punti da comunque gestire adesso c'è sicuramente un problema di aumento di ore di cassa integrazione che il cui utilizzo persiste già da diversi anni e che il covid questa diciamo situazione emergenziale ha esasperato ancora di più ma c'è il crollo delle vendite perché comunque sul bilancio familiare la prima cosa che si va a tagliare è la spesa dell'auto sostanzialmente quando c'è come dire una crisi a livello familiare una crisi economica a livello familiare ma poi e qui poi insomma dirò anche qualcosa in più rispetto che abbiamo avuto dei coordinamenti FCA con Michele De Palme responsabile dell'automotive FIOM dove comunque si cerca anche da parte della FIOM di puntare molto sull'elettrico ma anche sulla questione dell'elettrico è molto si è molto irritato cioè è molto difficile che si comunque si riesca ad inserire come dire diciamo un confronto e anche di costruire un qualcosa su questo elemento cioè praticamente tutto il settore dell'auto veramente è in crisi dopodiché è anche vero che diciamo così attualmente le fabbriche diciamo le fabbriche FCA diciamo dove lavoro io anche sono fabbriche svuotate svuotate perché come dicevo prima per l'utilizzo eccessivo degli ammottitori sociali ed è qui è vero che tu per fare un lavoro di costruzione fai veramente diciamo così un lavoro estenuante però questo era un elemento che ti pesava molto fino a pochi anni fa adesso è molto diciamo perché diciamo contestualmente la situazione è così diciamo drastica che anche se le fabbriche adesso sono svuotate noi delegati FIOM non siamo presenti continuamente nei luoghi di lavoro adesso facciamo meno fatica a comunque a sensibilizzare i lavoratori su questo aspetto qua perché effettivamente siamo di fronte a una situazione di crisi dell'auto che è veramente emblematica e io credo credo e non a caso la FIOM sta facendo diversi incontri istituzionali su sta roba qua perché si sta avendo veramente una situazione che potrebbe essere imminente nel prossimo subito nel prossimo periodo perché il limite di utilizzo di ore di cassa integrazione è veramente arrivato agli sgoccioli io parlo della Maserati qui poi subito chiudo da parentesi noi siamo da 5 anni il contratto di solidarietà tra contratto di solidarietà cassa indicazione e quant'altro ecco noi siamo arrivati che entro l'anno prossimo sto parlando proprio di esempi concreti compagni entro l'anno prossimo febbraio marzo dell'anno prossimo noi abbiamo esavorito tutto il serbatoio di ammortizzatori sociali punto di domanda è facile immaginarsi cosa succederà dopo quella soglia eh sì perché lì con tutto come dicevo prima con tutto quello che oseranno fare i padroni con l'ingenti quantità di denaro messi sul mercato con il mess eccetera eccetera qui ti trovi di fronte a una situazione che è all'estremo ok quindi parliamo di dati concreti quindi partiamo da condizioni oggettive bene ora è chiaro che io critico molto anche quello che la FIOM la mia organizzazione eh nei metri americanici sta facendo adesso come nel settore dell'auto perché bisogna comunque smetterla di continuare sulla strada dei protocolli sulla strada dei documenti è stato comunque mandato in via eh telematica un documento che si parla abbracciamo accompagniamo il cambiamento documento della FIOM cioè allora di quale cambiamento stiamo parlando qua allora io ho detto anche Michele De Palma in un condimento FCA ci tengo a ribadirlo non condivido questo documento bisogna smetterlo appunto con il sindacato dei protocolli dei documenti l'unico documento che potrò condividere in questo momento in poi in avanti è accompagnare lo stravolgimento perché non ci sono diciamo mezze parole cioè e non è e non è diciamo il fatto di arrivare a un punto di parlare per slogan o per spot perché sono dati oggettivi sono partito dal settore dell'auto che è così e poi se andiamo a analizzare altri settori in cui i compagni poi delucideranno qual è appunto la situazione anche lì difficile si capirà ancora di più quindi noi e qui vado verso le conclusioni come ci inseriamo in questo percorso come ci inseriamo di fronte a questa a questi dati oggettivi a questa situazione oggettiva bene qui è anche un po' il senso diciamo come dire l'analisi che noi abbracciamo riguardo appunto l'uscire dall'area di cui abbiamo fatto parte finora di costruirne un'altra proprio perché abbiamo di fronte una situazione prossima potremmo avere una situazione prossima veramente difficile e complessa da gestire compagni lo dico perché io in questo ci credo fortemente perché proprio perché faccio il delegato in fabbrica da tanti anni mi rendo conto mi rendo conto che ci sono situazioni oggettive da cui non puoi prescindere se non si arriva appunto di iniziare a utilizzare delle parole d'ordine forti come appunto nazionalizzare sotto il controllo dei lavoratori le grandi aziende che sono in crisi parliamo dell'Exilva parliamo di FCA cioè di fronte all'Exilva dove la Morsella amministratrice delegata dice io non voglio rispettare gli accordi un sindacato come la CGL barra FIOM quale punto di vista si si mette davanti rispetto a una situazione del genere se la Morsella non vuole rispettare gli accordi qual è l'alternativa perché non vuole rispettare gli accordi sì ma deve rispettare gli accordi dall'altra parte c'è Maurizio Rendini che dice in televisione sì ma se non le vuole rispettare il giornalista gli chiede bene questo è emblematico e poi il nodo del contente su cui dobbiamo discutere cioè io lavoro da 25 anni in Fiat ok io credo fortemente che le fabbriche le officine possono funzionare esclusivamente con l'intelligenza dei lavoratori degli operai degli impiegati dei tecnici cioè i padroni non servono a niente allora perché non iniziamo aprire una discussione con questa roba qua perché non iniziamo ad allargare i nostri orizzonti e quando un operaio mi ha posto il problema l'operaio stesso uno degli operai mi ha posto ma tu credi in questa roba sai perché non ci credo negli operai di questa roba qua perché non si è mai discusso con gli operai di questa roba ecco perché allora bisogna che noi iniziamo a parlare di questa roba qua siamo a aprire la discussione su queste cose per questo vengo poi subito alle conclusioni ecco anche il senso di uscire da quest'area perché dobbiamo iniziare proprio perché abbiamo in prospettiva qualcosa di molto importante che potrebbe succedere dobbiamo alzare il livello dell'analisi e della discussione e qui chiudo veramente dicendo una cosa dobbiamo anche smettere di indicare o puntare il dito la CCL non fa la CCL fa questo non ha fatto parliamo ai lavoratori iniziamo a parlare ai lavoratori e ai delegati che è un'altra materia un po' ostica quella là iniziamo a parlare alla platea dei lavoratori perché è lì che dobbiamo costruire è lì che dobbiamo alzare il livello di analisi della discussione perché è da quel punto là che dobbiamo partire perché quello che ci aspetta davanti ripeto è molto importante e se non partiamo adesso ce lo ritroveremo di fronte che ci potrà travolgere a tutti e poi lì veramente dobbiamo iniziare a fare qualcosa e quindi perché non iniziare prima ad alterzarci prima bene grazie Peppe allora adesso chiamo qui a intervenire Maurizio Muzzoli delegato FISAC di Modena e anche membro dell'Assemblea Generale di Modena dopo di lui si prepara Domenico Loffredo grazie allora grazie per ascoltare già dall'inizio perché non sono molto capace nel 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 l'elocchio diciamo come come i miei predecessori di quelli che mi hanno preceduto perché in questi anni secondo me si è persa anche l'abitudine a far intervenire le persone sugli argomenti in ogni caso quello che volevo portare l'attenzione di tutti era che il problema del Covid non è non è esploso per caso il problema del Covid viene da una mia ricerca della massimizzazione dei profitti in tutti i contesti nazionali e internazionali quello che è successo è che abbiamo lasciato obiettivi importanti che non erano quelli della nostra gente dei popoli ma abbiamo cercato di seguire una politica neoliberista che non ha fatto altro che depauperare quelli che sono che erano gli strumenti dei lavoratori in funzione di uno scambio di salario senza pensare che per produrre questo salario abbiamo distrutto stiamo distruggendo l'economia non l'economia scusa l'ecologia di un mondo perché il fatto stesso di aver seguito questi obiettivi neoliberisti ha fatto sì che si inducessero delle delle esigenze nei lavoratori che non sono proprio del lavoratore non sono stati fatti dei piani e non c'è una visione che abbia un senso concreto con quelle che sono le esigenze dei lavoratori si è semplicemente inseguito un modello di ottimizzazione del profitto spingendo i lavoratori a depauperare quello che è il loro vero patrimonio che è la natura adesso io poi non vorrei perché giustamente ha detto chi mi ha preceduto non dobbiamo andare per slogan io invece spero che gli slogan che spesso si sentono e abbiamo cercato di trovare in questi anni finalmente vengano perseguiti cioè l'esigenza di mantenere una concretezza con le soluzioni dei problemi e non cercare sempre delle mediazioni abbiamo visto i disastri che ci ha portato a accettare compromessi aspettare sempre una seconda fase che non è mai arrivata quando ci sono le emergenze c'è chi ne approfitta abbiamo visto benissimo che è come andare in guerra nel momento in cui esplode la guerra e tu non hai gli strumenti per contrastare le emergenze e chi ha la forza e chi ha il potere diciamo ti toglie ti toglie anche le libertà che pensavamo essere più naturali abbiamo accettato di perdere la democrazia in funzione di risolvere velocemente situazioni che non dovevano essere di emergenza che dovevano essere programmate su cui dovevano essere state fatte anche delle richieste da parte dei sindacati perché la sicurezza sul mondo del lavoro non è una questione di emergenza è una questione come ricordava anche Paolo di ogni giorno c'è una quotidianità che vede morti sul lavoro e quindi vuol dire che se noi fossimo stati attenti su tante vicende probabilmente ci saremmo trovati un'industria più pronta a risolvere anche situazioni di questo tipo non dico che andasse accettato il fatto di rimanere al lavoro però avremmo avuto la possibilità di gestire anche meglio queste esigenze contingenti solo cambiando l'ordine delle cose quindi e che anche quindi nelle singole vertenze dovremo andare a cercare la sicurezza e un lavoro che sia ben ritribuito e rispettoso dell'ambiente a livello mondiale io a me viene da dire tutto tutto quello che è stato fatto il lockdown mondiale alla fine è qualcosa che avremmo se avessimo un attimo di attenzione al futuro avremmo dovuto farlo indipendentemente da un coronavirus o da qualche altro accidente che ci dovesse capitare perché è lì che dobbiamo agire dobbiamo smettere di sfruttare le risorse meramente per fini lucrosi dobbiamo gestire l'ambiente perché è il nostro futuro è il futuro dei nostri figli quindi mi auguro che essere diciamo minoranza ci permetta una minoranza che possa essere rappresentativa ci permetta di trasformare quelli che possono sembrare degli slogan in qualcosa veramente di concreto quindi secondo me una situazione potrebbe essere quella adesso andremo sicuramente incontro a problematiche serie di carenza di posti di lavoro quella di ridurre anche drasticamente l'orario di lavoro a parità di salario accettare una dobbiamo pensare accettare una riconversione seria della produzione rispettosa delle esigenze della gente e dell'ambiente quindi io vengo dal settore del settore bancario dell'alta finanza dovremmo fare in modo anche nei singoli contratti aziendali che le nostre aziende finanziarie riescano a spingere dei modelli di credito per un'industria etica che abbia una capacità di attenzione all'ambiente e alle persone sono tutte cose che spero di vedere realizzate non ultimo il fatto che ci troviamo non soli in questi contesti ci troviamo come gente come popolo come lavoratori uniti a tutto il resto del mondo perché in questo caso qua è proprio palese che le esigenze che abbiamo noi come lavoratori italiani sono esattamente quelle che hanno i lavoratori nelle altre aree del mondo abbiamo gli stessi problemi ci rendiamo conto e dobbiamo renderci conto che non dobbiamo diventare competitivi noi a discapito di altre regioni anche solo di Europa non dobbiamo accettare il dumping sul lavoro il dumping salariale dobbiamo cercare di organizzare un contesto sindacale che tenga conto ribadisco dell'ambiente e delle esigenze dei popoli chiedo scusa per l'intervento grazie mille Maurizio non ti devi scusare anzi ti ringraziamo noi per l'intervento ora chiama a parlare appunto Domenico Loffredo delegato FCA di Pomigliano dopo di lui si prepara Angelo Raimondi io ho ascoltato molto piacevolmente la relazione di di Paolo pure perché negli ambiti e negli ambienti sindacali molto spesso le relazioni non perché pecchino di capacità ma molto spesso per volontà diciamo le relazioni che vengono fatte in alcuni contesti sono relazioni che omettono molto spesso quella che la condizione dei lavoratori intesa proprio come sentimento non come condizione materiale quella più volte diciamo viene utilizzata ma viene utilizzata anche per per dire altro rispetto a quello che invece è stato detto nella relazione di Paolo cioè il punto di partenza è che a marzo oggettivamente i lavoratori hanno risposto e hanno risposto molto spesso in maniera autonoma il sindacato ha rincorso i lavoratori che è una cosa che accade è giusto che accada e però nel momento in cui poi tu capisci che c'è una situazione del genere dovresti come dire indirizzarla in un certo modo e non governare quel movimento per frenarlo questo è il punto la FCA di Pomigliano veniva citata come una delle prime fabbriche io vengo da lì una delle prime fabbriche che insomma ha fatto sciopero su questa questione io non so se sia stata la prima se sia stata la seconda o la terza non ha molta importanza ha importanza che una fabbrica e in particolare un reparto come quello del montaggio un reparto che dal 2008 da quando è successa la crisi decide autonomamente senza chiamare i sindacati di fermarsi ti dà l'idea di che cos'era questa situazione che si era venuta a creare nelle fabbriche guardate far fare sciopero nella mia azienda è molto complicato la mia azienda per modo di dire ovviamente perché c'è stata una cogestione non fatta dalla FIOM l'ha detto ma fatta dagli altri sindacati quindi io ho vissuto che cos'è la cogestione la vivo tutt'oggi che cos'è la cogestione perché il caro segretario Bentivoglio oggi dimissionario ne ha fatto una bandiera cioè portiamo avanti le esigenze aziendali cerchiamo ogni tanto di farle misurare anche con quello che sono le condizioni dei lavoratori ma fondamentalmente facciamo fare più soldi ai padroni questa è stata la cogestione a Pomigliano una cogestione che poi si è tramutata in perdita di diritti in condizioni peggiorate enormemente e oggi insomma con lavoratori timorosi perché non sanno più cosa vuol dire fare contrasto fare sciopero però se poi ti ci metti e ti metti a fare un lavoro paziente e questa è una cosa che io molto spesso dico anche ai miei compagni del sindacato di Pomigliano cioè guardate lì siamo stati azzerati da un punto di vista degli iscritti siamo ricresciuti certo la crescita delle tessere viene fatta anche in una gestione quella come dire quotidiana nell'azienda è ovvio che c'è anche quello ma io credo che l'elemento fondamentale era il fatto che tu potessi fare ancora conflitto nei punti chiave dell'azienda ed è quello che ha dato la possibilità pian piano ai lavoratori di capire che ok parlo con i sindacati firmatari Fim, Wilm e Fismic gli pongo il problema non lo risolvono vado dalla FIOM c'è un'alternativa e quindi oggi alla luce di quello che è accaduto durante il lockdown alla luce di quello che abbiamo vissuto a Pommigliano negli anni parlare di congestione oggi in FCA è un qualcosa che oggettivamente è come se tu non hai voluto guardare gli ultimi anni in quelle fabbriche non hai voluto vedere cosa è accaduto in quelle fabbriche negli ultimi anni e poi ci sono altri elementi si parlava di questioni economiche di crisi allora che ci sia stato il covid e che sia stata un'accelerazione come veniva detto sicuramente da questo pulpito da qualcuno prima di me è ovviamente vero cioè il covid ha semplicemente accelerato un processo io vi parlo di una fabbrica che dal 2010 da quando è stata allocata la panda non ha fatto un giorno senza cassa integrazione un giorno senza cassa integrazione in quella fabbrica non c'è stato chiaro che il lockdown è stato proprio l'azzeramento totale in quei mesi siamo stati completamente fermi però poi vedo che si quindi noi firmiamo un protocollo rientriamo in un'azienda attraverso il protocollo firmato abbiamo degli strumenti ovviamente utili per poter giocarci la nostra partita e rientrare a parlare di sicurezza nel mondo del lavoro in quell'azienda e però c'è un limite quando poi si pongono le questioni fondamentali e cioè la ripartenza produttiva la ripartenza produttiva a pieno regime gli si viene posta chiaramente all'azienda la volontà di partire gradualmente perché ovviamente ci sono i distanziamenti le mascherine il caldo si dice vabbè non partiamo come avevamo chiuso non partiamo a 4,60 che è il numero di vetture che viene fatto in un turno partiamo a 3,20 cioè riduciamo come dire e l'azienda ti risponde molto ma a me non conviene io vi faccio stare a casa a cassa integrazione perché oggi la parola chiave è il just in time insieme agli ammortizzatori sociali che fanno proprio la gioia degli azionisti in questo periodo perché io quando mi serve il lavoro ti faccio un culattarallo scusate il termine quando non mi serve il lavoro io ti mando a casa pagato da qualcun altro e cosa ci vuole di più per capire che questo è uno strumento che ad oggi è vero che è una nostra tutela ma è anche vero che alla fine viene utilizzato dai padroni e quindi per me nel momento in cui tu hai firmato un protocollo e devi andare a discutere con l'azienda di come ripartire durante questa fase secondo me devi ripartire dicendo e imponendo il fatto che non puoi ripartire a 4,60 perché era sbagliato prima per i ritmi infernali che sono ed è ancora più sbagliato oggi e invece tu lì pieghi la testa e vai avanti e allora questi protocolli ci sono serviti semplicemente per sederci ai tavoli o per portare un punto di vista differente perché per me il punto di vista differente viene a mancare e vi dirò una cosa che poi la questione generale vado a chiudere su quello in tutto questo periodo il sindacato ha ripetuto continuamente che le leggi le chiusure delle aziende le facevano i governi e le aziende scusate il sindacato cosa fa prende atto e allora perché non abbiamo preso anzi in verità abbiamo preso atto di tante leggi sbagliate negli ultimi decenni però se quello è il ruolo del sindacato cioè il ruolo del sindacato quindi oggi è tu leggiferi l'azienda decide e io dico ok i lavoratori hanno deciso questo scusate qual è il ruolo del sindacato ancora oggi ad esempio tutta la FCA nonostante tutta la cassa integrazione che sta facendo chiederà ai lavoratori di lavorare ad agosto infatti la stragrande maggioranza degli stabilimenti chiuderà dal 9 al 23 solo le due settimane centrali con il caldo infernale e le mascherine e con i ritmi che erano quelli di prima allora io mi chiedo perché non poter dire all'azienda guarda che tu ad agosto devi garantire la possibilità a questi lavoratori di poter viversi un poco più serenamente quel periodo perché non puoi anticipare le fere perché non posso contrattare queste questioni che per me sono fondamentali per i lavoratori perché stare a casa un paio di mesi non vuol dire che ho fatto le vacanze io sono stato chiuso in casa e quindi il problema è ad oggi il ruolo del sindacato qual è quello di dire ha deciso l'azienda e ha deciso il governo perché questa è la risposta che mi stanno dato vabbè c'è il mercato non tira c'è un problema quindi si fanno solo le due settimane perché probabilmente si potrebbe recuperare un po' di lavoro ma scusate ma il ruolo del sindacato è quello di tutelare i diritti e le esigenze dei lavoratori e allora per me non si può più continuare ad ascoltare questa tiritera che viene rimandata continuamente in loop da parte dei dirigenti ma anche di alcuni delegati che seguono quello che viene tutelato dai dirigenti basta dire che decide qualcun altro a decidere devono essere i lavoratori a decidere devono essere i lavoratori su quante vetture si fanno al giorno perché io non posso stare dieci giorni in cassa e poi fare dieci giorni di inferno io non posso fare dei turni e del come dire non poter decidere di come e di cosa andare a produrre nel 2008 noi dicevamo alcuni compagni qui presenti già dicevano che bisognava andare sull'elettrico nel 2008 oggi sembra bisogna farlo bisogna farlo bisognava farlo nel 2008 e l'azienda non aveva nessun interesse semplicemente perché non c'era un profitto mettiamoci bene in testa che se non c'è profitto le aziende non fanno nessun tipo di cambiamento e invece il nostro punto di vista deve essere i cambiamenti si fanno a prescindere perché noi vogliamo tutelare la salute la tutela dei lavoratori in fabbrica e dei cittadini all'esterno e dell'intero popolo all'esterno per cambiare una società questo deve essere il punto di vista di un sindacato che vuole fare qualcosa realmente di straordinario per cambiare la situazione che noi stiamo affrontando grazie grazie mille Mimmo ora chiamo a parlare Angelo Raimondi del delegato S. Lunga Filcams di Ticino Olona dopo di lui si prepara Andrea Kenic di Trieste ciao compagni e compagni devo dire che l'intervento di Mimmo è già stato un po' esaustivo di tutto il discorso va a completare quella che è stata la relazione introduttiva cercherò di portare solo a qualche esempio per il settore che ho lavorato ovviamente parlando vivo che è quella della grande distribuzione alimentare durante il il covid soprattutto nel mese di marzo ma non solo tolti i sanitari cioè chi lavorava direttamente in ospedale e Paolo nella relazione ha fatto bene a ricordare che non sono solo medici e infermieri ma c'è tutto un indotto che lavora all'interno dell'ospedale che normalmente ci si dimentica di questi di questi lavoratori però dicevo per quello che riguarda la gran distribuzione alimentare beh insomma era un po' il secondo gradino degli eroi perché quelli che andavano al lavoro e davano da mangiare alle persone che poi stavano in fila code interminabili eccetera eccetera però pronti via come è cambiato un po' il vento anche di questi quasi eroici si è dimenticati perché se qualcuno ricorda Carrefour ha cominciato subito a mettere 4.000 lavoratori in cassa integrazione tra Lombardia e Piemonte Conad dopo aver fatto l'acquisto di Ocean ed essere diventato il gruppo più grosso in Italia ha cominciato con i licenziamenti poi mascherati con buone uscite eccetera 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 e all'interno della grande distribuzione durante questo periodo per avere quel minimo che aspettava di protezioni individuali si è dovuto lottare e non poco perché tu dovevi andare al lavoro però la mascherina si poteva gli inizi poi dopo il cliente si spaventa paura non viene a fare la spesa tu devi lavorare lo stesso ma sì ma perché metti i pannelli per proteggere la cassiera ma poi il cliente cosa pensa cioè il disco era sempre lo stesso dall'altra parte da parte sindacale inteso proprio come organizzazione in questo caso parlo della FICAMS la cosa che più si sentiva era il vuoto il silenzio totale del gruppo dirigente a livello territoriale parlo perlomeno del territorio dove io lavoro così come quello regionale non avevi nessun tipo di indicazione poi chi come noi ha degli strumenti perché si auto organizza comunque tu vai avanti e le cose le fai chi questi strumenti non ce li ha di delegati così ce ne sono tanti erano completamente in balia degli eventi praticamente se avevano meno incapacità personali forse qualcosina riuscivano a combinare altrimenti sono stati travolti dagli eventi e aziende come Selunga che nel settore è una delle più grosse e anche delle più agguerrite quindi venivi asfaltato senza batterci se si può dire nel frattempo è quello dell'amministratore delegato di Selunga che durante il covid ha imparato a fare i video messaggi in maniera fantoziana e se qualcuno dovesse avere l'occasione di vederli capisce che cosa voglio dire perché parla proprio dall'alto del pulpito ai propri sudditi e perché questo qua è un po' il modo di fare all'inizio tutti tranquilli va tutto bene siamo i numeri uni perché ha lavorato tanti anni negli Stati Uniti e ha questo accento un po' americano e dopo che nell'ultimo video messaggio ci ha comunicato cosa che noi avevamo preventivato più di un anno fa che insomma il covid ci ha dato questa spinta e qual è la spinta? La spinta è la spinta alla vendita online quindi cosa che già Selunga faceva nel settore tra quelle più organizzate adesso ogni negozio si sta attrezzando ma si è attrezzata nel giro di un mese e tu l'organizzazione la vedi lì al momento perché poi anche quei delegati che fanno parte del comitato di crisi del covid-19 non ti fanno arrivare nessuna notizia un giorno ti trovi lì persone che ti smontano e ti rimontano i magazzini e tu hai capito che parte la vendita online nel tuo negozio perché così è stato spazio sicurezza non frega niente deve partire la vendita online perché non devo perdere tempo ovviamente queste cose sono fatte attraverso cooperative esterne con tutto quello che ne consegue e che conosciamo molto bene quindi in ogni momento l'azienda ha dimostrato di sapere trarre il massimo dei profitti noi inteso come CGL come Filcans invece siamo stati fermi al palo ad aspettare che altri decidessero e poi magari provare a dire qualcosa ma proprio sottovoce nel negozio dove lavoro quando abbiamo organizzato lo sciopero i dirigenti territoriali insomma se avessero potuto picchiarci l'avrebbero fatta insomma perché andavamo un po' a rompere le uova nel paniere da questo punto di vista perché non si deve non si deve muovere non si deve muovere niente e prima Violanti diceva facendo ragionamento di carattere generale che noi dobbiamo alzare il tiro ed ha perfettamente ragione ed ha perfettamente ragione anche nel dire che in questo momento magari c'è un po' più di attenzione da parte dei lavoratori e di altri delegati ma va aggiunto credo anche che non è una decisione che prendiamo una scelta che facciamo così in maniera soggettiva perché sembrava un bel momento era molto figo se non c'è stato il covid allora lo facciamo no perché sono proprio le condizioni concrete che ti impongono che questo è il momento perché il quadronato ti attacca in maniera affrontale e forte il più grande sindacato italiano e credo anche europeo è completamente immobile e come ha spiegato Brini nella relazione anche la minoranza interna a questo sindacato è assolutamente immobile ma siccome il vuoto ci hanno spiegato che nella vita così come in politica non esiste qualcuno quel vuoto lo occupa ed è per questo che ci stiamo mettendo in gioco per occupare quel vuoto perché non possiamo che qualcun altro si faccia avanti e prenda quello spazio non possiamo accettare che Grandini in qualità di segretario generale sia completamente prono ai diktat di confiindustria nella maniera più assoluta sperare in questo governo che non capisco che cosa ci sia da sperare le sono spiegate molto bene che siamo a rischio povertà come classe lavoratrice ma anche qua non è uno slogan non è una frase anzi sarebbe quasi quasi preferibile in un certo senso ma sono proprio i dati i numeri che ce lo dicono e quando a fine agosto i padroni potranno licenziare licenziaranno senza nessuna pietà poi sarà questo l'autunno caldo non sarà questo l'autunno caldo credo che da punti di vista ci interessa poco noi dobbiamo prepararci dobbiamo attrezzarci dobbiamo prepararci politicamente dobbiamo organizzarci e chiudo con una piccola battuta perché lo slogan diceva che i proletari non hanno niente da perdere tranne che le loro catene aggiungiamo che invece i borghesi non hanno nulla da perdere tranne che le loro ricchezze e noi dobbiamo spogliarli delle loro ricchezze allora grazie mille Angelo chiamo a parlare Andrea Kenic di Trieste col center SLC dopo di lui si prepara Davide Bacchelli Allora buongiorno a tutti io sono Andrea Kenis da Trieste sono uno studente laboratore ne ho iscritto all'SLC di Trieste e quindi diciamo che faccio parte di quella fetta di cui si parlava prima nell'introduzione di Palobrini del parlare all'esterno del sindacato ovvero ai lavoratori ai giovani eccetera per riprendere credibilità e ovviamente la crisi ha colpito anche questo settore qui nel momento in cui praticamente abbiamo avuto anche una situazione un po' fortunata perché c'è stato praticamente il blocco del lavoro e una riorganizzazione per lo smart working che ha comportato tutta una serie di problemi anche se tutti gli interventi precedenti erano comunque di lavoratori che hanno continuato a lavorare che non avevano la possibilità di riprendere lo smart working ma va anche ricordato questa cosa qui che immagino che poi ci saranno anche interventi di lavoratori ad esempio dell'istruzione eccetera eccetera che ha comportato tutta una serie di problematiche e in alcuni casi anche ha maggiore carico di lavoro rispetto al lavoro in loco in ufficio perché ovviamente va ad assottigliarsi quel confine che c'è tra il lavoro e la vita a casa e in questo senso qui ok diciamo che io sono un signor nessuno quindi probabilmente dirò un sacco di cazzate durante questo intervento però almeno spero di dire qualcosa di utile e di giusto e si parlava molto degli equilibri del mantenimento degli equilibri la mia domanda è quali equilibri perché se andiamo a vedere ancora prima dell'esplosione della pandemia già novembre dicembre 2019 e c'era si stava già facendo sentire la la crisi economica e tanto che c'è la famosa Bridgewater una holding che novembre 2019 scommetteva 14 miliardi sul crollo dei mercati entro aprile e ad esempio a Trieste c'erano già delle situazioni molto particolari nel senso in cui c'era una cartiera della provincia la Burgo che stava chiudendo c'erano degli licenziamenti alla Varsila dei Trieste ex grandi motori che hanno coinvolto il 6% del personale quindi su una fabbrica che impiega circa 1200 lavoratori tra diretti e indotto si parlava di inizio di un centinaio di licenziamenti che poi hanno continuato perché hanno continuato e questo era solo un anno fa quindi era praticamente primavera 2019 perché poi sono continuati a questo inverno scorso e continuano tuttora e d'altra parte c'era anche la famosa questione della perriera di Trieste che è famosa come l'ILBA di Trieste che è praticamente un'acciaieria in pieno centro città e lì soprattutto si è visto ancora prima la dicotomia tra salute e lavoro dove ci sono 500 lavoratori impiegati in questa acciaieria che continuano a produrre inquinando l'area di Trieste ammazzando lavoratori e tutta la gente che ci vive vicino perché ovviamente ci sono un po' il viscolo ma penso che sapremo tutti le storie dell'ILBA e che adesso viene chiusa con il proprietario Arvedi che chiede fondi pubblici per significare i terreni per poi vendere i terreni ovviamente con profitti privati la solita cosa della socializzazione delle perdite e la privatizzazione dei profitti per il porto e dopodiché diciamo che un'altra esperienza il punto è che tutta questa crisi qui non è qualcosa di sì è nuovo perché è una crisi che sta avvenendo nel bel mezzo di una pandemia ma come hanno già ricordato altre persone altri lavoratori che hanno intervenuto abbiamo già vissuto una grossa crisi a livello mondiale che è quella del 2008 e durante questa crisi diciamo che sono stati anche utilizzati i vari fondi comunitari salvastati il quantitativo easing eccetera eccetera che hanno serviti a poco a nulla se non a mitigare gli effetti della crisi ma quello che ne è derivato è stata un'austerità lacrime e sangue che è stata un'austerità imposta dall'alto perché dove ci sono stati dei tentativi di e qui ovviamente faccio riferimento non so al discorso della cogestione del collaborazionismo che non c'è perché l'esempio più palese è quello dell'esempio greco dei lavoratori greci che con il governo Tsipras hanno lanciato il referendum per il rifiuto dell'imposizione delle misure di austerità vinto con il 63% e no 61% con l'affluenza del 62,5% che il governo Tsipras l'ha presentato alla Troica non al Parlamento Europeo perché ovviamente il Parlamento Europeo prende decisioni ma su cose evidentemente irrelevanti chi comanda è la Troica ovvero la BCL il Fondamentale Internazionale la Commissione Europea e loro ok non vorrei essere non sarò volgare ma diciamo che hanno preso ci hanno fatto un aeroplanino l'hanno lanciato fuori dalla finestra e ha detto adesso vi attaccate vi prendete tutta l'austorità che e comunque non è servita nulla soprattutto anche i salvataggi perché la disoccupazione è comunque aumentata il debito è comunque aumentato e quindi diciamo che il quantità di easing e questo genere di music ha ben che fallito e dall'altra parte è anche comodo ad esempio sventolare il capo espiatorio del berlusconismo o magari anche dell'edizionismo perché ricordo che io ho 25 anni quindi sono della classe 1995 e praticamente da quando sono nato sono sempre stato e solo testimone di un peggioramento delle condizioni di lavoro del welfare e soprattutto delle prospettive di futuro dei giovani perché ok ci sono stati dettagli durante il berlusconismo e questo va detto ad esempio non so palese era anche la riforma della scuola della Genmini nel 2008 che aveva comportato anche il movimento dell'onda ma poi le riforme e i prevenimenti tagli al welfare eccetera eccetera sono stati portati avanti da governi di qualsiasi colore di qualsiasi bandiera al massimo sì con qualche piccola concessione qualche contentino però in linea di massima la linea era quella e e quindi ad esempio anche non so ad esempio non so un altro capo respiratorio potrebbe essere non so il renzianesimo però ad esempio cioè il PD dopo che siamo andati a Renzi non mi sembra che abbia cambiato radicalmente linea anzi e infine tornando sul discorso appunto del parlare di riprendere credibilità all'interno del sindacato penso che sia importante appunto come diceva Paolo che bisogna saper parlare ai giovani che si approcciano al mondo del lavoro agli studenti eccetera eccetera e c'è c'è rabbia che monta all'interno delle scuole delle università e non solo tra studenti ma tra studenti insegnanti educatori il personale e l'hanno già dimostrato perché se ci ricordiamo prima della pandemia quanto tempo ok vado veloce scusate perché già prima della pandemia avevano dimostrato la loro forza ad esempio con le manifestazioni di Price for Future che hanno avuto un eco internazionale in cui migliaia di giovani scendevano in piazza per protestare per cercare di fare qualcosa per l'ambiente però ovviamente era un movimento che non aveva come dire una direzione chiara era cioè nel senso scendevano protestavano ma non sapevano come saper ottenere cioè come riuscire ad ottenere le cose come saper mettere repressione e in questo senso qui penso che questa nuova area sindacale che stiamo per lanciare ha credibilità ha come dire ha qualcosa da offrire ai lavoratori per la difesa delle loro condizioni e il miglioramento delle condizioni del lavoro ma soprattutto ha qualcosa da offrire ai giovani per il loro futuro perché per il momento abbiamo solo visto una distruzione delle condizioni e delle nostre prospettive soprattutto ad esempio non so l'ultimo esempio palese che tiro fuori è ad esempio l'Inai che a malapena non riesce nemmeno a pagare le case integrazioni e noi dovremmo aspettarci di avere una pensione tra chissà quanto grazie e buona discussione grazie Andrea adesso c'è Davide Bacchelli si prepara Nico Mamman educatore Bologna compagni e compagni mi chiamo Davide Bacchelli sono delegato RSU della IMA di Bologna l'esperienza in questi ultimi mesi di emergenza covid ha dimostrato una cosa che spesso sia a livello generale nella nostra organizzazione e anche all'interno di quell'area di cui abbiamo fatto parte fino ad oggi credo non sia così non sia mai stato chiaro e spesso sia stato utilizzato come alibi ovvero sia che è possibile organizzare qualsiasi settore dei lavoratori ma non solo a livello generico mettergli una tessera in tasca ma anche in maniera critica e in prospettiva conflittuale contro contro il loro padrone perché dico questo dico questo perché l'IMA pur non essendo una una grossa azienda è sì una multinazionale è un'azienda leader nel settore del packaging fra le altre cose nel settore alimentare delle macchine appunto per il settore alimentare e il settore farmaceutico tra l'altro settori che hanno dovuto continuare a produrre nelle fasi di lockdown poi in quali condizioni di sicurezza è tutta una cosa da vedere ma in particolare rappresenta il caso in cui i riformisti a partire dai nostri dirigenti nazionali hanno visto nella figura del del presidente del padrone di questa azienda Alberto Vacchi il mito dei rapporti sindacali tranquilli l'imprenditore illuminato non lo dico a caso non è una supposizione questo Alberto Vacchi è stato candidato alla presidenza nazionale di Confindustria nel mandato che poi elesse Boccia e non passò in questo ruolo per pochi voti ma aveva se non l'appoggio sicuramente il tifo e non nascosto da parte della CGL e della FIOM in particolare e questo già dimostra un'impostazione errata della nostra organizzazione ora però in un momento di crisi anche un'azienda che in crisi non è mai stata e non ha mai fatto tanti profitti come dal 2008 a oggi un'azienda che a inizi di marzo era pronta a distribuire 88 milioni di euro in dividendi azionari questa azienda e lo stiamo dicendo in questi giorni ai lavoratori e alle lavoratrici nelle assemblee in presenza che abbiamo ripreso a fare questa azienda non ha fatto nulla di più di quanto fosse obbligata a fare secondo i protocolli sicurezza un esempio su tutti i protocolli obbligano a misurare la temperatura all'ingresso no in IMA azienda di oltre 2500 lavoratori solo a Bologna questo non è mai successo e di questa cosa l'aspetto importante è che negli assemblee in questi giorni che stiamo portando avanti questa posizione i lavoratori la capiscono c'è un passaggio importante è un'azienda va detto che per le condizioni in cui era aveva anche mitizzato non solo l'azienda anche le organizzazioni sindacali a partire dalla CGL e dalla FIOMA avevano mitizzato questo padrone ora che le cose vengono descritte da chi fa le relazioni tra cui chi vi parla in maniera chiara i lavoratori stanno prendendo coscienza stanno facendo i primi passi per vedere quello che a volte appare ovvio perché magari in questa assemblea è sicuramente ovvio ma non va dato per scontato il fatto che da una parte c'era e c'è la borsa a cui vengono date tutte le rassicurazioni attraverso gli articoli dei giornali e quando i lavoratori leggono quegli articoli in cui si dice che ci sono le condizioni di migliore sicurezza si sentono presi in giro e sono incazzati allo stesso tempo va tenuto presente e questo è un altro aspetto che dobbiamo considerare nello sviluppo della nostra azione nella costruzione della nostra area che questi questo modo di rapportarsi a certo padronato lo sappiamo credo per esperienza ha selezionato anche se non generazioni però settori di delegati è vero sì delegati sono lavoratori e nei momenti critici scoprono anche loro qual è la realtà in cui vivono anche in realtà in cui la crisi ha colpito e sta colpendo di meno però queste cose sta creando delle differenze e sta facendo in modo che anche in queste situazioni si possa non solo costruire ma attraverso il fatto di porre un'alternativa anche far emergere le intelligenze la capacità organizzativa di vedere diversamente il proprio ruolo nella fabbrica e nella società di molti lavoratori e questo è possibile solo se queste questioni vengono poste se quel lavoro che conoscendo le compagnie e i compagni qui presenti so che abbiamo portato avanti e continuiamo a portare avanti quelle lezioni poi di fronte alla realtà si rivelano quelle corrette e il lavoratore anche quello più arretrato dal punto di vista politico o semplicemente perché è in una condizione che non ti fa porre certe domande anche se spesso la realtà anche di un lavoratore non in crisi è all'interno di famiglie in cui questa crisi si sente in altro modo oltre al fatto che la questione sanitaria non guardi in tasca nessuno però appunto quest'azione solo quest'azione ci può permettere appunto di costruire e di trovare appunto all'interno delle lavoratrici e lavoratori quegli attivisti quei militanti che possono far fare il salto di qualità e farci giocare quella con la battaglia per l'egemonia a cui faceva riferimento Brini nella sua relazione in maniera in maniera vincente e quindi è questo il punto centrale e alla base di questo e qui chiudo voglio ripetere il concetto fondamentale che io ho sempre visto come differenza tra noi la CGL in generale l'area in cui abbiamo militato e spesso anche settori di sindacati extraconfederali che in certi frangenti si hanno giocato un ruolo ma che si presentano più combattivi ovvero sia che senza illusioni ma con chiarezza noi abbiamo piena fiducia nella nostra classe nelle lavoratrici nei lavoratori perché siamo sono siamo gli unici che possono cambiare effettivamente le cose senza questa fiducia cercando sempre di sottolineare i limiti il fatto che magari come succede spesso uno sciopero non riesce al 100% ma al 99% si punta al dito su quell'1% dicendo eh però questa è una visione assolutamente sbagliata da parte di chi appunto non solo manca di questa fiducia ma quando tu non hai quella fiducia la usi come alibi scandaloso alibi per non portare avanti quella battaglia che quella stessa quelle stesse lavoratori e lavoratrici vogliono vedere portata avanti e noi questo ruolo sono convinto che siamo in grado di giocarlo e di portarlo avanti grazie per l'attenzione allora grazie mille Davide ora ci sarà l'intervento di Nico Mamane educatore di Bologna dopo di lui si prepara Mario Ippocoana ciao a tutti intanto ringrazio i compagni di Modena per aver organizzato questa assemblea che penso sia importante a tutti averla fatta in presenza perché dà il senso di quello che vogliamo costruire a partire da questa assemblea a partire anzi dalle giornate di marzo che abbiamo visto io volevo concentrare il mio intervento su diciamo il caso Emilia Romagna e Bonaccini in particolare perché diciamo dopo la vittoria delle elezioni regionali sembra essere visto viene sbanderato come l'anti-Salvini ma poi noi invece dobbiamo vedere nel concreto cosa significa questo presunto anti-salvinismo e nel concreto in base alla mia esperienza diciamo sono un educatore dei nidi di infanzia di Bologna cosa significa la propaganda di Bonaccini che va a braccetto con quella di Confindustria fondamentalmente e non tocco l'aspetto che giustamente già diceva il compagno Federico Toscani rispetto al periodo del lockdown in cui effettivamente le famiglie con diciamo le loro problematiche sono lasciate state sono state lasciate da sole abbandonate al di là appunto delle singole condizioni figli disabili anziani eccetera ma questo poi ha visto successivamente a partire da fine aprile inizio maggio un'accelerazione impressionante verso la riapertura prima chiuso tutto poi c'era bisogno di far ripartire la produzione e quindi frettolosamente andare a aprire tutti i servizi e questo l'hanno fatto in una maniera più disorganizzata e autoritaria possibile e lo stanno facendo dividendo per esempio o cercando di dividere le famiglie che giustamente vivono una pressione forte per le condizioni in cui stanno vivendo con gli educatori gli operatori eccetera che appunto mettono il dito sulle problematiche di queste aperture di questi servizi appunto è un vero e proprio ricatto come quello dei congedi parentali pagati al 50% che non sono nient'altro che appunto un ricatto soprattutto dobbiamo dirlo sulla condizione delle lavoratrici che devono decidere a cosa dare la priorità se i propri figli e i propri cari oppure diciamo continuare a lavorare e quindi diciamo a garantire la loro anche indipendenza e in tutto questo abbiamo visto anche non soltanto Bonaccini ma anche la famosa sinistra che deve condizionare le giunte del Partito Democratico ossia in Emilia Romagna appunto questa lista coraggiosa con la candidata Elislein che è stata la prima a dire quando appunto ancora tutti quanti i tecnici dicevano no almeno la fascia di bambini da 0-3 anni non si può aprire perché non si possono garantire le condizioni di sicurezza è andata avanti dicendo no no noi faremo un protocollo lo presenteremo al al governo perché si può fare tutto e questo appunto per dire cos'è che questa fantomatica sinistra che condiziona appunto i governi della borghesia come dobbiamo dirlo chiaramente e poi appunto vediamo questi protocolli che vanno in contraddizione protocolli o le linee pedagogiche vanno in contraddizione con tutto quello che è stato detto fino a tre mesi fa e tanto che ad esempio anche a livello regionale la CGL stessa ha dovuto diciamo sollevare qualche critica seppur dal nostro punto di vista debolissimo perché fondamentalmente la cosa principale che sottolineavano era che non erano stati coinvolti abbastanza nella diciamo nello stilare questi questi protocolli ma poi a livello locale c'è stato un immobilismo totale a Bologna non è stato fatto ancora un direttivo provinciale o invece le riunioni diciamo di settore le hanno fatte quando ormai appunto diciamo si stava andando avanti verso le riaperture e in tutto questo i lavoratori non sono mai stati coinvolti nella discussione di come si poteva riaprire questa è la cosa principale dicono adesso appunto alle famiglie vedete adesso i lavoratori non vogliono i famosi privilegiati che non vogliono lavorare ma non dicono il fatto che noi in quattro mesi non siamo mai stati coinvolti per dire siete voi che lavorate sapete come lavorate con i bambini con gli anziani così discutiamo con voi come questo servizio si può si può riaprire e quindi ci troviamo in situazioni di totale caos decisioni che ci piovono dall'alto ma che dopo veramente i tempi di 20 minuti vengono completamente cambiate e quando Bonaccini ha fatto uscire il protocollo regionale per la riapertura dei servizi 0-3 ormai a Bologna penso anche in altre città dell'Emilia Romagna si stava ragionando per la chiusura e per la discussione di come riaprire a settembre nel giro di 24 ore si sono è cambiata completamente la linea anche della giunta a Bologna e si è buttato giù un protocollo che fa acqua da tutte le parti e quello che si dicono giustamente i lavoratori come si può lavorare con un protocollo imbastito nel giro di 48 ore e con anche le critiche appunto dei pedagogisti che poi fondamentalmente quello che ci dicono è ma noi non contiamo niente effettivamente e e quindi la questione appunto ci troviamo con la CGL che improvvisa un'assemblea di sabato pomeriggio a mezzogiorno in cui dai lavoratori iscritti dalla CGL dai delegati della CGL piovono critiche rispetto a questa apertura e rispetto alla gestione anche diciamo della CGL di questa di questa avvertenza esce un comunicato che dice totalmente l'opposto siamo disponibili ad aprire ma discutiamo come e da questo poi sono sorte sono avanzate tutta una serie di situazioni per noi interessanti e emblematiche di qual è il clima ossia delle dimissioni di una coordinatrice dell'RSU e di un altro RSU iscritto CGL che dimostra di come questa dirigenza non ha il minimo interesse di sentire non soltanto i lavoratori più combattivi ma anche quelli che sono stati fedeli diciamo alla maggioranza fino ad ora e e quindi adesso appunto andranno avanti le aperture come dicevo e ma la questione che noi dobbiamo porre come come area e non è soltanto diciamo discutere sulla virgola il punto dei protocolli ma anche una discussione su un modello alternativo di società perché appunto a noi non ci sta bene un modello che quando appunto bisogna correre a fare profitto si deve diciamo accelerare su tutto e buttare appunto tutti i lavoratori al macello e poi quando non ce n'è bisogno si lasciano a casa e se noi facciamo questa discussione e allarghiamo diciamo non guardiamo al particolare di una categoria ma a un modello di società differente troveremo molto consenso ed è questa anche una battaglia che noi dovremmo portare avanti in tutti i luoghi di lavoro e nella società e tra i lavoratori nel suo complesso grazie bene grazie Nico allora adesso chiamo a parlare Mario Epocoana del direttivo FIOM di Modena dipendente RSU dell'Angelo Po dopo di lui si prepara Gianluca Barone forse futuro io ero passato ma a volte ci sono delle condizioni per cui si tende a rimettersi un po' in gioco io intanto devo dire che non ho sentito un intervento che sia meno che condivisibile cioè li ho apprezzati tutti tantissimo l'esposizione di Paolo è stata impeccabile poi come sempre visto che fa parte del direttivo quando parla credo che sia la chiarezza quanto meno la dota e la chiarezza poi no li voglio bene è poco li voglio più che bene esatto dopo so che mi paga il pranzo serale niente io volevo partire così da una considerazione che mi ha fatto Paolo che a dire la verità è quasi contraddittoria come in questo senso io sono un impiegato dell'Angelo Po è un'azienda che produce delle cucine industriali quindi anche noi abbiamo sentito la crisi proprio perché col fatto che la ristorazione era ferma tuttora siamo io sono personalmente con Smart Working ed era il punto che volevo toccare come come punto principale del mio intervento che era questo lo Smart Working dovrebbe essere uno strumento che viene a vantaggio del lavoratore le aziende le hanno utilizzate molto poco come ha detto Mimmo prima se non c'è la possibilità del profitto le aziende tendono a fare solo le cose di loro interesse e da oggi al domani diciamo ci siamo trovati in una situazione quasi fantoziana kafkiana di questo tipo qui quando è arrivato il Covid come molte aziende di Modena la prima cosa che l'azienda ha fatto non è stata quella di mettere fuori i presidi eccetera ma quella di fare sottoscrivere o tentare di fare sottoscrivere in un sottoscritto un modulo dove grazie dei poteri divinatori non meglio precisati probabilmente pensavano che come chi è anziano come me o più giovane magari si ricordano negli anni 90 la pubblicità dell'AIDS che c'era quell'aura viola magari pensavano che in questo modo qua potremmo identificare facilmente che aveva il Covid e quindi agevolmente sottoscrive una dichiarazione dove si diceva che noi abbiamo avuto contatti qualcuno ha detto ma scrivi da lì in bianco scrivi a tua conoscenza cioè a tutte delle formule particolari dove magari non richiamavano più la fantasia delle persone che altro no? e francamente l'RSU che era la prima barriera che avrebbe dovuto frapporsi fra l'azienda e i lavoratori perché questi sono i diritti dei lavoratori che sono stati scalpestati di fatto perché da me è sollecitata perché mi ha detto ma noi non ravvisiamo niente di strano in questo insomma ragazzi si stanno toccando delle cose ben differenti si sta toccando la privacy si sta chiedendo qualcuno di fare una dichiarazione su qualcosa che non può sapere ma alla fine l'azienda dopo varie esistenze ha detto ma che non lo sottoscrive poi vedremo un attimo insomma neanche messo in baccheca qualcuno ha firmato altri no qualcuno ha detto male avevamo detto verbalmente ma te l'ho detto la macchinetta il caffè insomma si è creata una sorta di struttura anche per quelli che sono i rapporti fra chi è diciamo il primo il primo che dovrebbe dare dell'informazione che è l'RSU e il lavoratore cioè la CGL è un grande organismo uno dei suoi organi sono i delegati i delegati devono essere informati perché il lavoratore identifica la CGL con queste persone quindi a maggior ragione bisogna che siano persone preparate soprattutto che non prendano proroccolato quello che dicono le aziende così una nota polcloristica l'ho detto tante volte ma uscì tempo fa ho comunicato dell'RSU dove per fortuna non militavo più perché mi sarei vergognato dove diceva testualmente i diritti dei lavoratori tra le altre cose concludiamo con questa bellissima chiusa i diritti dei lavoratori saranno rispettati quando possibile io così ho preso questo foglio l'ho fotocopiato e ho detto ma e l'ho portato da chi aveva materialmente redatto questa cosa qui e gli ho chiesto spiegazioni e gli ho detto no ma io volevo dire gli ho detto scusa quello che volevi dire ti è rimasto nella testa quello che ti è scappato è sulla carta nella prima occasione che ti troverai a fare un confronto con il dottore di lavoro chiamiamolo così per lo chiamarlo padrone anche se con l'ufficio personale con chi è deputato di rapporti e quant'altro ti metterà davanti al foglio e ti dirà adesso caro amico mio non è possibile farlo la stessa RSU che io ho contattato e sollecitato perché gli ho detto guardate noi da oggi al domani ci hanno detto di iniziare a fare lo smart working ma come? prima doveva essere una cosa molto limitata quindi a casa collegarci con strumenti puramente domestici quindi una linea che abiti in campagna non ho neanche la fibra quindi non deve essere banale ho la fortuna di abitare la casa di campagna quindi con un grande androne dove però ci eravamo collocati io mia figlia che è un ingegnere quindi io che orlava al telefono lei che bestemmiavo perché aveva per corrare lei dall'altra parte che stava parlando delle cose sue che magari insomma non aveva piacere di sentire queste queste invocazioni e la un altri due figli di cui una è l'università che sta dando degli esami quindi aveva una linea un po' martellante e dulcis in fundo tutte le mattine con l'azienda una bella riunione via zoom che infatti io ringrazio per aver fatto questa cosa da vivo perché almeno sono uscito dallo schermo dove ci raccontiamo la mattina quello che dobbiamo fare quindi voi capite che è con degli strumenti che ribadisco solo del domestico quindi io ho cercato in qualche modo di sollecitare l'RSU di mettere al centro anche questo aspetto cioè benissimo lo smart working poi magari a chi ha dei figli piccoli può fare anche molto comodo però gestito in un certo modo e soprattutto che non diventi un lavoro in esterno e basta lo smart working è una cosa diversa si chiama il lavoro agile perché tutti questi termini inglesi un po' ce l'hanno roventato fritto il cervello però in realtà cioè non stiamo facendo lo smart working ma solo del telelavoro cioè gli stessi orari io mi siedo davanti al computer casalingo con tutta la serie di postazioni che mi sono creato io tagliando dei pezzi di carta e quant'altro iniziamo a lavorare alle 8 e mezza alle 8 e un quarto stacco mi devo collegare con l'ufficio da rinuno duramente tre quarti d'ora dopo di che smetto in quel periodo di chiaramento tutto il tempo perso e dopo di che vado avanti con la pausa e tutto il resto allora io penso che abbiamo perso un treno perché se riuscissimo a parlare ai lavoratori anche di queste problematiche che sono insorte durante il periodo del covid io credo che altro che progettismo potremmo fare e soprattutto potremmo anche eliminare tutte le sorte di strutture perché molti si sono anche allontanati dal sindacato pensando che il sindacato e magari qualche volta è vero non servisse a niente o servisse a poco o servisse a complicare la vita peggio ancora in realtà il compito di un sindacato e infatti io vedo con molto favore la raccita di quest'area perché mi sembra quella propositiva è capace anche di fare come ha detto anche il stesso Emanuele l'ha riconosciuto da pungolo auguriamoci anche che sia un pungolo che funzioni che queste cose qua parlare a questa gente serve quantomeno a fare capire che cosa davvero serve un sindacato che deve servire ad aiutare i lavoratori a portare avanti delle cose al di là di quello che è il profitto come ho detto poi Mimmo perché se noi confiniamo tutto nella logica di profitto quello non usciamo più perché mentre da una parte c'è chi continua a guadagnare ci deve essere qualcuno che dall'altra parte continua a perdere a perdere sia in termini economici sia in termini di diritti che forse è la cosa peggiore io ho una certa età grafica ho iniziato a lavorare negli anni 80 non dico l'anno perché è meglio dopodiché insomma ho visto un po' d'evoluzione sarà anche proprio per questa mia esperienza passata che faccio fatica ad adattarmi a un tipo di lavoro diverso da quello che è il solito anche perché poi nelle fabbriche comunque si socializza si parla con la gente si colgono gli umori si riesce a parlare si vedono i problemi si affrontano insieme e questa cosa qua invece mi ricorda molto divida e timpera cioè il divido e conquista cioè stiamo creando un solco ancora più grande fra chi è in fabbrica presente magari per la produzione anche se noi in realtà stiamo ancora alterando periodi di cassa integrazione periodi di presenza e fra chi invece a casa questo solco qua si sta se prima c'era un fossato fra gli impiegati e gli operai che è più che altro insomma chi fa lavoro impiegatizio come volte lo smart working anche se qualcuno mi ricordo la volta l'amministratore delegato così che dice che lui sogna per me è un incubo una fabbrica completamente automatizzata anche l'ho guardato gli ho detto guarda io faccio altri sogni spero magari un po' più terreni magari anche di cose che non riesco più a fare magari bisogna anche le 12 fenec da giovane insomma cerco di avere delle cose un po' più piacevoli da cui pensare una fabbrica a livello automatizzato io completamente non riesco a immaginarmela probabilmente ci sarà magari fra franni ecco io credo che in questo momento sia un'occasione importantissima per riuscire ad affermare una cosa che è questa che bisogna assolutamente che il sindacato riesca finalmente a parlare nuovamente come qualcuno ai lavoratori è la prima cosa da fare grazie grazie mille Mario ora chiamo a parlare Gianluca Barone dipendente Coppa Alleanza 3.0 Bologna e dopo di lui si prepara Giuseppe Fai Lace ciao a tutti grazie dell'invito spero di avere ancora un po' di lucidità non era previsto che intervenissi mi è stato chiesto e avevo dei punti che mi erano venuti fuori sentendo i vostri interventi e volevo partire un attimo dopo l'intervento che è stato dopo Paolo giusto erano intervenuti Luigi Giove e Manuela Gozzi non so se si sono ancora e sinceramente il tipo di discorso con cui si giustifica un rapporto di potere che rimane sulla linea di galleggiamento dell'inerzia sostanzialmente i decreti di governo la sospensione della democrazia il governo Berlusconi sinceramente cose anche ormai passate e si giustifica appunto la paura creata nei lavoratori io non so se queste persone hanno veramente un contatto giornaliero con i lavoratori perché io non sono un delegato non ho nemmeno la tessera di un sindacato e sostanzialmente ho preso credo nell'area Bologna forse sia stato l'unico che insieme a dieci lavoratori su novanta in un punto vendita a prendere un'iniziativa a scrivere questa lettera dei lavoratori che non so chi ha guardato l'assemblea del 30 magari conoscerà scusate e allora anche se eravamo una minoranza cosa facciamo quell'iniziativa la buttiamo anziché farla crescere no divulgarla quando si parla dei decreti del governo in cui ti vietano di poter fare delle riunioni sindacali lì è legge nazionale perché il sindacato cos'è non è nazionale e se è lo strumento dei lavoratori io quando ho fatto la lettera sono stato completamente vittima di noi del punto vendita di ostruzionismo ci sono posti come antagonisti ci eravamo pensato noi a fare un incontro per poi produrre il nulla al che mi chiedo se il sindacato è lo strumento dei lavoratori voglio dire qual è qual è il programma cioè che voi portate qual è la filosofia che volete passare cioè quella di essere in realtà una piramide burocratica che deve conservare un posto di lavoro che sta lì a concertare e a sovradeterminarci dall'alto c'è stato solo credo un sindacato l'USB che il 25 ha proclamato uno sciopero quindi si lascia capitalizzare a un sindacato che sostanzialmente dà le posizioni sovraniste nazionaliste quello che è una volontà in quel momento dei lavoratori di far qualcosa che poi non si può limitare tutto solo allo strumento dello sciopero c'è un'alfabetizzazione dei lavoratori che si è completamente smesso di portare nelle aziende anche perché voglio dire il governo fa una legge a te non ti piace però ci sono le norme di sicurezza scusate ma non è che lo statuto dei lavoratori per esempio esisteva prima che i lavoratori iniziassero a fare le lotte che hanno fatto quindi persino riaprire le lotte dei diritti che si sono persi perché le abbiamo persi dicono ma questa cosa ormai non si può i livelli le mansioni eccetera eccetera e non si può allora iniziamo a lottare per riaverla magari per raggiungerne altre perché ovviamente i tempi cambiano per esempio mi chiedo sempre che filosofia abbia questo sindacato ci sono molti movimenti che magari partono da percorsi a dialettiche diverse prendo come esempio non una di meno perché hanno fatto degli scioperi che sono stati partecipati hanno avuto dei grandi numeri loro indicano uno sciopero la CGL due anni fa fa l'arrocco corto e dice non aderiamo però se localmente voi volete potete partecipare quest'anno c'è uno scorso arrocco lungo quest'anno arrocco corto direttamente no non aderiamo chi aderisce di nuovo l'USB e io nel mio punto vendita faccio lo sciopero e la cosa che vedo è che i delegati della CGL quando gli chiedi ma noi possiamo scioperare visto che l'USB non è presente in azienda ti dicono no non potete allora qui c'è un dolo ma a chi state difendendo la vostra posizione perché fino a prova contraria lo sciopero è un diritto del lavoratore non del sindacato e queste cose veramente io quando me le trovo a spiegare io ai colleghi rimango di stucco poi si giustificano perché quando quella volta tipo due anni fa fai lo sciopero generale del nostro comparto perché il contratto collettivo era scaduto e dopo stai lì che aderiscono 70 persone su 90 tu delegato fai il giro del negozio andare a dire non hai fatto lo sciopero non hai fatto lo sciopero ma scusa che fiducia deve avere questa persona su di te tra l'altro l'azienda ha sostituito i lavoratori nei punti vendita chiamando i lavoratori dalla sede per dire volete venire a allestire quel giorno sono riusciti a fare 90.000 euro perché hanno trovato i sostituti e quando ci hanno detto ah adesso faremo le vertenze sull'articolo 28 chi gli ha chiesto conto secondo voi hanno fatto le vertenze ma nemmeno per sogno allora cioè quando hanno appeso il foglio dell'incontro subito dopo la mia lettera l'ho scritta la domenica l'ho passata ai delegati per passarla agli altri delegati e ai lavoratori in realtà i delegati sono stati solo delle sentinelle per avvisare il sindacato che è subito corso a spegnere l'ingendio l'indomani quindi lunedì hanno lavorato persino la domenica hanno stampato questo foglio dove dicono avevamo già chiesto un incontro dopo tre giorni avviene la pubblicazione di cosa dell'incontro si era ottenuto cioè semplicemente se non era strettamente necessario non mettere gli spezzati di turno e tra l'altro cito testualmente sul link sul foglio c'era messo a riprova del consolidato rapporto tra il sindacato e l'azienda non avevo dubbi quindi sinceramente volevo dire adesso su questa parte mi sarei allargato molto però volevo aggiornare rispetto alla situazione di adesso nei negozi sostanzialmente le norme di sicurezza sono altro che diventati degli strumenti per aumentare ancora la produttività il mio negozio da fine febbraio fino all'inizio di maggio ha fatto tutti i giorni il mio reparto gastronomia salumeria eccetera gli incassi che fanno tutti i giorni nella settimana di Natale dove se in quella settimana dietro un reparto come il mio girano tra le 10 e le 12 persone loro l'hanno fatto tutti i giorni con 5 persone solitamente nelle contrattazioni nei patti che si fa tra sindacato e azienda si dice che la produttività è un indice che va da 0 a 1 dopo l'1 inizia a essere sfruttamento noi nel 2019 per la diciamo la linea di management che l'azienda ha preso abbiamo avuto una produttività nel mio negozio di 4,75 quindi secondo i loro discorsi 4 volte lo sfruttamento più di 4 volte mi immagino in quei mesi dove le produttività gli incassi non venivano ovviamente esposti che produttività avremmo avuto l'altro giorno leggevo in una settimana per dirvi la produttività dei generi vari era 34 non sto dando avrei dovuto fare la foto ma 34 allora tra l'altro la cop per distinguersi aveva fatto gli orari ridotti e aveva un po' cambiato delle forme di produzione che per il mio reparto almeno ci aiutava ad avere dei ritmi in attimo diversi dopodichè hanno tenuto le stesse persone perché il distanziamento detto al banco dovete avere un metro come se viviamo poi in Fletlandia perché poi non ci attraversiamo per andare a prendere dei prosciutti eccetera l'entrata è contingentata ma se tu fai entrare 50 persone non sai se di quelle 50-25 mi arrivano tutte al banco della salumeria e se di pomeriggio siamo in due e quando uno va in pausa sinceramente sì tu mi dice la mascherina adesso si dà al sicuro però io ingurgito il 50% d'ossigeno in meno le persone la sera abbiamo sempre cerchi alla testa nausea vomito cioè mi senti i polmoni a volte piccolini così allora cioè o il sindacato in quel caso usa le norme di sicurezza per poi far rispettare solo quelle quindi stai diventando in realtà il cagnolino da guardia in realtà della produttività aziendale le soluzioni che proponevamo in quella lettera partivano dai lavoratori proprio perché in copp una volta chi andava a fare il dirigente spesso partiva dall'allestimento dei prodotti veniva da un reparto quindi sapeva gestire il lavoro perché era stato un lavoratore e ne sapeva i dirigenti che abbiamo adesso ma già a partire dai capi negozio è gente che magari ha studiato economia fuori dai dati come produttività incassi eccetera non hanno alcuna soluzione per le persone e ti fanno ridere perché dopo tu li puoi mettere in crisi con la loro stessa strategia comunicativa altra cosa ultima scusate sono così scordinato quando Paolo diceva che adesso hanno messo il blocco dei licenziamenti tra l'altro il blocco dei licenziamenti vale per chi? per chi ha un contratto indeterminato perché tutti quelli che hanno un contratto a termine copp da due anni prende i contratti a termine dopo i 4 rinnovi in 10 mesi li manda a casa la stessa cosa l'ha fatto sotto il covid che dico almeno il lavoratore che ha fatto l'ora sotto il covid che tiene te li no quindi là già si vede la linea quindi tutti questi lavoratori nuove categorie di lavoratori riders eccetera eccetera che vanno in questi movimenti a manifestare come non di meno eccetera hanno una velocità nelle strategie comunicative che è l'unica che può pareggiare la velocità che ha un'azienda quando nella sua organizzazione deve iniziare a veicolare tutte le forme di controllo e di gestione che il sindacato ha perso non ci sta dietro non abbiamo velocità se non iniziamo a connetterci con quelle altre forme di lotta e a capitalizzarle perché magari vengono da dialettiche diverse per carità però comunque quelle persone hanno legato alla loro lotta per lottare contro quei micro fascismi culturali in generale chiamiamoli così hanno legato comunque la loro lotta contro il capitale quindi sostanzialmente o siamo capitalisti o siamo anticapitalisti no? o siamo con gli oppressi o siamo con gli oppressori non bisogna prendere ste vie di mezzo perché se no siamo dei paraculo grazie grazie Gianluca adesso il prossimo intervento è quello di Giuseppe Failace del direttivo FIOM di Modena della Motto Vario dopo di lui si prepara Antonio Forlano grazie un saluto a tutti ma compagno io francamente non sapevo se intervenire o meno e poi alla fine sì insomma dopo tutte le cose che ho sentito soprattutto dopo gli interventi dei nostri dirigenti ecco proprio ho sentito l'esigenza di comunicare un po' di cose insomma in merito a tutto quello che è successo a tutto quello che sta succedendo e a tutto quello che secondo noi e secondo me succederà perché questo di questo si tratta allora tutta l'emergenza che abbiamo davanti agli occhi ha posto in essere d'inevidenza una cosa prima di tutto una cosa molto chiara molto chiara cioè l'inconsistenza la fragilità la menzogna del falso progresso e di questo sistema becero che si chiama capitalismo perché sono venute fuori attraverso l'emergenza del covid tutte le varie contraddizioni tutte le varie contraddizioni e questo l'abbiamo visto a livello internazionale un po' dappertutto l'abbiamo visto con le fosse comuni in nord america l'abbiamo visto lo stiamo vedendo con le fosse comuni adesso in brasile e in italia per esempio se facciamo un'analisi un po' di tutta quella che è stata la gestione dei vari governi che si sono succeduti nei vari tagli che ci sono stati volta per volta ai servizi pubblici quindi alla sanità pubblica basta pensare che negli ultimi dieci anni ci sono stati dei tagli di 37 miliardi alla sanità pubblica poi con evidentemente la conseguenza le conseguenze che tutto questo ha portato e che abbiamo visto in questi mesi e che ancora oggi abbiamo davanti agli occhi una sanità pubblica al collasso una sanità pubblica che non vedeva rinnovati i contratti per parecchio tempo e quindi con una relativa mancanza di personale una sanità pubblica che si trovava in condizioni di non avere le cose voglio dire basilari tipo le mascherine tipo gli impianti per la respirazione tipo tutte le varie sale per quanto riguarda le persone che dovevano essere tenute in una certa condizione in terapia intensive ecco tutto questo compagni non è che scende dal cielo non è che i nostri medici e le varie strutture hanno fatto di tutto affinché succedesse questo questo è successo squisitamente perché negli ultimi decenni governo per governo hanno tagliato di miliardi e miliardi la sanità pubblica che è quella di cui ci serviamo noi badate bene ci serviamo noi tutti non i padroni o i ricchi loro vanno all'estero inclusi i ricchi che ci hanno governato prima di nuovo sentivo parlare di Berlusconi una cosa di cui non mi dimentico mai tra i primi governi Berlusconi dopo aver tagliato per l'ennesima volta la sanità pubblica aveva avuto lo splendido un problema fisico è andato a curarsi in America è andato a curarsi in una struttura privata in America da una parte e dall'altra facendo lo splendido in tv diceva che abbiamo comunque quella sanità pubblica migliore d'Europa e che quindi potevamo anche permetterci di tagliarla in un certo qual modo tutto questo ha portato e mette in risalto la cosa più becera di questo sistema che è il capitalismo cioè la menzogna più grande e cioè quella del progresso cioè loro si nascondono dietro un dito per anni dicendo che tutto quello che noi riusciremo a fare volta per volta che riusciremo a produrre poi sarà elargito e sarà potrà essere fruito per il bene comune di tutti cazzate minchiate stratosferiche perché altrimenti nella avanzata Nord America non avremmo mai dovuto vedere lo spettacolo che abbiamo visto delle fosse comuni e tantomeno in Brasile ma in Nord America in modo particolare dove appunto la sanità non è pubblica ma è un fatto privato e chi non ha i soldi per potersi curare può squisitamente crepare alternative non ce ne sono quel modello questo modello capitalistico alla base propone questo e questo si è vinto in questi giorni cioè è stato chiaro l'abbiamo visto si è materializzato infatti quelle foto nascoste quei video che poi bene o male in rete sono circolate e qualcuno poi ha pubblicato la dicono lunga la dicono lunga su tutto quello che è proprio il senso del governo del mondo e su tutto quello che questi continuano e continuano e vogliono continuare a fare basta pensare sempre per quanto riguarda il falso progresso di cui parlano per esempio che negli ultimi 25 anni i profitti dei padroni sono saliti del 40% gli stipendi dei lavoratori sapete di quanto? del 5% negli ultimi 25 anni quindi alla faccia della distribuzione della ricchezza altra menzogna di cui parlano squisitamente molto volentieri allora questo per dire che alla fine voglio dire nel momento in cui ci siamo trovati dinnanzi ad un'emergenza sanitaria globale come questa come al solito i nostri governi con Findus e i nostri governi hanno si sono spesi per il profitto e per il diritto dei lavoratori e non per il bene comune e non per la salute pubblica perché? perché se voi vi ricordate all'inizio è stato bloccato tutto addirittura gli spettacoli i calciatori i calciatori per paura che potessero prendere il virus tranne che le fabbriche nelle fabbriche il virus non circolava questo virus è ammaestrato in una maniera che arriva davanti alle fabbriche alle grandi fabbriche industriali e lì si blocca lì non entra invece noi sappiamo benissimo che le fonti maggiori di contagio che abbiamo visto e che abbiamo proprio sotto gli occhi in questi ultimi giorni sono proprio le fabbriche e a Bologna è un caso eclatante così come a Mondragone eccetera in tutto questo la nostra confederazione cosa ha fatto o meglio cosa non ha fatto perché questo è il punto e di questo stiamo discutendo allora in un primo periodo dove quando le cose sono cominciate un po' a restringersi e i morti sono avanzati e i contagi a dismisura la gente ovviamente ha cominciato ad avere paura e quindi all'interno delle fabbriche l'operaio a chi si rivolge se non ai delegati e ai sindacalisti dice oh ma cosa facciamo chiudiamo cosa facciamo stiamo a casa è possibile che lì succede il finimondo e noi continuiamo a lavorare e tu come sindacalista all'interno cosa facevi all'inizio in una situazione ovviamente anche di imbarazzo perché ti dicevano ma cosa aspettate a proclamare sciopero oppure a chiudere cercavi di dare un colpo al cerchio una la botte a parlare con l'impresa a cercare di come meglio risolvere le situazioni fino a quando si è arrivati al punto che questo non è stato più possibile non è stato più possibile perché perché i lavoratori non ce la facevano più noi come sindacalisti non ce l'abbiamo fatta più e quindi dinnanzi ad un silenzio assordante dinnanzi ad una mancanza di proposta dinnanzi ad una presa di posizione dinnanzi a parole d'ordine chiare che avrebbe dovuto dare in quel momento preciso questa confederazione che non ha dato assolutamente i lavoratori hanno scavalcato tutto e più di tutto e quindi si sono verificati i primi scioperi che abbiamo avuto a marzo quegli scioperi sono nati non compagni badate non così proprio perché non c'è stata dall'altra parte la confederazione è stata totalmente inesistente e tutto il peso e la responsabilità di quel gesto è caduto sulle spalle dei lavoratori ed è caduto sulle spalle dei delegati con una latitanza assoluta da parte di questa organizzazione che solo dopo queste prime cose queste abisaglie questi scioperi che ci sono stati ha cominciato a minacciare in maniera blanda il fatto di uno sciopero generale a rivedere i codici a teco rivisti che non hanno assolutamente cambiato niente non hanno cambiato niente perché perché nonostante c'è stata la revisione in tutte le fabbriche si è continuato a lavorare tranquillamente e noi lo sappiamo benissimo si è continuato a produrre tranquillamente incluse le fabbriche che producevano armi adesso mi dite voi le armi quale cazzo di bene essenziale sono per quanto riguarda il covid cosa rappresentano di essenziale per combattere il covid questo è il punto adesso mi si viene a parlare del fatto che non è il momento del conflitto ma è il momento della discussione il momento della convergenza oppure dall'altra parte si fa il vanto di aver cogestito di aver cogestito la crisi di aver cogestito la cogestione significa che andiamo ci sediamo intorno a un tavolo tu proponi delle cose io propongo delle altre poi insieme cerchiamo di trovare un punto qui non c'è stata cogestione compagni qui c'è stata una passiva accettazione di tutto quello che veniva proposto da Confindustria e da questo governo questo questa è stata quello che ha saputo mettere in campo questa organizzazione in un momento come questo allora io penso che altro che il momento non è il momento del conflitto io penso che in merito a tutto quello che sta succedendo in merito alle previsioni che abbiamo di disoccupazione incredibile di una caduta del PIL addirittura c'è chi parla il Fondo Monetario Internazionale fino a un po' di giorni fa parlava addirittura del 12,8% ma altro che altro che parlare altro che sedersi intorno a un tavolo per discutere che cosa per discutere eventualmente quante persone licenziare lasciare fuori e quante altre invece salvare un sindacato degno di questo nome non può assolutamente non può assolutamente fermarsi e pensare di gestire le cose in questa maniera noi pensiamo che di qui in avanti e specialmente io penso dalla metà alla fine di settembre in poi ci vorrà le cose dovranno essere gestite esclusivamente per forza di cose attraverso il conflitto e attraverso il conflitto che noi proponiamo attraverso le parole d'ordine che noi da sempre abbiamo proposto allora prima di tutto il debito pubblico non si paga non si paga che i debiti li pagasse chi li ha prodotti e cioè le grandi banche e i padroni che vengano nazionalizzate le grandi fabbriche sotto controllo operaio non attraverso una logica la logica becera del profitto ma attraverso una logica di produzione in base all'utilità delle cose che si producono questa è la nostra filosofia questo è quello che questo sindacato secondo noi dovrebbe proporre dovrebbe fare i messaggi che dovrebbe dare altro che i tavoli su cui discutere e parlare del nulla mentre fuori c'è tutto quello che c'è questo è il punto e allora mi avvio alle conclusioni anche per quanto riguarda voglio dire la scelta che abbiamo fatto e che da qui parte per quanto riguarda questa sorta di nuovo progetto che abbiamo all'interno dell'aria compagni non è che le cose anche qua scendono dal cielo o accadono perché qualche d'uno un giorno ha pensato a delle cose cioè le cose si evincono è una questione compagni di metodo di metodo che non ci trova più d'accordo con il resto dell'area e il metodo che noi abbiamo sempre usato e utilizzato in questo territorio la dice lunga su tutto quello per esempio che abbiamo conquistato all'interno dell'ultimo congresso e soprattutto su quello che noi rappresentiamo all'interno i luoghi di lavoro questo è il punto e quindi io in ultima analisi ecco penso che sia una cosa positiva che partire da qui e da questo presupposto non faccia altro che bene e che possa provare veramente a dare una dritta sia alla nostra classe alla classe operaia e soprattutto ad influire in tutto e per tutto quello che è la confederazione che in questo momento purtroppo ahimè è assolutamente assente grazie grazie Peppe ora chiama a parlare Antonio Forlano delegato UPS direttivo nazionale Filt dopo di lui si prepara Arianna Mancini salve a tutti beh dopo l'ultimo intervento posso anche non dire più quasi niente perché direi che è stato decisamente esaustivo nei punti centrali dopodiché alcune note sono fondamentali perché anche note critiche per quanto per quello che ci riguardano perché il covid è stato in realtà quel fattore casuale che ha rotto tante routine compresa la nostra in un certo senso quello di essere in un'area in cui eravamo un po' immersi o dentro a certe logiche appunto di confronto di gruppi dirigenti e con difficoltà non tanto per quello che nello specifico mi riguarda perché per noi è stato anche l'anno in cui siamo riusciti ad avere un punto di visione diversa cioè entrare nel direttivo nazionale dopo tanti anni di battaglia sindacale e poter provare in quel contesto poter dare una visuale diversa però sicuramente anche in base alle cose dette finora noi abbiamo visto da un lato la cosa evidente e cioè qual è la vera natura di questo padronato dall'altro di quali sono dei limiti limiti se vogliamo anche strutturali di concezione ideologica da parte della nostra organizzazione nel rispetto della cosiddetta compatibilità e se lo inseriamo in un'area di lavoro che ha assunto in questo periodo una certa rilevanza che è il settore della logistica diciamo che in questo momento è quel settore in cui il sindacato è stato forse il più concertativo perché era un'area che garantiva da un lato benessere a quei lavoratori che giocavano o che hanno fatto della propria iniziativa di miglioramento l'uso della trasferta l'elemento essenziale a cui dei sindacati extroconfederali hanno giocato tantissimo con questa voce pensando che sarebbe stata la la voce attraverso la quale si sarebbe dato il grande vantaggio ai lavoratori mentre invece con il covid si è drammaticamente caduti in una povertà estrema perché sono le cosiddette voci e sentasse e a questi limiti penso che una cosa che noi abbiamo permesso attraverso questa iniziativa di oggi e cioè quella di lavorare su un'iniziativa in presenza di rendere possibile quello che alcuni compagni hanno molto calcato nel dire di dare un certo protagonismo ai lavoratori che poi è lo stesso protagonismo in cui al senso contrario abbiamo provato a fare il giorno 30 quando ci trovevamo proprio tra l'incudine e il martello tra i lavoratori che chiedevano una soluzione capace di poter dirigere la situazione e dall'altro un sindacato assolutamente inerte noi abbiamo fatto una scelta nel nostro mondo dove secondo me ha giocato moltissimo una presenza capillare della nostra azione sindacale nel evitare che accadesse quello che purtroppo in molte realtà nella logistica è accaduto e cioè l'abbandono dal lavoro non organizzato che è un abbandono da vile fondamentalmente lasciando di fatto il padrone a poter gestire il magazzino come meglio credesse in quella fase per mettere la sostituzione di lavoratori in condizioni di precarietà e quella precarietà la si vede perché la storia della TNT c'è il cosiddetto retroscena quello di Peschiera a Milano in cui centinaia di lavoratori hanno proprio abbandonato il campo e non hanno controllato il campo perché quando c'è la partita è vero noi possiamo avere anche l'arbitro e lo abbiamo ben detto che l'arbitro sappiamo da che parte sta però abbiamo delle capacità e delle forze che a livello sindacale possiamo utilizzare e cioè la capacità di poter per esempio dove siamo capaci di controllare la produzione e quindi in un certo senso imporre al datore di lavoro il come consegnare il quando consegnare in quante ore lavorare io vi dico che nel nostro settore ormai è stato sdoganato da tempo le famose 40 ore cioè non si lavora più le 40 ore ma è in senso contrattuale ormai il lavoro è di 44 ore settimanali di default perché è da contratto nazionale ma tutto questo in questa fase è stato drammatico e rivendicare come stanno facendo adesso le nostre organizzazioni la nostra organizzazione sindacale sembra una beffa il nostro sindacato sta rivendicando la riduzione dell'orario di lavoro grande evento un grande evento il nostro sindacato in questo momento sta rivendicando a livello nazionale sul contratto nazionale le internalizzazioni quello che noi andiamo dicendo ormai da anni forse decenni per alcuni casi come nel mio nel settore della logistica in cui abbiamo proprio costruito una nostra modalità di iniziativa di unire i diretti con gli indiretti in un'unica azione però in questa fase in cui il sindacato si trova a fare delle rivendicazioni forte e di queste rivendicazioni dobbiamo essere noi capaci di poterli portare alle estreme conseguenze perché nel momento in cui inizia il confronto reale sul contratto nazionale sappiamo come vanno a finire le funzioni di propaganda ora in questa situazione nel nostro settore il datore di lavoro i datori di lavoro hanno trovato come in altri settori ovviamente soprattutto il settore impiegatizio delle risorse nuove che è quello che è stato qui accennato il famoso smart working che non è smart working lo smart working è altra roba non ci appartiene nella modalità industriale di cui noi facciamo parte il nostro si chiama telelavoro cioè anziché lavorare in ufficio lavoriamo a casa e questo ha creato degli elementi da un lato sì di entusiasmo da parte di molte lavoratrici in particolar modo in questa fase di difficoltà ma ha innestato anche elementi di grandi criticità dove il datore di lavoro penso non ha nemmeno lui la condizione di quelli che possono essere le prospettive di questa modalità di lavoro che è pieno di contraddizioni ma non soltanto per i lavoratori anzi dipende da noi perché quest'area di lavoro può essere una grande risorsa in cui il lavoratore come prima cosa di quello che non ha in una condizione di lavorare da casa e non avere l'oppressione visiva fisica del datore di lavoro in una condizione determinata a noi ci porta anche che persone ci contattano molto di più rispetto a quello che era la condizione precedente l'entusiasmo rimane e fieve è un qualcosa che durerà il tempo necessario che ti vedrai per una linea tecnica o informatica che non funziona che ti mettono in ferie o ti mettono in roll quello che accade spesso nei magazzini quando non ti arriva il camion qual è la differenza è soltanto il tipo di lavoro ma l'uso dell'orario di lavoro da parte del datore di lavoro è sempre medesimo e cioè massima produttività nelle condizioni in cui ti trovi a lavorare ora in questa condizione io penso che noi abbiamo delle grandi opportunità se le sappiamo cogliere in questa condizione noi abbiamo una categoria che è per esempio quella degli impiegati che solitamente viene considerata un po' diciamo la cenerente dal punto di vista della sua conflittualità una grande occasione di crescita di crescita della coscienza perché il diritto alla disconnessione molti lavoratori non ne hanno manco la cognizione il diritto al tempo di vita rispetto ai tempi di lavoro iniziano a pesare molto di più rispetto a quello che era il lavoro in ufficio quindi abbiamo anche lì una grande opportunità però io penso che dove noi possiamo meglio costruire e far sentire quello che per anni decenni noi non abbiamo avuto la possibilità di mostrare semplicemente nelle dichiarazioni cioè sul ruolo della classe lavoratrice è stato soprattutto e in particolar modo in questo momento quando la classe i nostri lavoratori sono diventati essenziali l'essenzialità è stata tutta rivolta ovviamente al capitale e in questo senso ora dobbiamo fare la nostra parte e cioè renderla dalla parte dei lavoratori questo anche questo è possibile riprendendo in mano quegli elementi essenziali che sono l'orario di lavoro che sono il controllo della produzione perché per esempio nel settore della logistica che ha avuto praticamente un ventennio di risultati eccezionali ha ricevuto in questo momento anche lei come tutti altri settori dal 2019 in poi inizi di flessione e in questo inizio di flessione queste grandi multinazionali perché oggi è diverso la condizione degli anni 90 degli anni 80 oggi questo settore è dominato dalle multinazionali e questa capacità ci permette in una logica in cui i lavoratori possono essere più uniti ma soprattutto più capaci di poter fare i propri interessi perché non esistono più i famosi padroncini che ci sono ancora ma comunque hanno una rilevanza maggiore e minore e dall'altro invece il settore dell'ultimo miglio è diventato un elemento essenziale della produzione è un elemento essenziale della produzione e della distribuzione possono costituire un elemento fondamentale per unire con la classe lavoratrice in generale un punto di forza per migliorare le proprie condizioni di lavoro grazie grazie Antonio ora chiamo a parlare Arianna Mancini della Sanità di Roma dopo di lei si prepara Lello Signorello buonasera buonasera compagni io credo che se noi siamo qui siamo qui per segnare un cambio di passo molto deciso perché riteniamo che all'interno del sindacato la volontà di lotta l'espressione di quella rabbia che noi abbiamo visto a marzo debba trovare un terreno di espressione organizzato e crediamo anche fermamente che quegli equilibri di cui si è parlato all'inizio di questo dibattito lungi dall'essere mantenuti o resi come dire di nuovo funzionali quando a mio parere non lo sono mai stati debbano essere abbattuti io lavoro in sanità e diciamo così il il portato come dire delle i danni che quegli equilibri hanno prodotto sulla sanità in parte un compagno prima di me qualcosa ha già detto sono sotto gli occhi di tutti in questi ultimi trent'anni le politiche di tagli le politiche di privatizzazione hanno completamente depauperato la sanità noi abbiamo affrontato compagno una guerra di fatto con come dire equipaggiamenti assolutamente inadeguati e insufficienti viviamo in un paese in cui si spende per il servizio sanitario nazionale il 6,5% del prodotto interno lordo in questi ultimi dieci anni lo ricordava il compagno prima sono stati tagliati quasi 40 miliardi di euro per la sanità distrutti 43 mila posti di lavoro tagliati 70 mila posti let dal 80 a oggi abbiamo perso il 70% di posti let per acuzie e di fatto noi abbiamo affrontato questa pandemia con la cifra ridicola di meno di 9 posti let di terapia intensiva per ogni 100 mila abitanti senza parlare della carenza e dell'inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale io lavoro in un servizio dove mi viene fornita una mascherina ogni settimana noi lavoriamo abbiamo sempre lavorato di fatto vedo che qualche compagno strabuzza gli occhi ma di fatto è così noi abbiamo una mascherina il lunedì mattina e non si capisce come dovremmo appunto mantenerla per tutta la settimana ora dopo l'assemblea i lavoratori non sono carne da macello noi abbiamo voluto continuare quel percorso facendo una serie di commissioni di settore in particolare dei settori appunto essenziali tra cui il sanitario e socio assistenziale da quella commissione lì è emersa una situazione assolutamente emergenziale un po' in tutti i luoghi di lavoro in tutti i posti ora se questa emergenza è stata come dire resa evidente dalla pandemia compagni questa emergenza è strutturale è strutturale le criticità che sono emerse con la pandemia in sanità sono assolutamente strutturali e parlo di sottorganico parlo di precarizzazione parlo di salari assolutamente inadeguati parlo del ruolo del privato che ha fatto e continua a fare profitti su tutto quello che non è appunto urgenza su tutte le prestazioni che non sono urgenti che sono rutinarie e lascia al pubblico la bega di gestire le emergenze tra cui la pandemia il ruolo del privato in questa pandemia è stato assolutamente marginale lo sappiamo perché di fatto non rappresentava come dire una fonte di profitto ecco lo svuotamento della rete sanitaria e socioassistenziale del territorio anche questo è un elemento molto importante per noi che lavoriamo in sanità tutto questo diciamo così tutte queste criticità ci hanno un po' anche orientato nel programma che abbiamo tirato giù per il settore ora bisognerebbe capire quali sono le prospettive per questo settore è un settore in cui i lavoratori sono stati messi a dura prova profondamente è un settore che è chiaramente molto stanco da questo punto di vista ma tutte queste contraddizioni sono assolutamente molto lontane dall'essere risolte e questo ce lo dicono i dati perché le misure adottate fino ad oggi dal governo hanno un carattere puramente emergenziale puramente emergenziale e sono assolutamente insufficienti se consideriamo col decreto cura Italia sono stati stanziati 1 miliardo e 400 milioni per il comparto sanità a cui aggiungiamo 3 miliardi e 250 milioni del decreto rilancio suddivisi nelle varie voci questo in che cosa si concretizza si concretizza di fatto per esempio per il territorio nell'assunzione di meno di 10 mila infermieri attenzione però e 600 assistenti sociali con contratti co-co-co o con incarico di lavoro autonomo alla cifra di 30 euro l'or dell'ora quindi ancora una volta precarietà ancora una volta risorse assolutamente insufficienti perché mancano quantomeno 20 mila infermieri e 5 mila operatori sociosanitari per poter come dire pensare quantomeno di rendere strutturali i posti letto di terapia intensiva che si pensa diciamo nel riordino della rete ospedaliera di rendere strutturali che sono circa 3.500 più 4.000 di semi intensiva ora diciamo come dicevo se confrontiamo queste risorse con quelle relative ai tagli che dicevo prima sono assolutamente ridicole e insufficienti come dicevo mancano almeno 20.000 infermieri e 5.000 OS negli ultimi 12 anni il territorio ha subito tagli per il 40% e questi non saranno assolutamente ripristinati per quanto riguarda la precarietà nel decreto rilancio scompare diciamo la possibilità della proroga della madia a dicembre 2020 e quindi di fatto la stabilizzazione dei precari se ne va a quel paese peraltro anche i 1.000 euro perché Angeli della Corsia e Angela della Corsia dopodiché nemmeno il bonus di 1.000 euro anche quello è scomparso dal decreto ora è chiaro che tutte queste contraddizioni non saranno risolte da queste misure assolutamente inadeguali continueranno ad accumularsi e come dire ad oggi tra i lavoratori del settore esiste una rabbia profonda esiste un profondo malcontento anche perché compagni come dire noi ci troviamo a lavorare molto spesso e questo anche in passato ben prima anche della pandemia diciamo a dover lavorare con turni massacranti peraltro diciamo a dover gestire la rabbia feroce spesso degli utenti che si accaniscono contro gli operatori per il malfunzionamento per la lunghezza delle liste d'attesa e per tutti gli episodi di malasanità di cui non siamo noi chiaramente responsabili tutto questo come dire ad oggi rimane un profondo malcontento che non ha ancora avuto modo di esprimersi come dire attraverso una mobilitazione organizzata ma sicuramente questo accadrà nel prossimo nel prossimo periodo di certo l'assenza e su questo mi sento come dire in linea con gli interventi degli altri compagni l'assenza del sindacato in tutto questo è stato è stata veramente come dire un elefante nel salotto significativa la posizione assunta dalla funzione pubblica della CGL sulla programmazione dello stato di agitazione del personale medico in piena pandemia da diverse sigle sindacali a cui la funzione pubblica non aderiva e dichiarava quanto segue questo momento storico richiede la massima vicinanza degli operatori sanitari ai cittadini e non ci possiamo permettere di aggiungere ulteriori motivi di disagio e di preoccupazione questa è una scelta una dichiarazione scelerata e vergognosa è chiaro che c'è un elemento di etica che non ci permette chiaramente ma questo anche la legge come dire non ce lo consente di lasciare i servizi scoperti questo è evidente ma una presa di posizione politica da questo punto di vista sarebbe stata assolutamente necessaria viste le condizioni in cui gli operatori sanitari si sono trovati a lavorare è vero però che evidentemente il malcontento di questo settore inizia a destare una certa preoccupazione io penso che non sia un caso che primi di giugno è stata siglata la preintesa per il rinnovo contrattuale della sanità della sanità privata risaio che è un contratto che è fermo da 14 anni e forse non è un caso come dire che sia stata siglata ora e che peraltro sia stata fissata la data per la riapertura del confronto sul contratto dell'RSA che pure quello è fermo da 8 anni ora come dire è evidente che la sensazione che questo è un settore che stia lì come dire sulla brace che possa esplodere dall'oggi al domani cioè ad oggi noi vediamo solo alcuni segnali più significativo sicuramente è quello che viene dal movimento nazionale degli infermieri che è un movimento che compagni sicuramente a come dire dei limiti importanti però segna un primo passo diciamo così che testimonia il risveglio di un settore di lavoratori sicuramente la presa di coscienza del ruolo che giocano e hanno giocato all'interno della società nei luoghi di lavoro è un movimento come dicevo che ha dei limiti in quanto ha un approccio come dire corporativista di categoria e questo come dire non questo approccio di categoria in ultima istanza è assolutamente divisivo noi oggi abbiamo bisogno al contrario e questo è uno dei motivi per cui siamo qui di una mobilitazione che coinvolga tutti i lavoratori della sanità del settore socioassistenziale diretti esternalizzati precari e che rivendichi attraverso quella che è la piattaforma che noi abbiamo identificato il raddoppio dei fondi per il sistema sanitario nazionale l'adeguamento dei salari a quelli più alti dei colleghi europei un nuovo piano assunzionale almeno 50.000 unità e che non sia di natura emergenziale ma che sia strutturale quindi non contratti precari o partite IVA la ripubblicizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie private che tanti danni hanno arrecato al servizio sanitario nazionale sottraendo risorse e il rilancio della sanità territoriale in tutto questo io non ho tempo spendo solo se ho possibilità un mezzo minuto sulla questione del controllo dei lavoratori perché compagni quando noi parliamo di controllo operario non dobbiamo pensare soltanto al controllo dei lavoratori della produzione in fabbrica questa pandemia ci ha reso consapevoli di quello che è il nostro ruolo e di quelle che sono le nostre capacità anche di quelle che sono le nostre capacità e competenze all'interno dei servizi noi sappiamo come si gestisce una lista d'attesa noi sappiamo di quante unità abbiamo bisogno e come dovrebbe essere strutturata una pianta organica perché noi conosciamo i servizi e noi conosciamo il lavoro a noi compagni hanno chiesto di fare delle cose da remoto che è impossibile fare tecnicamente perché i nostri dirigenti non conoscono il lavoro che noi facciamo non sanno cosa noi facciamo con i nostri pazienti e utenti all'interno delle strutture sanitari che loro dirigono e quindi io credo che in questo senso diciamo un po' mi viene l'idea mi va l'idea all'esperienza dei consultori e dei comitati insomma misti utenti e lavoratori che hanno dato vita ai consultori in un periodo sicuramente di grandi lotte che può essere però come dire un modello a cui noi dobbiamo pensare di rifarci anche in sanità grazie grazie Arianna chiamo qui a parlare Lello Signorello della Fiamma di Modena all'azienda EOTIS dopo di lui si prepara Daniele Chiavelli Buonasera compagni un saluto a tutti quanti diciamo che avrei sarò brevissimo anche perché voglio dire è stata una discussione bellissima che ha affrontato tanti aspetti tanti punti quindi è inutile ripetersi su delle questioni io qualcosa vorrei puntualizzare intanto mi sembra d'obbligo ringraziare la Camera del Lavoro e la segretaria che è qui presente pronto? il microfono è acceso però forse a furia di spruzzarci sopra pronto? adesso? ah allora bisogna starci vicino non attaccato allora mi ripeto volevo ringraziare appunto la Camera del Lavoro e la sua segretaria che segue i nostri lavori e che diciamo ha anche l'occasione di 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 vedere la nascita di questo momento particolare del nostro impegno io volevo intanto sottolineare un aspetto di questa fase terribile che è stata la pandemia che secondo me non va qualcuno l'ha l'ha un po' accennato ma non va sottovalutato l'aspetto della democrazia che è stato molto ma molto limitato sia dalle decisioni che sono state delle decisioni come qualcuno appunto diceva prese dal capo in testa o dal presidente o dei vari anche in maniera certe volte molto particolare e bizzarra dei vari presidenti di ogni regione ognuno fatto di testa sua senza nessuna possibilità l'esautorazione del Parlamento e la repressione che è stata anche un allenamento diciamo dell'aspetto che potrebbe anche essere utile per quanto riguarda quello che accadrà speriamo non così particolarmente cruento nel prossimo autunno ma anche ad esempio una cosa che non va sottovalutata quello del referendum che ci sarà prossimamente insieme alle elezioni cioè la riduzione dei parlamentari che viene spacciata come un risparmio come se fosse questo il problema dell'economia in Italia ridurrà ulteriormente gli spazi di democrazia perché ridurrà anche la rappresentanza delle piccole organizzazioni all'interno dei luoghi di decisione di questo paese quindi questo secondo me è un aspetto che andrebbe sottolineato quello della democrazia e per quanto riguarda io vorrei parlare ad esempio degli aspetti nella mia categoria si parla dei rinnovi contrattuali che questo nuovo presidente dell'associazione industriale dice dimenticatevi ma perché il precedente rinnovo contrattuale cosa aveva di così particolare per cui noi dovremmo essere tanto ci hanno inserito abbiamo accettato delle questioni che a me vorrei che anche tutta l'organizzazione tutta la la CGL ci ragionasse abbiamo subito queste forme che sono così allucinanti ad esempio qualche settimana fa la nostra direzione ci ha fatto sapere che nonostante il contratto sia scaduto loro ci danno i benefit di 200 euro perché poi alla fine quello che abbiamo avuto di miglioria economica sono state queste cose qui però attenzione questi 200 euro devi andare a spenderteli dove dico io come neanche più il voucher che puoi andare a farti la spesa devi andare in vacanza dove ti dico io devi comperarti quello che ti dico io queste sono nuove forme oppure le assicurazioni sanitarie si parlava prima la compagna ci ha raccontato ma anche altri sono intervenuti noi abbiamo legittimato per contratto e questo è gravissimo per la nostra organizzazione sindacale lo spostamento dell'asse verso il privato in maniera concordata con con i padroni ognuno di noi lascia 13 euro come se ad un'assicurazione perché ci dia qualcosa in cambio che in realtà poi alla fine lo pagheremo caro e salato e non solo lo paghiamo due volte io ad esempio in questa sala ad una nostra assemblea generale un giorno è stato dedicato da una funzionaria a spiegarci quanto è bello meta salute però ecco noi su queste cose io vorrei che ci ragionassimo dobbiamo fare controinformazione su questo dobbiamo dire mi basterà pensavo parlare meno dobbiamo dire che ad esempio queste forme di meta salute queste forme di benefit tolgono spazio tolgono soldi allo stato sociale perché le aziende non pagano le tasse quella famosa IRAP che poi dovrebbe andare a sostenere i servizi nostri le aziende non le pagano e spostano quest'asse sul privato perché è vero che c'è la possibilità di pagare il ticket però loro ti indirizzano sempre sul privato e quindi questa è una vergogna un'onta io credo che il nostro perché noi oggi non solo dobbiamo ragionare su tutte queste questioni perché i lavoratori queste cose qui te le dicono quando sei sul luogo di lavoro e perdi credibilità quando tu dici che hai ottenuto un buon contratto che contiene queste cose qui io credo che il nostro ruolo sia quello di parlare a questi lavoratori di dare delle alternative di pensarle anche noi queste alternative per cui il che fare da qui in avanti per la nostra futura area sarà quella anche di progettare delle alternative possibili rispetto a quelle che sono le strategie dell'organizzazione di dire la nostra di creare dei luoghi di riflessione altra e anche di cercare nella società dei soggetti con cui noi dobbiamo interloquire perché non è sufficiente la confederalità con Cisle Will che sono al servizio dei padroni io sinceramente nel mio posto di lavoro queste persone non ci posso parlare perché sono dalla parte del padrone perché me le dovrei trovare obbligatoriamente come compagni di strada quando non fanno l'interesse mio sul mio posto di lavoro queste cose qui noi dobbiamo pensarle perché la società non cambia solo sul posto di lavoro solo sulla fabbrica solo su quell'ambiente lì la società noi la dobbiamo sperare di poterla cambiare con dei soggetti con cui costruiamo insieme delle alternative quindi io credo che in questa nuova modalità di lavoro di quest'area ci siano anche dei momenti di riflessione su fare possibilità di dare ai lavoratori della riflessione su come siano negative queste scelte ad esempio tornando a metasalute o i benefit o come cioè fare controinformazione e trovare soluzioni alternative grazie scusate bene grazie Lello prima di far parlare Daniele devo dare una comunicazione di servizio perché qui a questo piano nel bagno di destra degli uomini la cassetta del bagno è crepata e sta per cadere quello del decimo allora non avevo capito ok va bene allora quello del decimo e quindi siete tutti avvisati ora faccio parlare Daniele Chiavelli del direttivo FLC di Mantua è un insegnante e dopo di lui si prepara Paolo Grassi buon pomeriggio a tutti io come diceva Simona sono un insegnante sono anche RSU nella mia scuola nel Mantovano e prima di parlare però della della mia categoria e della situazione comunque del mondo dell'istruzione volevo partire da un ragionamento più generale un paio di settimane fa penso l'abbiate sentito tutti ci sono stati gli stati generali promossi da Conte in cui hanno partecipato diversi esponenti di partiti partecipato alla CGL e anche Confindustria e Confindustria dopo aver partecipato ha rilasciato un comunicato stampa che vi consiglio di leggere che chi non l'ha letto perché è estremamente chiaro su quello che vuole e una delle cose che viene riportata in questo comunicato è il blocco degli licenziamenti che attualmente è fino a metà agosto potrà anche essere prolungato di qualche mese qualche settimana ma questo non toglie queste sono proprio le parole più o meno testuali del comunicato questo non toglie che quando questo blocco non sarà più attivo partirà inevitabilmente la ristrutturazione aziendale come a dire non si fa altro che posticipare un attacco visto dal nostro punto di vista che noi abbiamo in mente e che è inevitabile non saranno alcune settimane o alcuni mesi in cui potremmo in qualche modo recuperare avere un'impostazione che ci permetterà di recuperare i mancati profitti o di tutelare poi i diritti dei lavoratori e le condizioni di lavoro la ristrutturazione aziendale partirà ecco a fronte di questo secondo me determinante è come e che tipo di ruolo avrà la nostra organizzazione sindacale perché a fronte della rabbia del malcontento che c'è tra i lavoratori e che anche giustamente saltato fuori con gli scioperi appunto anche spontanei di cui si parlava nella relazione introduttiva e che sono stati anche ripetuti nei vari interventi a fronte di quella rabbia da parte del padronato sarà impensabile arrivare a formulare quell'attacco senza coinvolgere le organizzazioni dei lavoratori e quindi determinante sarà il ruolo che avrà determinante ovviamente sarà il protagonismo della classe lavoratrice ma altrettanto determinante sarà il ruolo che deciderà di assumere quelle che sono le organizzazioni del movimento operaio della classe lavoratrice e pensare in questo tutto questo contesto di continuare a muoversi su degli equilibri che devono essere mantenuti col ricatto che altrimenti va in default il paese secondo me vuol dire ragionare proprio in maniera stratta in una campana di vetro perché per vent'anni è stata portata avanti una politica sindacale concertativa che non ha fatto altro che in un certo certo modo si può dire mantenere gli equilibri ma dall'altra parte più concretamente possiamo dire non ha fatto altro che rispondere a quelle che erano le esigenze della controparte poi diciamolo in bello modo mantenere gli equilibri ma era quello fondamentalmente pensare ancora di mantenere quegli equilibri e di non rompere il quadro che verrà portato avanti da Confindustria o dal governo di non romperlo pensare di non procedere così è utopico cioè significerebbe una resa totale a fronte della controparte è utopico pensare di non romperlo in qualche modo riuscire a come si può dire accontentare e limitare i danni per quanto riguarda i lavoratori e questo tipo di ragionamento io lo vedo anche nella mia categoria la mia categoria è appunto quella della scuola dell'istruzione all'interno della CGL è l'FLC e ancora adesso dopo 20 anni di autonomia scolastica i dirigenti sindacali scrivono nei loro documenti che l'autonomia scolastica è stata declinata male andava declinata diversamente a fronte anche di un governo e dell'associazione nazionale presidi che hanno chiaramente detto lo strumento che serve adesso per far sì che le scuole reagiscano dal loro punto di vista cioè dal punto di vista appunto dei presidi in maniera ottimale in maniera efficiente a quella che sarà appunto un eventuale secondo ondato o comunque il prossimo periodo lo strumento ottimale è l'autonomia scolastica ma perché è quello perché l'autonomia scolastica è quello che consente innanzitutto ai presidi di poter disporre di più di più potere all'interno delle scuole quello che consente alle scuole di far fronte in maniera fittizia alle mancate risorse dal parte del pubblico rivolgendosi al privato ai territori alle famiglie l'autonomia scolastica è tutto questo e a fronte di questo ancora a giugno il documento dell'FLC dice è ma l'autonomia scolastica non era non era pensata così ma è stata pensata e deve essere portata avanti come innovazione e sviluppo e invece è qualcosa che viene messo in discussione ma non da me che appunto queste cose le dico da diverso tempo ma viene messo in discussione dagli stessi colleghi dopo vent'anni appunto di tagli alla scuola apro una parentesi adesso c'è il ritornello che in realtà i fondi alla scuola ci sono perché viene destinato un miliardo ma così come è successo alla sanità dove i miliardi tagliati sono stati decine anche nella scuola è lo stesso cioè solo la riforma Germini aveva tagliato 8 miliardi di risorse all'istruzione quindi dire che adesso viene investito un miliardo è semplicemente ridicolo come in qualche modo palliativo di quelle che sono le condizioni e a fronte di questo però appunto sia dalla parte del governo a parte dei presidi e dall'altro lato seppur tentando di declinarli in maniera diversa lo strumento principale che viene posto al centro dell'attenzione è l'autonomia scolastica ma questo stesso strumento io ho iniziato a sentirlo criticare sempre di più da parte dei colleghi cosa che magari fino a una decina di anni fa fino a 5 anni fa sarebbe stato impensabile quindi questo per dire che paletti quadri definiti che sono stati magari così immutati per diverso tempo adesso vengono scardinati purtroppo vengono scardinati dai lavoratori ma non dal gruppo dirigente della CGL in diversi casi e noi qua dobbiamo costituire in qualche modo secondo me un esempio un esempio in che senso? un esempio di prospettiva di parole d'ordine di riferimento per i lavoratori e anche di come si costruisce una mobilitazione ora questa è sempre una banalità però anche qua riprendo la mia categoria la categoria della scuola c'è stato uno sciopero l'8 giugno questo sciopero è stato convocato ma convocato con la solita modalità rutinaria che il gruppo dirigente della CGL ci ha abituati negli ultimi anni e quindi alla fine ha avuto una percentuale di adesione che è stata estremamente bassa parliamo di cifre di adesione a livello dei sindacati di base quindi l'1% o giù di lì ovviamente questo non vuol dire che non c'è una rabbia da parte appunto dei colleghi la rabbia c'è il punto è come si costruisce una mobilitazione e anche su questo noi dobbiamo costituire secondo me un esempio cioè noi dobbiamo dire che una qualsiasi battaglia va impostata con parole d'ordine chiare con assemblée sui territori offrendo una prospettiva e tutto questo dal gruppo dirigente della CGL non c'è stato per chiudere l'area che stiamo costituendo secondo me deve fornire un esempio un esempio e un riferimento e questo può essere fatto anche sul piano del coordinamento cosa intendo con questo intendo dire che una cosa che purtroppo il gruppo dirigente della CGL non ha mai fatto è stato penso la mia categoria ma in generale è stato quello di mettere in connessione tra loro tutte quelle mobilitazioni più avanzate che c'erano dal punto di vista territoriale quindi in alcune scuole c'erano anche semplicemente delle emozioni nei collegi docenti che ponevano che ponevano delle che mettevano in discussione certe scelte oppure vere e proprie mobilitazioni pensate ad esempio al fatto di come sia frammentata la categoria di chi lavora nelle scuole dagli educatori agli insegnanti a chi lavora nelle mense oppure nel settore delle pulizie è estremamente frammentata eppure sono tutte tutte categorie in lotta perché giustamente gli educatori da una parte gli operatori nelle mense dall'altra noi insegnanti i collaboratori scolastici pensate come quanto basterebbe poco per unire queste queste lotte metterle tutte appunto assieme avere delle parole d'ordine chiare e che in qualche modo siano compattanti eppure tutto questo non viene fatto e invece la nostra area deve proprio dare anche questo tipo di esempio cioè come compattare le diverse lotte che ci sono e come riuscire a dare una prospettiva appunto e qua chiudo che non sia quella di tentare di reggere un equilibrio ma che sia di rottura di certi schemi che sono stati portati avanti anche dal nostro sindacato da decenni rompere quegli schemi grazie Daniele ora è il turno di Paolo Grassi dell'Assemblea Generale Nazionale NIDIL e dopo di lui si prepara Ons Abdelhamid Buonasera Sente Allora dagli interventi che ci sono stati finora mi sembra evidente come in questa assemblea si riconosca tutti che la situazione è eccezionale e per eccezionale significa una situazione che noi non vedevamo da decenni in questa sala ci sono compagni con qualche anno in più sulle spalle tra cui anch'io e credo che l'ultima volta che abbiamo visto un'autoconvocazione dei lavoratori lo diceva Paolo nella sua relazione è stato quasi 30 anni fa con le caratteristiche che assomigliano a quelle che abbiamo potuto vedere a marzo ora per me dire che la situazione eccezionale significa in primo luogo che chi non lo capisce parlo in quanto organizzazione movimento strutture eccetera chi non lo capisce è destinato a rimanere fregato non mi viene un modo migliore per esprimerlo e che una situazione eccezionale offre a chi ha fatto per anni per decenni battaglie quotidiane sul proprio posto di lavoro nel movimento dei lavoratori eccetera grandi opportunità nella tragedia di questo virus però c'è una una questione che noi dobbiamo toccare che è il punto della discussione che questa crisi che come ha spiegato benissimo Paolo oggi non è una crisi che il virus ha fatto scoppiare la crisi economica la crisi economica c'era già questo sistema non funziona da decenni negli ultimi dieci anni ha mostrato ulteriormente la corda il virus è stato il catalizzatore che ha fatto precipitare la situazione e in questa situazione però per chi lotta da sempre per l'emancipazione dei lavoratori per una società più giusta si apre un'opportunità una possibilità perché questa sia l'occasione per far emergere tutto quello che i lavoratori sono incapaci di dare e offrire per una società più giusta più equilibrata dove ci sono meno ingiustizie che come abbiamo visto con l'esplosione del virus sono uscite ancora più centuplicate di quelle che già vedevamo nei mesi negli anni precedenti ora però c'è anche un'altra questione secondo me importante da ribadire che quando noi intendiamo situazione eccezionale non è soltanto il virus il virus ha fatto da catalizzatore a che cosa? in primo luogo al cinismo dei padroni il cinismo dei padroni è stato toccato con mano non che i lavoratori prima non sapevano che i padroni erano cinici preoccupati soltanto di garantirsi il profitto o di scaricare sulla collettività i loro fallimenti no questo lo sapevano già ma l'hanno visto palesarsi in modo molto concreto quando davanti al pericolo della propria salute e di mettere soprattutto in pericolo la salute dei propri cari in particolare dei genitori anziani hanno visto questo cinismo che diceva mettiti una mascherina e vai a lavorare se non ti sta bene i più fortunati si potevano prendere le ferie ecco lì è stata la goccia che ha fatto trabucare un vaso in cui sta giorno dopo giorno da anni gocciolando questa come dire frustrazione questa rabbia questa incazzatura per quello che si vede l'ingiustizia che quotidianamente i lavoratori devono sopportare chi tanto come i lavoratori più sfruttati di cui ha parlato benissimo compagni prima di me dove ci sono i lavoratori in nero in questo paese ci sono oltre 3 milioni i lavoratori in nero che non hanno responsabilità che sono i lavoratori in nero sono i lavoratori in nero perché questo sistema fa comodo avere i lavori in nero perché la borsa di gucci il pomodorino nel supermercato ha una euro e mezzo al chilo sono anche grazie al fatto che c'è un operaio che lavora in nero perché nel tessuto dove lavora non ha altre possibilità e questi sono la strana maggioranza di quei 3 milioni erotti lavoratori che sono stati falcidiati senza nessun ammortizzatore da questo virus oltre a quelli che già sapevamo ecco però oltre al cinismo c'è un'altra cosa estremamente importante che Paolo ha detto ma secondo me è da ribadire continuamente la centralità della classe lavoratrice perché veramente qui teatri ristoranti calciatori l'ha spiegato benissimo Beppe non sto ripetendo però la classe lavoratrice no quella ma come non esisteva più era estinta imborghesita stufata no e questo ha ricaricato sulle spalle di milioni di lavoratori una responsabilità una consapevolezza perché compagni i lavoratori non è che sono spariti in questi anni però hanno dovuto marciare spesso come singoli dei grandi mobilitazioni che sono stati in questi anni a parte quelle convocate dai sindacati che però sono stati col contagocce l'ultimo sciopero generale della nostra organizzazione è stato nel 2014 ecco però appunto tutto il resto noi li vediamo sparpagliati nelle manifestazioni per i diritti civili li abbiamo visti nei pride li abbiamo visti nelle manifestazioni del 25 aprile però sempre come singoli mai come classe e invece questa volta la classe è stata messa sbattuta in prima pagina nel vero senso della parola ora e poi c'è un'altra cosa importante quella della consapevolezza che quello che stavi producendo non serviva oppure serviva ma si poteva fare in un altro modo non serviva le armi sono state già citate la lista è lunghissima oppure serviva ma veniva come dire prodotto male oppure non era proprio quello che doveva produrre io conosco oggi c'è qua presente un compagno della spalla che il suo padrone è riuscito a cambiare il codice a teco pochi giorni prima che Conte facesse il decreto cioè questo vuol dire questi lavoratori non andavano mai in fabbrica in assemblea prima andavano poco male e svogliatamente quella cosa lì quando il compagno ha convocato l'assemblea e poi lo sciopero i lavoratori sono andati in massa incazzati neri e hanno fatto anche quattro giorni di sciopero questo è il salto qualitativo la cosa che noi cerchiamo di spiegare quando intendiamo la situazione eccezionale che succedono cose che per anni abbiamo cercato di far capire e che adesso è molto più semplice far capire ora io lo spiego così ma secondo me l'ha spiegato molto meglio il compagno Gianluca della COP che non è un delegato che ha dovuto scavalcare il delegato o il compagno Antonio Forlano sul fatto che cazzo cioè dobbiamo scusate dobbiamo come dire produrre cioè dobbiamo consegnare perché siamo infatto siamo come si dice precettati ma se consegnare deve essere consegnare consegniamo quello che veramente serve non dietro l'essenziale si nasconde tutto l'inaccettabile e ci hanno provato sono riusciti parzialmente all'inizio ma ci hanno provato ma non è se ci sono riusciti o meno la questione in questo momento la questione è che ci hanno dovuto pensare ed è questa la questione fondamentale di tutta la nostra discussione perché questa situazione sta costringendo i lavoratori a prendere coscienza della loro classe della loro forza e che loro sanno meglio dei padroni che cosa bisogna produrre in questo paese e questo non è un fenomeno italiano Beppe l'ha spiegato molto meglio di me è un fenomeno internazionale Paolo nelle sue conclusioni quando ha citato lo sciopero dei portuali questo qui è un fenomeno che sta avvenendo in tutto il mondo i lavoratori non sono soli e sicuramente noi avevamo già da imparare dai compagni dai fratelli francesi lo scorso autunno oggi abbiamo ancora più imparare da tutti ma in verità è che questo movimento è un movimento internazionale e si alimenta a vicenda ed è qui la situazione eccezionale allora io non voglio approfittare del tempo mi sa che ne ho già preso troppo però se questa è la situazione se questa è la questione allora se questa è la svolta nel movimento dei lavoratori di questo paese del movimento europeo del movimento mondiale dei lavoratori allora quando dico chi non l'ha capito è fregato intendo proprio cioè intendo l'area di cui facevamo parte fino a oggi perché non puoi chiuderti in casa gridare ci vuole lo sciopero generale e non abbiamo potuto farlo cioè Paolo l'ha spiegata bene i motivi però questa cosa dello sciopero generale i compagni merito un passaggio perché io non mi posso arrivare alla coscienza gridando sempre ci vuole lo sciopero generale lo sciopero generale bisogna anche saperlo costruire non si può sempre dire è colpa dell'apparato che non convoca lo sciopero no perché Antonio Forlano potrebbe dire quanti scioperi ha dovuto fare contro anche la propria direzione sindacale e ci è riuscito e ha pagato anche a volte dei prezzi ma porca miseria ci è riuscito e questo ha aumentato il suo radicamento sul posto di lavoro e questo ha permesso che l'apparato non poteva toccarlo questa è la questione questa è la differenza in quanto noi parliamo di come si costruisce una lotta una mobilitazione uno sciopero e quindi è per questo che quest'area è fergata è finita ha esaurito la sua funzione da tempo ma oggi è diventato palese come palese sono diventate tante cose per i lavoratori e lo stesso vale per i sindacati di base compagni mi spiace perché io ho tanti compagni amici nei sindacati di base tanti compagni che stanno nella CGL che sono andati nei sindacati di base per frustrazione per scoramento per disillusione per demoralizzazione alla fine questo è il problema e questo è un peccato perché invece questi compagni nella battaglia oggi in questo momento in questa fase in questa organizzazione sarebbero stati indispensabili indispensabili non c'è nessuno però sarebbero stati utili molto utili e importanti e soprattutto dobbiamo guardare la realtà il sindacalismo di base ha fallito la CGL nel 2011 ha potuto fare tre ore di sciopero davanti alla peggiore controriforma delle pensioni era così a destra che teoricamente i sindacati di base avrebbero dovuto sfondare ma non lo hanno fatto perché non lo hanno fatto perché i lavoratori davanti alla grande organizzazione storica tradizionale che non faceva niente sono andati a casa demoralizzati e questa è la realtà dei fatti questo non toglie nulla al coraggio e alla determinazione di alcune realtà di sindacalismo di base ma non è questa la discussione la discussione è il movimento operaio nel suo complesso non la singola aziendina e quindi in verità quello che potremmo raccontarne di episodi di questo tipo io quando ero un giovane delegato della FIOM è il 92 mi ricordo i sindacati di base a Milano durante la stagione dei bulloni gli operai con la testa della CGL in tasca che tiravano i bulloni ad Antoni in piazza Duomo e lo Sly Cobas che è entrato in piazza e si è portato via un pezzo di lavoratori era una cosa inconcepibile fino a quel momento e tutti gridavano è arrivata la fine della CGL non è arrivata la CGL ancora qui e adesso subirà da parte di quei lavoratori che hanno visto che hanno dovuto scendere in campo loro scavalcare i loro delegati scavalcare i loro funzionari dover convocare loro gli scioperi e questi questi lavoratori dove andranno nei prossimi giorni nei prossimi mesi nei prossimi andranno lì nella CGL romperanno i coglioni lì e noi ci saremo è quella la battaglia che faremo è quella la battaglia che ci prepariamo da anni a fare e quindi la questione non è quella la CGL non mi lascia organizzare perché noi ci auto-organizziamo in CGL nel senso che rispettosi ognuno ha il proprio ruolo però davanti alle necessità dei lavoratori senza gridare allo scandalo ma guardando preciso a quello che vogliamo conquistare l'obiettivo che sia un contratto aziendale che sia salvare un posto di lavoro che sia un contratto nazionale facciamo quello che ci permette di migliorare il radicamento con i nostri con i nostri referenti che sono i lavoratori io l'ho fatta troppo lunga voglio chiudere però semplicemente ricordando una cosa è già stato detto qui che il movimento è internazionale però i lavoratori non sono soli nel 2008 2011 sono stati presi in contropiede erano disorientati dalla crisi i dirigenti sindacali non facevano niente trattavano le casse integrazione era come dire era una rincorsa alla miseria questa volta no però il preavviso è stato dato molto con anticipo i lavoratori non saranno presi in contropiede i lavoratori di questo paese sono già pronti anche se dopo marzo non abbiamo più visto il movimento non importa c'è una rabbia un'incazzatura sotto la superficie che esploderà davanti agli attacchi che inevitabilmente confindustria e governi dunque si tenteranno di fare e lì non si scappa quella è la prova del 9 e però la cosa importante è che non ci sono solo i lavoratori ci sono i giovani gli studenti perché gli studenti e i giovani si mobilitavano con i frider con le manifestazioni per i diritti civili molto prima che i lavoratori cominciassero a scendere in campo e questo significa che con l'azzolina con il ministro dell'istruzione che ci troviamo che è veramente benzina sul fuoco del movimento per gli studenti noi quest'autunno avremo altro che un autunno caldo avremo un autunno dove si formerà una nuova generazione di militanti e noi stiamo facendo questo per accogliere questi migliaia di militanti grazie grazie mille Paolo ora è il turno di Onsap della Mid del coordinamento Alziamo la testa è una giovane studentessa quindi non si vede che è molto giovane e dopo di lei è il turno di Marez Bennechissa che è in un'altra sala quindi gli chiedo se può scendere intanto grazie grazie salve compagni io sono Onsap della Mid sono una studentessa delle scuole superiori dunque non sono ancora una lavoratrice però ci tenevo a fare un intervento e anche ribadire quanto sia importante in un'assemblea come questa la partecipazione giovanile e prima di me aveva parlato il compagno molto prima di me Matteo Parlati aveva introdotto un punto interessante ovvero l'importanza di comprendere la necessità e dunque non aver timore dell'importanza ripeto dell'unione tra studenti e classe operaia una cosa fondamentale da comprendere è che noi studenti siamo innanzitutto i lavoratori di domani e la scuola lo sa non a caso ci abituano a lavorare letteralmente gratis presentandoci questa cavolata perdonatemi il termine come un'opportunità di apprendimento come il caso dell'alternanza scuola-lavoro come si chiama adesso PCTO ci abituano anche a cosa voglia dire essere agiati economicamente e avere dunque la possibilità di frequentare scuole situate in centro città che ricevono fondi importanti che donano una vera e propria istruzione degna di essere considerata tale e di cosa invece voglia dire essere condannati alla scuola pubblica i cui fondi diminuiscono con lo scorrere del tempo i cui edifici ci cadono praticamente addosso mettendo repentaglio la salute di noi studenti ma non solo anche dei lavoratori della scuola come degli insegnanti e dei collaboratori le disuguaglianze sociali dunque presenti nella nostra società sono palesi anche nel contesto scolastico come hanno già detto prima di me nella nostra società non c'è spazio che per una cosa ovvero il profitto di conseguenza la scuola la sanità l'ambiente ma non solo anche i diritti dei lavoratori che sono coloro che producono ricchezza come aveva detto qualcuno prima di me producono dunque potere vengono totalmente sacrificati infatti non a caso il problema principale di cui soffre la scuola è precisamente la mancanza di fondi in questa fase di epidemia abbiamo visto la centralità della classe lavoratrice il ruolo che gioca nella nostra società oggi non a caso Confindustria ha insistito tanto affinché riprendesse la produzione in questa fase è stata messa a repentaglio la vita di centinaia di migliaia di lavoratori che sono stati costretti ad andare a lavorare in posti che non fossero sicuri alcuni di loro hanno perso il lavoro altri addirittura la vita questo è quello che ci ha spinto in quanto organizzazione a dare vita alla nostra campagna i lavoratori non sono carne da macello dall'altra parte però parallelamente abbiamo visto come l'istruzione è stata negata a tutti quegli studenti che o per limiti economici che dunque hanno dovuto sopperire per esempio la mancanza di dispositivi di connessione internet o di spazio in casa in poche parole di soldi o anche chi in questa fase ha dovuto sopperire a problemi personali violenza oppressione di vario genere e adesso è finito quest'anno scolastico attendiamo quello successivo e attendiamo ancora notizie chiare a riguardo mentre si parla di letteralmente tutto persino della briscola sulla scuola invece non si dice nulla il problema principale che riguarda insomma anche i lavoratori della scuola è il problema delle classi sovraffollate per garantire lo spazio minimo di sicurezza tra studenti è necessario assumere personale assumere insegnanti per distribuire meglio gli studenti questo non c'è stato perché il governo abbiamo visto che non ha fatto altro che stabilizzare 32.000 precari un numero decisamente troppo basso quindi la domanda che ci sorge spontanea è cosa possiamo fare cosa dobbiamo fare e noi studenti dobbiamo innanzitutto lottare affinché la scuola sia come deve essere un diritto di tutti e non un privilegio per pochi infatti io e altri studenti abbiamo dato vita a quello citato in precedenza il coordinamento alza la testa che si impegnerà ad agire nelle scuole dove siamo presenti a creare collettivi dove non ci sono o di ampliare quelli già esistenti perché l'autunno è caldo e sarà caldo anche per noi e quindi dobbiamo prepararci per tempo ma soprattutto bisogna guardare alle contraddizioni del capitalismo che si sono rese palesi nell'ultimo periodo e comprendere che alla base dei problemi del sistema scolastico ma in generale della società tutta c'è un problema ben più grande e ben più radicato ovvero il sistema capitalistico per un effettivo cambiamento della scuola bisogna pensare a un cambiamento radicale della società tutta togliere prima di tutto l'ostacolo del profitto e affrontare i problemi reali della società prima di tutto l'ambiente lo diceva anche Engels anche Marx l'uomo è soggetto alle leggi della natura stessa noi siamo parte della natura che stiamo distruggendo e io penso e qui mi avvio verso le conclusioni che un'assemblea del genere sicuramente regala speranza speranza di un'alternativa realmente comunista che dunque metta al centro i diritti dei lavoratori ma in generale i diritti dell'umanità intera e non dunque la centralità del profitto perché ce l'ha insegnato anche la storia l'auto-organizzazione una forte metodologia marxista nazionalizzazione sotto il controllo operaio sono realizzabili e sono necessari per una società migliore grazie 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 per questo stupendo intervento la parola al compagno Marez Bennechissa del direttivo della Fion di Modena segue Giuseppe Gumini salve a tutti allora io voglio parlare di un argomento che nessuno l'ha parlato perché voglio parlare di immigrazione allora e specialmente delle clandestine perché i clandestine sono una realtà in questo paese basta andare a vedere all'edilizia o l'agricoltura o cioè da tutte parti ci sono adesso ultimamente è stata fatta una legge per regolarizzare gli immigrati che lavorano nell'agricoltura e le badanti e le lavorazioni domestiche solo che è stata una legge sbagliata ma molto sbagliata adesso in Sicilia ci sono ci sono 200.000 persone che lasciano il lavoro dell'edilizia lasciano il lavoro da tutte parti e vanno per trovare un contratto di lavoro nell'agricoltura perché non si può solo nell'agricoltura e adesso sul contratto coloro che profittano di questo lo stanno vendendo a 9.000 euro all'immigrante immaginate solo allora questa legge è una legge che favorisce solo lo sfruttamento già abbiamo visto altre organizzazioni sindacali che stanno facendo delle manifestazioni per chiedendo il cambiamento e di cioè praticamente se io lavoro a Modena all'agricoltura io devo andare a qualche parte e lascio il mio lavoro ma c'è già il datore di lavoro che poteva anche dichiarare che io lavoro ecco no te devi lasciare vai a Palermo trovare qualcuno lì che ti profitta con 9.000 euro lo stanno chiedendo 9.000 8.000 euro cioè per un immigrato tutto questo ma è diventato un lavoro ma io l'ho visto anche a Cavezzo dove hanno chiesto 8.000 euro non è che quando si parla del meridione sembrava che qua il paradiso io l'ho visto a Cavezzo allora questa qui è una cosa molto molto grave e secondo me la GGL non deve rimanere sempre fuori di questi problemi i problemi vanno risolti e magari denunciare queste cose qui o chiedendo di cambiare queste leggi cioè il Cobas l'USB stanno lavorando noi altri sempre lì cioè sembrava che non c'è niente sembrava che non c'è niente come come il rassismo la GGL non dice nulla rassismo non rassismo addirittura abbiamo visto campagna elettorale basata sul rassismo cioè abbiamo visto chi è che ha bussato alla porta di un immigrato sei un spacciatore ti ricordate cioè niente la GGL non dice qualcosa non parla non allora come come io dico come la GGL da dopo guerra ha aiutato gli italiani a conquistare la democrazia bisogna che aiuta anche gli immigrati a diventare una parte effettiva di questo paese non dobbiamo rimanere sempre nell'angolino io ero immigrato ero clandestino adesso c'è la cittadinanza italiana mi sento parte di questo paese cioè allora vedi quanti tutti passiamo di queste queste si passa sempre dalle clandestinità poi dopo si entra il lavoro io qua quando ti parlo non sto difendendo chi magari non è venuto per lavorare chi non è venuto per lavorare c'è la polizia che deve mandarla via ma noi stiamo parlando di persone che stanno già lavorando cioè l'edilizia tutti tutti da tutte parti cioè questa qui è una ingiustizia un'ingiustizia che secondo me bisogna lavorare sopra poi il problema del flusso il flusso una volta si chiede a ogni paese voi non venite clandestini e guardate le vostre coste e noi ogni anno prendiamo 500 persone e là le gente le giovani si iscrivono al collicamento di lavoro poi si chiamano così in una sala mi ricordo benissimo e si fa anche il sorteggio chi ci va chi non ci va ok si fa il corso di italiano arrivi qua che già parli in italiano e puoi dire quello il flusso non c'è più quanti fanno adesso le leggi le regolarizzazioni lo fanno per quelle che sono qua sono già clandestini ma questo è un invito a quelle che non vogliono far venire clandestino praticamente vai clandestino prima o poi fai il tuo documento bisogna che ritorna questo flusso perché il flusso c'è tantissime persone non ci vanno all'estero non vanno non vengono col barcone si trovano la possibilità di venire con un contratto o venire regolarmente allora il flusso deve ritornare bisogna che combattiamo un attimino per il flusso poi niente sono questi gli argomenti una cosa molto molto sentita adesso 8.000 euro e 9.000 euro per avere un contratto di lavoro giù un mese lo stanno profettando e come noi siamo sempre stati contro questo sfruttamento questa qui bisogna diciamo qualcosa bisogna con la CGL sinceramente si occupa di questo e chiede il cambiamento di queste leggi l'ultima leggi che va aperta a tutti i settori dove lavori puoi fare i tuoi documenti non te lo lascio solo l'agricoltura perché magari il multinazionale chiede al lavoratore ma si capisce queste cose qui queste qui è sempre il capitalismo che chiede e noi dobbiamo essere servi questo quello che stiamo vedendo niente grazie a tutti questo è il problema che volevo tirare fuori grazie a te Marez ora è il turno di Giuseppe Gomini delegato della Lucati Assemblea Generale FIOM Bologna giusto e si prepara Vincenzo Chianese Buonasera a tutti oggi mentre venivo in qua mi chiedevo ma cosa mi ha spinto a partecipare a una conferenza a Modena di sabato dopo essermi sparato 40 ore di lavoro durante la settimana in catena di montaggio peraltro come dire infatti in un orario scomodo si è saltato il pranzo sono cose importanti per me saltare il pranzo è una cosa che insomma faccio fatica è successo raramente e diciamo questa è stata la prima novità la seconda bella novità è stata invece quella di arrivare qui dopo aver passato alcune ore ieri sera con un compagno che era al corrente della cosa e che non mi ha avvertito di quelli che erano come dire i contenuti di questa assemblea ho letto solo il titolo e ho scoperto appunto che insomma finalmente si è deciso di prendere iniziativa e costruire una nuova area che a mio avviso era necessario e lo era da tempo perché come è stato detto da tanti compagni non è sufficiente insomma gridare alla luna bisogna che poi si fanno anche delle cose altrimenti ci limitiamo ogni quattro anni a fare i congressi a darci dei nomi con la maggioranza però poi diciamo nel mentre nei quattro anni che seguono a parte la nostra preziosa attività quotidiana di contrasto a determinate scelte c'è ben poco di organizzato a livello collettivo come aria e quindi io mi auguro diciamo che da qui in avanti si riesca a costruire un percorso magari prima fuori dalle fabbriche nei territori come veniva detto da qualcuno perché non è subito facile entrare e costruire e costruirlo questo percorso nelle fabbriche soprattutto lì dove come alla Ducati Motor siamo minoranza della minoranza ci sono fabbriche dove alcuni nostri compagni si stanno muovendo benissimo mi viene in mente Lima di Bologna la Bonfiglioli altre realtà magari del Modenese come la Motovario la stessa Ferrari dove a discapito di quello che il mio funzionario ha detto dei delegati della Ferrari i delegati hanno avuto un ruolo in quella che poi è stata la scelta dell'azienda di pagare per intero i lavoratori non so io in FIOM spesso sento parlare di fiducia quella fiducia cieca quella fiducia che devi avere a prescindere io la fiducia a prescindere ce l'ho in quei compagni con i quali ho condiviso un percorso dall'inizio quindi anche se non ho ascoltato la relazione introduttiva di Paolo perché sono arrivato mezz'ora dopo comunque mi fido mi fido e sono sicuro che ha detto delle cose che poi alcune sono state riprese da Grassi che condivido la centralità il cinismo il fatto che dobbiamo fare una nuova area cose che condivido perché poi alla fine io stimo i compagni che sono stati fino ad ora con noi nell'area però effettivamente è mancato diciamo quel percorso condiviso quella quel ragionarci assieme no e un po' su questo devo dire che mi sarebbe piaciuto saperlo prima per elaborare anche delle proposte delle cose prima parlavo di territori secondo me alcune battaglie bisogna riprenderle a partire dalla scuola da quello che raccontava Amid la ragazza che ha parlato prima una delle cose più violente che è stata fatta nella crisi è stata quella di chiudere le scuole bisogna dircelo io quando è successo io ho un figlio ho detto ma chissà se riaprono l'anno prossimo la prima cosa che mi è venuta in mente proprio perché non la legavo tanto al pericolo del covid ma al fatto che non volevano più istruire il mio figlio ed effettivamente tenere il bimbo a casa con la didattica a distanza non è stata una cosa semplicissima perché poi insomma noi siamo stanchi torniamo dal lavoro è difficile andare poi a trovare le energie per correggere i compiti assieme a lui una volta che li hai anche fatti assieme e quindi come dire c'è bisogno di ricostruire un percorso partendo dai territori per fare in modo di avvicinare anche quei lavoratori che dentro le fabbriche la pensano come noi però siccome sono in una condizione contrattuale ricattabile ovviamente le battaglie assieme a noi non le fanno precari partai in verticali tutte queste figure qui in Ducati Motor devo dire che a fabbrica ferma diciamo l'azienda e il sindacato si sono mossi bene a parte diciamo il controllo della temperatura che diciamo è stata una forzatura però a fabbrica ferma diciamo sono stati abbastanza tempestivi è stata anche una delle prime fabbriche che ha chiuso però a fabbriche in movimento non funziona così c'è il caos totale cioè noi l'altro giorno facevamo una riunione dove a riunione in corso cambiavano i volumi produttivi e cambiavano le giornate di agosto dove dovremmo saremo costretti a lavorare e cioè io capisco che come dire io non sono così radicale su questo allora io capisco che per raggiungere dei risultati e quindi anche dei soldini che poi servono per mantenere le nostre famiglie devi raggiungere determinati risultati però questo deve avvenire diciamo con criteri umani cioè nel senso che ai lavoratori li va detto il momento giusto non bisogna aspettare l'ultimo giorno per comunicare per esempio a un ragazzo con un contratto a termine se viene prorogato o meno bisogna fare un ragionamento prima di firmare un calendario del genere dove si passa da sei settimane a due tre quattro cinque a seconda del flusso dove lavori prima dicevo bisogna fare un ragionamento sull'occupazione sulla questione del PDR la questione che sarebbe osceno che magari in un anno come questo dove hai una perdita a due cifre percentuali magari c'è il dirigente che prende anche l'NBO il premio individuale aggiuntivo al PDR queste sarebbero le cose da dire in premessa io di tutte queste cose nelle riunioni che facciamo ho fatto fatica a sentirle e nell'ultima riunione che c'è stato sul calendario io ho detto solo due cose ho detto primo ho detto ci dovete dire se quei numeri di produzione che state facendo sono attendibili e alla fine della riunione ho detto bene avete detto che ci dobbiamo fare un culo così scusate il termine però adesso bisogna che andiamo dai lavoratori facciamo le assemblee e li facciamo votare perché se no non è che possiamo decidere noi e voi che si cambia un calendario di chiusura in agosto mi era perso di capire che questa cosa la doveva dire qualcun altro ma non è avvenuto e insomma è per questo che ci vuole un'alternativa perché poi quello che succede se no è che in questa struttura verticistica che non è solo aziendale ma è anche sindacale succede che pezzi di discorso vengono trattati in un altro luogo in un'altra sede e poi magari li impari man mano allora bisogna che cominciamo a comprendere che non solo ci serve una linea alternativa ma che per poter incidere su queste dinamiche bisogna che cresciamo perché lì dove siamo pochi vanno avanti così e poi hai voglia a te a dire ai lavoratori che è colpa dell'altro i lavoratori quando ti guardano dicono tu sei della FIOM quindi sei come gli altri quindi se non fai qualcosa di radicalmente diverso e ti esponi chiaramente per noi vali quanto valgono gli altri quindi fare però questa cosa qui in una fabbrica dove c'è tanta precarietà non è cosa affatto semplice ed è per questo che dico che come area dobbiamo tentare di organizzare delle iniziative che mettano in connessione tutti quei lavoratori e tutte quelle fabbriche che e tutti quei delegati che possono creare un percorso comune e condiviso ma veramente condiviso perché la fiducia torno su quel concetto l'hai quando ti poni degli obiettivi condivisibili e aggiungo anche realizzabili noi non dobbiamo fare sarebbe bello no la rivoluzione però prima di arrivare alla rivoluzione cominciamo a restituire ai lavoratori la dignità che meritano perché se prima non li facciamo tornare degli esseri umani e molti nelle fabbriche oggi si fanno calpestare la dignità troppo facilmente se prima non li facciamo tornare umani faremo fatica a farci dei ragionamenti e essere credibili alle loro orecchie perché oggi sono abituati ad un sistema e chiudo dove votano il delegato o si fanno rappresentare dal delegato che magari ha il ruolo di coordinatore perché quel delegato fa quella che è una politica democristiana passatevi il termine di risolvere il problema individuale li fa avere il superminimo il livello anche il superminimo che sarebbe una cosa unilaterale aziendale quindi te in questa condizione fai fatica a pur magari se non ho visto gli occhi dei lavoratori come una persona onesta fai fatica a portarti dietro i lavoratori quando tutto dipende da quelle logiche di connivenza che si instaurano tra persone diciamo che hanno un'altra visione del sindacato per essere legante grazie a tutti grazie Giuseppe ora il turno di Vincenzo Chianese dell'indotto FCA e si prepara Tommaso Ferragni della FDC buonasera compagni io penso che uno degli elementi essenziali di questa pandemia che questa crisi in cui siamo piombati è che sia stata praticamente qualcosa di riprodotta in modo molto simile in ogni nazione cioè il fatto che ci siano dovute essere lotte spontanee in tantissimi posti di lavoro di tantissime parti del mondo per lo stesso obiettivo cioè di poter chiedere di fermare la produzione per adeguare le misure di sicurezza e che poi come in Italia e anche in tante altre parti del mondo nonostante sia stata questa battaglia iniziale che si è arrivati poi alla crisi economica e magari con le stesse aziende che non volevano chiudere per dare sicurezza ai lavoratori dopo stanno chiudendo per calo di richiesta del mercato sia un elemento sostanziale che abbia messo di fronte ai lavoratori quelle cose che noi abbiamo sempre saputo quelle cose che tanti interventi prima di me hanno spiegato chi è in questa sala conosce bene ma che i lavoratori era plastica ed evidente e lo è stato in mondo visione praticamente questo elemento pensa sia uno degli elementi essenziali di differenza rispetto alla crisi del 2008 2012 anche il fatto che lì c'è stata già una prima andata adesso non c'è questa sorpresa e che adesso non c'è la facilità della classe padronale di utilizzare quella retorica dell'austerità che se qualcuno ci ha boccato e potuto servire in quella prima fase del 2008 2012 in questa fase assolutamente si è visto come il pareggio di bilancio che era un tabù europeo è stato sfatato anche questo nella fase del lockdown oltre all'altro tabù quello del blocco dei licenziamenti per legge insomma il fatto che ci siano stati anche da parte della controparte tanti diversi modi di porsi penso che abbia creato alcuni elementi differenti a questo compagni io penso che l'altra cosa essenziale è quella che non abbiamo più una classe dirigente del sindacato che riesce a essere ad utilizzare in qualche modo la concertazione per mantenere i lavoratori perché è una delle grandissime crisi in cui siamo arrivati perché compagni fino a prima di febbraio di gennaio cioè io penso che chiunque di noi parlava dello scollamento che c'è tra la base dei rappresentati e i rappresentanti nel sindacato del perché la CGL stava carando di tessere perché in FIOM dove io per esempio Milito sono un delegato c'era già l'anno scorso la discussione del crollo delle tessere il calo sotto la soglia psicologica dei 300.000 iscritti e del perché la segretaria generale doveva in sostanza dire che quella politica attuata sul rinnovo del contratto nazionale metalmeccanico uno degli sparti acque insomma come sempre che determina come si fanno i contratti nazionali in questo paese era sostanzialmente stata sbagliata ecco perché bisognava riprendere in mano e dare qualcosa di materiale ai lavoratori altrimenti questi non ti seguono certamente non seguono noi compagni questo elemento penso sono tutti elementi che si sommano perché come dicevano tanti altri compagni prima di me le crisi cicliche quantitative i peggioramenti quantitativi a un certo punto possono diventare anche qualitativi questo naturalmente compagni non significa che da settembre organizziamo le rivolte verso ottobre i soviet e se riusciamo a lavorare bene facciamo il ceno di Natale la rivoluzione magari riusciamo a coordinare entrambe le cose la questione è un'altra la questione è che abbiamo maggiore potenzialità perché anche questa volta è la Confindustria la controparte che deve suo malgrado coi suoi attacchi sta radicalizzando i lavoratori che è quello che all'epoca si riprodusse dal comparto a cui vengo io dopo dieci anni di gruppo Fiat e Mignetti Marelli ci hanno stato analizzato nell'azienda del vicepresidente di Confindustria Stirpe lui dopo dico altre cose ma erano quelle le dinamiche cioè una classe patronale conscia del fatto che la concertazione ha esaurito un patrimonio di diritti e di forza della classe lavoratrice una classe patronale che conscia la debolezza della controparte che prova andare all'attacco lì era la più grande azienda italiana che lo faceva da sempre all'avanguardia della controparte adesso stiamo vedendo come tutta la Confindustria lo fa senza nessun tipo di vergogna e come continuerà a farlo perché compagni al di là del lockdown guardate che già prima già a gennaio già appunto sul contratto dei metallomeccanici loro una visione altra di come si usciva dalla crisi ce l'avevano tant'è vero che davano se no 30 euro di nuovo in non so quanto tempo in busta paga ma ci mettevano 250 euro al lavoratore tra sanità previdenza complementare welfare aziendale eccetera eccetera un loro investimento lo stavano facendo adesso è calato ogni tipo di tabù e stanno provando ad utilizzare la crisi per aumentare ancora di più profitti che nessuno si scandalizzi il fatto che le aziende tutte hanno solo due interessi lo spiego sempre ai miei colleghi non c'è nessuna etica c'è solo che un'azienda fa bene o servizi per fare soldi e che l'anno dopo deve cercare di fare licenziamenti cassa integrazione riduzione e aumento del plus valore per fare ancora più profitti l'anno precedente basta questo è e l'esperienza della Grecia in cui la gente letteralmente si ammalava di malattie sconfitte da decenni e moriva di fame mentre alcuni le localizzavano in altre parti della Grecia per fare ancora più profitti è l'esperienza non del terzo mondo non di 60 anni fa ma di 4-5 anni fa in una parte d'Europa davanti a questo scenario noi abbiamo tantissime potenzialità in più e lo ribadivo prima non soltanto perché quando aumentano gli attacchi i lavoratori rispondono di conseguenza ma abbiamo mai avuto questa idea così meccanica di botta e risposta altrimenti da me avremmo fatto le rivolte in Italia la questione è quello che è cambiato il clima che è cambiato perché se magari noi siamo come dire degli appassionati noi non vediamo l'ora che ci siano ste rivolte allora questa aspettativa che noi proiettiamo magari ci fa avere un'analisi sbagliata potrebbe anche darsi però compagni cazzi non ho mai visto la Fiat che con uno sciopero di 100-150 persone su una catena di montaggio di uno stabilimento chiude tutti tutte i suoi 60-80 mila dipendenti in Italia e nell'arco di 5 giorni convoca tutte le parti persino l'unica cioè la FIOM che poteva provare a essere l'elemento deflagrante in un clima generale diffuso e prova a istituire dei protocolli e prova a fare un accordo che nella sostanza magari è meglio di tante altre aziende visto il vuoto legislativo e i non obblighi che hanno messo i vari protocolli allora vuol dire che forse non soltanto noi andiamo a cogliere quello che è il sentore e che le potenzialità sono determinanti anche come dire a livello della coscienza e le possibilità che queste possano poi decubblicarsi è capitato in Italia con l'esempio che ho appena fatto guardate che gli amministratori delegati di General Motors Ford ed FCA per terrore delle mobilitazioni negli USA hanno fatto un documento in cui sono più antirazzista loro che Black Panther negli anni 70 questa paraculaggide e cambio tattico della classe padronale dovrebbe insegnare qualcosa a quelle che sono le grandi organizzazioni del movimento operaio nella capacità di essere a un cambio tattico quando si determinano dei momenti che sono potenzialmente di rottura importante naturalmente in questa fase lo sappiamo tanto che continueranno sebbene il neo futuro segretario della UIL da una parte mentre dica che debba fare un patto proprio oggi dichiara che ci vuole una riduzione di lavoro a parità di salario naturalmente il corpo alla botta è quello al cerchio ma significa che anche altre parti sindacali hanno la percezione che bisogna cominciare a interloquire diversamente forse con i lavoratori naturalmente lo fanno su basi per poi dirottare il tutto al loro tipo di concertazione il problema è che quello che è mancato è che questa crisi del sindacato ha prodotto che non ci sono più questi spazi concertativi che se continui ad andare appresso al perimetro aziendale il perimetro l'aziendale lo restringe sempre di più e ce lo stanno spiegando persino col PDR perché non è a caso io mi trovo in quello che diceva Paolo Obrini lui diceva nelle serie di stanze della Confindustria stanno parlando di togliere dal mezzo il premio di risultato io ho in azienda in discussione questa esternalizzazione non abbiamo mai fatto un premio di risultato siamo sempre riusciti a strappare una tantum ogni anno quest'anno l'azienda si è chiusa rispetto agli anni scorsi un'azienda dove il vicepresidente di Confindustria nel precedente mandato era molto più dialogante e concertativo in quest'anno con la nuova corrente in cui però mantiene il ruolo delle azioni con i sindacati evidentemente deve essere riallinearsi e allora da una parte fanno i test sireologici non naturalmente di coordinati con la regione con l'ASL perché evidentemente serviranno a dire che se arriva una futura pandemia a ottobre un'altra ondata siamo tutti stati a contatto con il virus quindi siamo tutti immunizzati e possiamo continuare a lavorare tanto prima ci ha accolto di sorpresa ma abbiamo pure le mascherine quindi che vogliamo di più dalla vita dall'altra parte che è premio di risultato l'azienda si chiude completamente non vuole dare nemmeno un quarto di quello che ha dato l'anno scorso sebbene a luglio ci sia un'impennata noi siamo multicommittenti lavoriamo per Maserati Volkswagen Fiat Alfa Romeo ci sia un'impennata a luglio si prevederebbe che forse si riesce a recuperare anche nei prossimi mesi io ho fatto un conto matematico all'azienda scusate ma ora qua abbiamo avuto il problema per tre mesi su dodici tre dodicesimi e un quarto voi volete togliere un quarto del premio no si parla di azzeramento allora è evidente il cambio di fasi infatti c'è incazzatura in mezzo ai lavoratori l'altro giorno nel cambio turno hanno preso il delegato della CISL quello più rappresentativo non soltanto i miei iscritti ma anche i suoi trovati iscritti alla Fismic per esempio a contestarlo fortemente in un'azienda in cui sono la minoranza e la minoranza questi elementi embrionali ci danno la possibilità di quello che può essere dopo fasi anche rutinarie anche di vertenze viene in mente la Whirlpool di Napoli per esempio che magari potrebbe essere un'azienda rutinaria un'avvertenza rutinaria compagni ma se non c'è il blocco dei licenziamenti non è la singola multinazionale che delocalizza diventa un problema generale da una parte e dall'altra parte le aziende come la Minia che dicono finalmente è tornato il lavoro quindi ad agosto sacrifici facciamo forse due settimane di chiusura e a scorrimento nei vari reparti perché dobbiamo ringraziare che è tornato il lavoro e bisogna riprendere a settembre già si parte con i 20 turni e vado a chiudere e abbiamo di nuovo quella ricetta che era la stessa dei padroni prima di uscire dalla insomma è uscire dalla crisi prima di entrare nel lockdown cioè di licenziare da una parte e poi far fare turni massacranti che recuperano anche quella parte di lavoratori in meno che si acquisisce e si aumenta di più nel frattempo mentre abbiamo i tagli e licenziamenti con altri lavoratori allora io penso a questo punto compagni ci può essere quelli bisogni materiali che dopo mesi e anni di arretramenti e dove i tentativi dei singoli lavoratori a provare a avere risposte individuali non riusciranno più a tenersi perché non avranno più nulla di sacrificabile nemmeno la retorica da me in campagna in cui si dice guardate se l'unica fabbrica che lavora ringraziate fuori c'è il deserto nemmeno quello a quel punto basterà allora compagni per allora noi dobbiamo essere predisposti all'idea che ci possono essere cambiamenti di coscienza anche abbastanza repentini sulla base di queste esigenze e andare a interlocuire con quelle persone significa avere la possibilità di essere oggi un'area di minoranza e della minoranza ma che domani può avere facilità a interlocuire con questi elementi ed essere prevista come punti di riferimento perché quando poi il lavoratore ha il problema materiale e vuole un interlocutore che mi provi a fare per davvero non dargli la retorica a quel punto ti testa sul campo e a quel punto i dirigenti che in 30 anni di concertazione hanno fatto altro che autoreferenziarsi per i tavoli avranno un problema a riuscire a dare quel tipo di risposte se riusciamo a provare a sedimentare per allora possiamo riuscire a essere un elemento di pungolo e chiudo sul fatto che per esempio io penso che dovremmo anche chiedere all'interno della CGL come discussione generale per la percezione che la Confindustria torna a essere veramente i padroni e veramente la controparte che li sta attaccando anche nei delegati almeno quello che è sul mio territorio anche delegati in buona fede vicino alla maggioranza io penso che dovremmo provare a chiedere alla CGL una campagna di assemblee e di ritornare a fare direttivi in presenza per discutere con i lavoratori di quello che sarà in autunno perché se da quell'altra parte loro hanno sempre avuto un'altra visione di quello che è l'uscita dalla crisi e la stanno dimostrando da ogni occasione da mesi dobbiamo anche noi provare a proiettare come dovrebbe essere una risposta organizzativa che un sindacato dovrebbe dare in mezzo ai suoi organismi dirigenti parlo naturalmente dei delegati e gli attivisti ho allusioni verso i gruppi dirigenti alti e nelle fabbriche che se non viene recepita ci dà elementi comunque di discussione per avere una contraddizione importante in mezzo ai delegati e ai direttivi e ci dà la possibilità quando poi questi attacchi si ripercuoteranno di poter dire guardate che lo stiamo dicendo già da mesi di quello che avrebbe dovuto fare la CGL non stiamo sulla lista dei desideri ma stiamo semplicemente su quello che è una legittima difesa perché chiudo io ho detto qualche settimana fa alla mia segreteria guardate io sarò pure uno che campa fuori dal mondo sarò pure uno l'uso che campa di ideali però voi mi dovete spiegare questa mancanza di rapporti forza quando finalmente poi si palesa perché non la si sfrutta da una parte e dall'altra parte questo governo e questa confindustria che non perde occasione per spiegare che il profitto è la cosa essenziale come faccia a legittimare la controparte per essere di pari grado quando abbiamo visto quello che ha fatto il codice Ateco ditemelo pure a me sto film a Rostava Gabriele Puri grazie Vincenzo ora è il turno di Tommaso Perani si si capiva della FLC della Statale di Milano e si prepara poi Francesca Esposito Buonasera compagni dire qualcosa di originale intelligente a questo punto dell'assemblea è un'opera molto difficile cercherò di raccontare qualcosa della mia esperienza io sono RSU alla Statale di Milano e in questo periodo di lockdown siamo riusciti a ottenere qualche risultato soprattutto in termini di lavoro agile che poi alla fine agile non è ma qui ne parliamo con un secondo siamo riusciti appunto a io mi ricordo un tavolo di contrattazione il 28 febbraio in cui stavamo ancora discutendo se potevamo fare sei giorni al mese di lavoro agile e con il direttore generale che diceva che la parte sana dell'Ateneo era quella che lavorava in presenza quindi diciamo che l'atteggiamento non era proprio dei migliori alla fine siamo riusciti a ottenere lo smart work in 5 giorni su 5 e l'unica cosa che ci ha permesso di ottenere questo risultato è stato quello di coinvolgere i lavoratori è stato l'unico l'unica vera leva di far uscire gli accordi le 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 discussioni che si avevano al tavolo di trattativa farle uscire e riportarle ai lavoratori e alle lavoratrici poi nel momento più acuto della crisi questo è stato qualcosa che ha salvato possiamo dire anche salvato delle vite perché è vero che l'università si mette a ha creato diciamo dei protocolli per garantire la salute la sicurezza sul luogo di lavoro però in un ateneo come quello di Milano che ha un bacino di utenza gigantesco il problema era anche quello di recarsi al lavoro cosa che non è mai stata non è mai stata presa in considerazione e una cosa interessante che mi ha abbastanza colpito è che mi sono ritrovato in io lavoro appunto in un'università pubblica in un settore pubblico mi sono ritrovato in tanti racconti anche di compagni che lavoravano che lavorano in situazioni del privato in aziende private perché questa parcellizzazione dell'istruzione pubblica con l'autonomia scolastica addirittura peggio ancora è l'autonomia universitaria dove le università sono una contro l'altra cercare di accaparrarsi più studenti possibile per aumentare le tasse che si ricevono e anche i ranking internazionali quindi è una lotta una contro gli altri siamo e adesso per l'estate anche da noi si iniziano a fare discorsi di dobbiamo aprire far vedere quando non c'è nessuno però bisogna aprire aprire le biblioteche perché devono andare gli studenti adesso proprio devono andarci e tutto questo sono opere d'immagine però fatte sulla pelle dei lavoratori e noi abbiamo bisogno di un'area che sappia non solo spingere cungolare verso il sindacato confederale ma anche che recuperi un rapporto con i lavoratori e nel mio settore particolare non solo con i lavoratori e le lavoratrici ma anche con gli studenti e le studentesse perché questo è un passaggio fondamentale perché i nostri interessi non sono divergenti noi dobbiamo costruire e rafforzare il rapporto con gli studenti questo delle biblioteche è un esempio banale da una parte gli studenti alcuni rappresentanti chiedono delle cose dall'altra ci sono i lavoratori che chiedono delle altre cose noi non possiamo permettere di venire messi in contrapposizione da qualcuno che si sta comportando un po' anche qui mi viene in mente come quello che fa un po' Confindustria noi abbiamo il ministro della scuola lo vedete tutti i giorni sui telegiornali e i giornali su Facebook essere imbarazzante il ministro dell'università non si vede mai è un ministro ombra che sta nascosto che non parla con la non parla con i sindacati parla solo con i rettori l'altro ieri era a Milano tutto un po' in segreto c'era solo un sacco di digos che parlava con i rettori dell'università lombarde perché alla fine non è è come se fosse invece di essere il ministro dell'istituzione è come se fosse il capo di Confindustria dell'università il capo della CRUI la conferenza dei rettori e quindi questo per fare del lavoro sindacale unitario è molto difficile rendere le cose molto difficili perché le università si nascondono dietro l'autonomia e non si riesce a fare un fronte comune però noi abbiamo bisogno di una nuova area che sappia chiedere delle cose importanti maggiori finanziamenti sia alle scuole ma anche all'università sia ai docenti ma anche io sono della parte sfigata della parte sfigata dell'FLC quindi la parte del personale tecnico-amministrativo delle università sappia chiedere dei fondi ma anche che sappia chiedere una visione diversa l'università l'istruzione deve essere pubblica e l'istruzione pubblica deve essere gratuita a tutti i livelli è qualcosa che noi dobbiamo chiedere e chiedere con forza e sul lavoro agile è stato diciamo uno strumento salvavita all'inizio ma poi si è dimostrato una gabbia perché lavoro agile non era lavoro agile era neanche telelavoro perché il telelavoro almeno ti pagano la strumentazione hai dei costi sei coperto anche della la sicurezza della postazione di lavoro invece questo è stato un lavoro da casa in cui la gente continuava a lavorare con la paura poi di passare per lo statale che non fa niente che è in vacanza come ha detto anche il sindaco di Milano l'altro giorno è ora di tornare a lavorare noi in questo periodo abbiamo lavorato come dei matti io mi occupo di progetti di ricerca ogni singolo ente ha fatto uscire un progetto un bando di ricerca nuovo sul covid siamo pieni di lavoro fin qui e questa è proprio la perdita della dignità del lavoro delle persone quindi benvenga un'area nuova è un'area che sappia stringere un rapporto vero con i lavoratori che non proclami degli scioperi dopo anni o mesi di latitanza come è successo l'ultimo sciopero della scuola sparisci per tutto un periodo e poi proclami lo sciopero è ovvio che non viene nessuno ma chi sei perché mi devi cosa vuoi da me non mi hai mai difeso non mi hai mai chiamato da nessuna parte e adesso devo venire a fare lo sciopero per te quindi noi dobbiamo agire in questo senso e nonostante le difficoltà secondo me potremo avere degli ottimi risultati grazie grazie mille Tomaso no faccio così perché se no mi arriva tutto in bocca sta a fare allora adesso è il turno di Francesca Esposito della ATM di Milano e anche direttivo Filt della Lombardia e si prepara Domenico Minadeo compagni io volevo porre al centro del mio intervento la questione sulle prospettive perché credo che sia fondamentale partire da questo visto che anche sentendo gli interventi dei compagni diciamo che sono stati invitati diciamo della Camera del Lavoro e siamo tutti d'accordo appunto sull'analisi però credo che se siamo d'accordo sull'analisi è fondamentale capire anche quali saranno le prospettive perché altrimenti si rischia di essere dei meri spettatori degli avvenimenti o peggio ancora quello che purtroppo abbiamo visto accadere soprattutto negli ultimi trent'anni intervenire come sindacato solo a giochi già fatti quindi per cercare di salvare la pelle nella migliore delle ipotesi ora a cosa mi riferisco quando intendo appunto la questione delle prospettive intendo che l'emergenza covid ha chiaramente messo alla luce quelli che sono appunto i limiti del funzionamento di questo di questo sistema e mi riferisco soprattutto al fatto che i lavoratori hanno preso atto che per i padroni vengono prima i profitti e come ultima come ultimo interesse la salute dei lavoratori e questi lavoratori appunto l'hanno capito benissimo che i lavoratori un aspetto centrale sono appunto fondamentali nella produzione noi amiamo spesso dire che appunto non si accende una lampadina senza il lavoro dei lavoratori degli operai e non sicuramente grazie ai padroni e che il sistema appunto lo diceva anche Paolo nel suo intervento è estremamente collegato a livello internazionale perché noi quello che abbiamo visto e raccontato delle giornate di marzo in Italia è quello che poi è accaduto a livello internazionale abbiamo citato spesso l'esperienza di Amazon negli Stati Uniti piuttosto che della General Electric e tutti uniti appunto in questa lotta rispetto a rispetto a un problema comune che era quello appunto della sicurezza della propria salute della mancanza di dispositivi e questa coscienza che i lavoratori hanno preso in Italia di cui abbiamo raccontato è una presa di coscienza generale generalizzata a livello internazionale questo è un aspetto fondamentale che appunto è stato già detto da diversi compagni che apre una fase completamente nuova appunto nelle prospettive che cerchiamo di spiegare ora il compagno Giova credo Giove ha detto che diciamo non diamo un po' fastidio cioè va bene che diamo fastidio noi non vogliamo dare fastidio cioè noi non vogliamo dare fastidio in CGL noi vogliamo essere ascoltati e vogliamo che le nostre rivendicazioni la nostra analisi le nostre prospettive le nostre parole d'ordine diventano egemoni in questo sindacato cioè non è una questione di essere un piccolo gruppo che decide di costituirsi in un'area di opposizione in CGL che vuole fare il pungolo alla dirigenza di questo sindacato noi vogliamo che le nostre idee siano in primo piano perché queste sono le prospettive allora se siamo tutti d'accordo che l'analisi è quella che abbiamo davanti di una prospettiva devastante dal punto di vista economico di salute salariale di diritti di sicurezza dobbiamo essere conseguenti cioè non ci accontentiamo di essere appunto degli insetti fastidiosi che stanno all'interno di un apparato sindacale e questo deve essere ben chiaro e se appunto è già stato spiegato e non capiamo che appunto la classe operaia in questo periodo in questa fase storica qualunque cosa accada all'interno del sistema produttivo per cui si parla di divisioni cioè io francamente sono anni che milito in sindacati e partiti appunto di sinistra e cioè il let's motive è sempre lo stesso è sempre uguale è sempre uguale i lavoratori non partecipano i lavoratori sono divisi i lavoratori non ci sono quando vengono chiamati per i mille motivi no? veniva detto cioè le cause sono sempre esterne e mai interne e cavolo poi cioè i lavoratori si iniziano a muovere e di nuovo ci sono i problemi e di nuovo c'è il problema che appunto le aziende sono divise in centinaia di cooperative che è difficile unirli no non è difficile noi al congresso l'abbiamo chiesto chiaramente con gli ordini del giorno l'abbiamo chiesto e ci sono stati bocciati dalla maggioranza di internalizzare questi lavoratori e questa cosa non è stata capita probabilmente e probabilmente non so se verrà capita anche nel prossimo periodo perché le soluzioni quando ci sono questi problemi esistono esistono e vanno affrontate è chiaro che se noi abbiamo una situazione in cui il segretario Landini dice che c'è l'emergenza e il governo deve decidere se deve chiudere le aziende noi al massimo decidiamo come chiudere cioè è chiaro che voglio dire cioè questa è proprio una capitolazione rispetto a quelli che sono gli obblighi di un sindacato di questo di questo tipo se De Palma è il responsabile del settore auto per la FIOM dice che se diamo le garanzie a FCA per il prestito di 6 miliardi e 300 milioni questo può aprirci delle prospettive di dialogo con il governo con i padroni cioè è chiaro che voglio dire si sta andando verso quello che appunto i lavoratori non stanno chiedendo cioè la collaborazione con i padroni cioè questa è la sostanza che alla fine ci porta appunto a prendere le decisioni che stiamo prendendo piuttosto il segretario nazionale della mia categoria della Filt che dice i lavoratori non hanno bisogno di contratto nazionale hanno bisogno soltanto di difendere il posto di lavoro cioè vuol dire che non hanno bisogno di salario non hanno bisogno di diritti non hanno bisogno di sicurezza non hanno bisogno di niente cioè c'è da discutere soltanto come salviamo come concertiamo qualche posto di lavoro cioè questa è una totale capitolazione ai compiti per i quali un sindacato è chiamato e questo dobbiamo dirlo a gran voce in tutte le occasioni che abbiamo e dobbiamo mettere il nostro sindacato nella ottica che queste sono delle prospettive sbagliate sono delle cose che inevitabilmente porteranno alla capitolazione anche perché quelle che noi abbiamo citato le lotte di marzo sono le lotte che poi sono uscite sui giornali però di lotte i lavoratori durante l'emergenza ne hanno fatte tantissime adesso ci sono stati tantissimi interventi che hanno raccontato le proprie esperienze che non sono uscite sui giornali ma che sono state comunque delle battaglie che i lavoratori delegati hanno condotto nei posti di lavoro o anche semplicemente i lavoratori auto-organizzandosi nella mia azienda la TME di Milano che è questa grande azienda che appunto secondo il sindaco Sala è l'eccellenza di Milano cioè si è andata avanti con un personale viaggiante mandato al massacro al macello completamente senza dispositivi di sicurezza senza distanziamento senza nulla alla fine duemila lavoratori si sono messi in malattia per opporsi appunto a questo tipo di situazione piuttosto che hanno iniziato a fare dei grandi movimenti non diciamo organizzati sotto forma di sciopero ma sicuramente di pungolo feroce contro le organizzazioni sindacali e alla fine i dispositivi di sicurezza sono arrivati così come potrei citare anche i compagni degli appalti ferroviari che hanno fatto la stessa cosa rispetto alla necessità dei dispositivi di sicurezza ci sono state tantissime battaglie che poi magari non hanno trovato spazio diciamo a livello generale però appunto questo era lo stato d'animo dei lavoratori ora anche in attieme c'è stato questo tipo di situazione in cui appunto la congestione già viene da anni da noi perché appunto c'è spesso purtroppo il sindacato si confonde tantissimo con la dirigenza aziendale tant'è che alla fine durante tutta l'emergenza non c'è stata né un'assemblea neanche online ma semplicemente i coordinatori dei delegati si limitavano a girare i comunicati dell'azienda cioè questo è stato diciamo il nostro interfacciarsi col sindacato però l'ATM è un'azienda che negli scorsi anni stiamo parlando di tanti anni ma comunque è un'esperienza significativa che c'è stata nel 2003 cioè questo passaggio appunto di autoconvocarsi di autogestirsi l'hanno fatto ma non l'hanno fatto con i sindacati confederali che già allora erano discreditati già allora avevano perso parecchio terreno tra i lavoratori e lo fecero con i sindacati di base con i Cobas e anche lì i Cobas purtroppo dimostrarono il loro limite nel condurre diciamo questa battaglia diciamo a livelli un po' più alti quindi nel coordinare la lotta nel gestirla diciamo insieme anche ad altre categorie che si erano avvicinate alla lotta degli auto ferro tramvieri però questa situazione qua noi ce la ritroveremo nel prossimo periodo noi ce la ritroveremo ancora e chiaramente quello che noi chiediamo al nostro sindacato la CGL al gruppo dirigente e lo faremo e lo faremo con forza l'altro che dare fastidio lo chiederemo con grande forza e lo porremo davanti a tutti i lavoratori e quello che queste esperienze ritorneranno e che quello che noi vogliamo è che questa volta i sindacati abbiano un ruolo non soltanto dirigente ma che vadano veramente verso le prospettive che abbiamo già lungamente delineato grazie Francesca ora sta Domenico Minadeo RSU FIOM della Metal Targhe di Bologna e dopo di lui si prepara Antonio Maccariello ciao a tutti i compagni e aggiungiamoci anche membro del direttivo provinciale FIOM a Bologna giusto per dire io la prima cosa che vorrei dire non devo fare le conclusioni però penso che questa assemblea debba rendere orgogliosi tutti i partecipanti e orgogliosi perché credo che oggi qui e un parte anche sopra chi ci ha seguito da casa noi abbiamo raccolto le migliori forze che il movimento operaio italiano ha messo in campo nelle giornate di marzo e metterà in campo nel prossimo futuro almeno io personalmente mi sento molto orgoglioso di aver partecipato a questa assemblea il mio intervento si vuole concentrare su una questione che veniva toccata anche nella introduzione quando si diceva che le giornate di marzo hanno visto protagoniste i lavoratori delle una parte diciamo così dei lavoratori soprattutto concentrati nelle grandi aziende ma io posso assicurare che quella lotta era condivisa dalla stragrande maggioranza dei lavoratori erano tutti compatti in quelle giornate a voler scioperare e lo posso dire anche perché sono appunto delegato di un'azienda molto piccola della provincia di Bologna siamo in 20 mettendoci anche gli impiegati quindi insomma in produzione siamo veramente pochi e io in quei giorni lì ho visto la necessità dei lavoratori di poter esprimere la loro rabbia di fronte al fatto che si registravano moltissimi contagi molte morti sui posti di lavoro e noi eravamo costretti a lavorare in un reparto appunto metalmeccanico che non era sicuramente essenziale e ho trovato la forza di poter fare anche in quelle condizioni una assemblea all'aperto ho preso io la responsabilità che non c'era nessuno che me l'ha detto non me l'hanno detto però io ho visto i miei colleghi ho detto facciamo un'assemblea discutiamo di queste cose che sono le nostre necessità in questo momento e ho fatto l'assemblea più partecipata sono 12 anni che lavoro lì è stata la più partecipata la cosa che mi ha colpito c'è una ragazza che è stata assunta da poco è una mamma di un bimbo di un anno lei approfitta della pausa per andare a vedere il figlio quel giorno si è fermato ha detto no Domenico io mi fermo qua non vado da mio figlio non so se lo doveva allattare però insomma lei ha la necessità di andare ha detto io mi fermo qua perché devo discutere di questo oggi e se in quell'azienda non si è arrivata allo sciopero sto parlando appunto di un'azienda piccolina è solo perché non si è vista la determinazione dell'organizzazione della CGL a proclamare lo sciopero perché se no altrimenti mentre l'altra volta ho fatto sciopero da solo quella volta sono sicuro che quella fabbrica si sarebbe fermata questa è stata la grave pecca di quei giorni sono stati i lavoratori e in condizioni in cui loro non si sono sentiti di scioperare erano sicuramente molla solidali e erano con quelli invece che scioperavano materialmente in quei giorni è stato il sentimento della classe operaia in toto che aveva il sentimento in quel momento lì di farsi sentire di far scioperare di organizzarsi e per far valere chiaramente la salute al di sopra dei profitti invece che i pradorini hanno messo in prima in prima linea e allora da questo punto di vista io credo che quello che noi il compito che noi abbiamo davanti quando appunto noi sfidiamo i vertici della CGL dicendo che noi facciamo una nuova una nuova area è perché quella determinazione che noi abbiamo avuto abbiamo visto in quei giorni è ancora viva qualcuno diceva negli interventi siamo in una situazione eccezionale chi non lo capisce sarà meglio che lo capisce e lo siamo in una situazione eccezionale io ho riportato una cosa diciamo così a livello personale in una riunione che abbiamo fatta a Bologna il 31 di maggio è il compleanno del mio cugino vi racconto un po' di cose perché per farvi capire la rabbia che c'è nella società mio cugino ha la mia stessa età quindi un po' avanzata tre anni fa è stato costretto ad emigrare è nonno tutti gli altri anni il 31 di maggio noi parliamo della famiglia cosa fai cosa non fai discorsi che fanno un po' tutti mese scorso lui tutto la mezz'ora insomma che ci siamo dedicati è perché lui voleva andare a fare l'assalto alla regione e io a dirgli guarda non è questo il miglior modo diciamo così per risolvere la situazione quelli che sono i problemi cocenti delle persone degli operai in generale non è quello di questo ho dovuto discutere quest'anno è una persona mite molto mite è sempre uno che aiuta gli altri e invece parlava di questo e di fatto mi sono stupito quando ho chiuso il telefono quel giorno ma però questo ci deve dare l'idea noi possiamo pensare che quella rabbia che non verrà fuori certo che verrà fuori non mi ricordo adesso qual'intervento se lo sanno i padroni lo sanno i seri seri lo dobbiamo sapere anche noi allora secondo me il combito che noi avremo quest'autunno che tutti preannunciano e sarà sicuramente un autunno insomma in cui il protagonismo ritornerà quest'area deve aiutare i lavoratori perché il tempo del riformismo è finito in autunno la domanda centrale che noi dovremmo fare nelle fabbriche e che io in parte ho già cominciato a fare nella mia è chi comanda qua chi è che tutela in maniera migliore i diritti dei lavoratori noi autoorganizzandoci o il padrone io ho una domanda che ho fatto ai miei colleghi e non mi hanno detto di no ci sono fermati a riflettere ho detto ma se non ci fosse lui noi saremmo in grado di far andare avanti questa fabbrica sono fermati a riflettere non mi hanno detto Domenico cosa stai dicendo se non c'è lui qua non funziona niente no non ha detto così si sono fermati a riflettere che hanno capito che forse questo chiaramente sto parlando in quei giorni in cui era molto più evidente a marzo era molto più evidente lui chiaramente aveva tutto l'interesse perché noi andassimo a lavorare e noi invece eravamo schierati dalla parte opposta però no e c'è stato un cambiamento totale sto parlando appunto di un'azienda in cui molto spesso diciamo così i lavoratori sono stati assunti perché forse si sono anche dovuti inchinare al padrone mi sono venute in mente le immagini del 68 appunto della fabbrica della marzotta scusate se mi dove appunto la donna tirano giù la stato del padrone insomma che faceva anche la papà questo è il momento che stiamo per cui noi il compito che avremo è di far fare e di dare maggiore fiducia ai lavoratori nel dire che forse senza quella minoranza di padroni che vivono nel nostro sfruttamento le fabbriche possono funzionare anzi le faremo funzionare meglio io ho riguardato loro quante volte ci lamentiamo che l'organizzazione non è quella giusta che ci impartiscono delle ci impartiscono appunto degli ordini che in realtà non sono compatibili con quella che è la nostra diciamo condizione di lavoro questo è quello che noi dovremmo fare dovremmo mettere in campo e quindi dovremmo aiutare i lavoratori a auto-organizzarsi a fare in modo che le assemblee di reparto l'assemblea che noi facciamo normalmente all'interno del posto di lavoro diventi l'assemblea invece di gestione dell'azienda perché noi sappiamo come funziona come funziona l'azienda questa area se avrà un modo per esistere dovrà essere riconosciuto come l'area del controllo operaio cioè dove i lavoratori direttamente si riuniscono in assemblea e decidono cosa fare e lo sanno fare perché già lo facciamo adesso è un piccolo salto di coscienza che in determinati momenti i lavoratori lo fanno e noi dovremo essere in grado di indicarlo questo è l'essenza diciamo così della 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 militanza di noi comunisti che facciamo anche che facciamo anche 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 sindacate e credo che questa appunto come dicevo prima è l'assemblea in cui queste cose vengono e le sapremo sicuramente insomma portare avanti nel migliore dei modi per cui compagni avanti alla lotta il futuro è nostro grazie domenico il prossimo intervento è quello di Antonio Macariello e il resto è un figlioli dopo di lui si prepara Loredana Donnici e poi abbiamo un altro intervento ancora poi abbiamo finito e passiamo alle conclusioni salve a tutti i compagni perdonerete un poco di emozione ma è la prima volta che mi ritrovo a parlare davanti a una platea di questo genere io sono da poche settimane cioè sono entrato nell'RSU della mia azienda c'è la buon figlioli motoriduttori uno dei motivi principali che mi ha spinto a candidarmi a fare militanza attiva nel sindacato è stato proprio vedere nelle giornate di marzo appunto un sindacato assente molti colleghi in quei giorni ci chiedevano a me che ero diciamo che sono che ero all'epoca un operaio tra i più sindacalizzati e i delegati cosa fare cosa muoversi cioè come muoversi c'era proprio diciamo un po' di di disorientamento cioè uno e quindi uno dei motivi che mi ha spinto a candidarmi è stato proprio questo l'assenza cioè il sindacato non guarda più alle esigenze dei lavoratori ma da quello che sembra pensa più alle esigenze dei padroni quest'area che si va a formare ha messo al centro due punti molto essenziali la nazionalizzazione e il controllo degli operai in Italia l'ultima volta che c'è stato una discussione sulle nazionalizzazioni è stato attorno all'esplosione della crisi dell'inva e del crollo del ponte Morandi cioè queste queste poi sono state portate avanti in maniera molto molto fugace e quindi allora ci si è limitati ad evocare un generico controllo pubblico la nazionalizzazione invece deve comportare l'esplosione dell'azienda sotto il controllo dei lavoratori e senza indennizzo durante le giornate di marzo abbiamo visto tutti che c'è stata l'arroganza di Confindustria che assolutamente non voleva chiudere le aziende e mettere al centro solo i loro profitti l'abbiamo visto poi cosa ha comportato con tutti i danni che ci sono stati in Valseriana però in quei giorni c'è stata da parte dei lavoratori una una forte crescita della della loro coscienza e del del loro del loro ruolo che occupano nella società quindi la questione essenziale è cioè il controllo del controllo operario appunto gli operai hanno preso appunto coscienza di questa cosa nelle giornate di marzo e io credo che grazie a quest'area che si sta formando all'interno della della FIOM e del sindacato si possano portare avanti queste cose cioè la il controllo operaio che non deve non può essere separato dalla proprietà che finché resta in mano ai capitalisti ai padroni non non baderà mai alle necessità sociali ma esclusivamente ai profitti quindi quindi come quindi il controllo operaio non va inteso come una forma di collaborazione con la borghesia ma serve a sfidare la borghesia cioè bisogna strappare il comando in fabbrica e all'interno dello Stato anche significa contrapporre il potere dei lavoratori a quello dei padroni io penso che la classe operaia nel nostro paese abbia preso veramente coscienza di queste cose e con la costruzione di questa nuova area la lotta si potrà portare avanti senza alcun dubbio niente ringrazio tutti per avermi fatto intervenire grazie grazie mille Antonio ora do la parola a Loredana Donnici dipendente del Rizzoli della Sanità di Bologna e dopo di lei si prepara Giovanna Benitez per l'ultimo intervento salve a tutti i compagni e compagne sono molto contenta di aver partecipato a questa assemblea veramente molto interessante molto formativa per quanto mi riguarda perché diciamo che la mia adessione a sinistra classe rivoluzione è alquanto giovane sono nel movimento da novembre e sono veramente contenta insomma di far parte della tendenza marxista internazionale la mia esperienza cioè parto comunque dalla mia esperienza una diciamo personale di come ho vissuto comunque l'emergenza sanitaria del coronavirus come l'abbiamo vissuta soprattutto all'interno diciamo del mio posto diciamo di lavoro del mio luogo di lavoro io lavoro come assistente amministrativo e quello che diciamo abbiamo vissuto proprio sulla nostra pelle è proprio diciamo l'appello che è stato fatto cioè noi lavoratori non siamo carne da macello però all'inizio è quello che invece ci siamo sentiti cioè proprio carne da macello buttati lì senza dispositivi anche in un ospedale quindi questo è stato diciamo molto grave a mio avviso perché comunque c'è l'ospedale doveva comunque essere cioè Rizzoli doveva comunque essere un luogo diciamo dove i lavoratori venivano protetti invece all'inizio quello che abbiamo comunque diciamo verificato proprio sulla nostra pelle è che comunque non c'erano i dispositivi tipo le mascherine il gel erano impreparati le direzioni erano veramente impreparate e hanno diciamo agito in maniera molto superficiale all'inizio quindi ci sono stati molti contagi all'interno dei Rizzoli e il Rizzoli è stato praticamente visto proprio su articoli comunque di giornali come diciamo uno dei luoghi quasi un lazzaretto cioè all'inizio ci sono stati tantissimi contagi e naturalmente poi dopo insomma la situazione comunque è andata definendo se sono arrivati i dispositivi e tutto però per quanto ci riguarda per esempio come amministrativi dicevano che comunque noi non avevamo diritto alle mascherine quindi insomma c'è stata comunque una lotta anche diciamo all'interno diciamo del mio servizio dove comunque noi abbiamo richiesto anche noi le mascherine perché per esempio nel mio ufficio non c'era comunque la distanza di sicurezza se all'interno comunque di un ufficio dovevano esserci al massimo due persone noi eravamo comunque quattro diciamo a lavorare in quell'ufficio dove non c'era praticamente la distanza di sicurezza di un metro senza mascherina e all'inizio comunque ce la siamo comunque portate portate da casa quindi per dirvi insomma quello che è successo cioè proprio sulla nostra pelle l'abbiamo vissuto diciamo profondamente la crisi poi c'è un'altra cosa che voglio dire comunque sempre dal mio punto di vista personale della mia esperienza proprio che l'ho vissuta sempre sulla mia pelle è stato diciamo anche l'attivazione poi dello smart working che non è avvenuta subito quindi noi il mese di marzo comunque siamo andati a lavorare in piena emergenza sanitaria senza comunque i dispositivi di protezione continuo a ripetere e in aprile è attivato si è attivato lo smart working per quanto mi riguarda lo hanno definito smart working ma a mio avviso non c'è niente di smart non c'è niente di piccolo in quel in questo diciamo in questo lavoro soprattutto per chi ha una famiglia e per chi è mamma per esempio come me perché comunque nel diciamo nella gestione diciamo proprio quotidiana quindi della giornata lavorativa oltre diciamo a gestire quindi il lavoro le chiamate dal lavoro e tutto il lavoro bisognava comunque gestire anche i ragazzi con le video lezioni con i compiti e quant'altro quindi c'è comunque e anche c'era anche il diritto alla sconnessione perché comunque c'è anche la pausa c'è molte volte le pause cioè io non le facevo perché comunque continuavo a lavorare all'oltranza fino alle 5 cioè io ho lavorato anche di più cioè delle mie 7 ore e 12 le facevo anche 8 e anche 8 e mezza quindi c'è alla fine c'è di smart cioè non c'era proprio nulla all'interno ce l'hanno chiamato così smart working ma per le a mio avviso per le donne è stata anche un'arma ancora di più a doppio taglio per quanto mi riguarda soprattutto se uno deve gestire ripeto dei ragazzi deve gestire una famiglia e deve gestire insomma tutto quello che è intorno un'ultima cosa cioè quindi diciamo che le due esperienze che ho vissuto veramente c'è proprio sulla mia pelle è veramente c'è quest'appello cioè che noi lavoratori tutti i lavoratori comunque non solo cioè i lavoratori comunque che lavorano comunque nelle industrie nelle fabbriche ma tutti i lavoratori secondo me sono stati veramente trattati come cioè dai padroni quindi anche dai dirigenti cioè i nostri dirigenti comunque alla fine sono dei padroni comunque perché cioè la sanità sì è pubblica però a mio avviso cioè segue uno schema comunque privatistico privato quindi comunque tu devi produrre e devi comunque produrre in quelle ore quindi non cioè di pubblico sì cioè poi noi lavoriamo tantissimo perché lavoriamo in un servizio che è molto diciamo caldo quindi lavorando comunque in farmacia si lavora tantissimo e niente cioè sono d'accordissimo insomma su tutto quello che è stato detto dai compagni cioè e anche della relazione comunque iniziale e cioè anche cioè mi ha colpito anche tantissimo che comunque noi dobbiamo comunque restituire cioè attraverso diciamo le nostre lotte la dignità ai lavoratori e soprattutto cioè la dignità di essere umani che spesso a mio avviso viene comunque cioè viene negata soprattutto ai lavoratori invisibili ai lavoratori comunque quelli sfruttati ai lavoratori comunque quelli che non vengono comunque cioè che non hanno un contratto quindi i lavoratori in nero cioè la nostra diciamo missione se così la possiamo chiamare deve essere anche restituire una voce a questi lavoratori insomma all'interno diciamo di questo di questo movimento cioè io cercherò insomma di andare in quella direzione perché cioè è importante comunque restituire dignità ai lavoratori a chi non ce l'ha e mi fermo qua grazie Grazie Loredana ora do la parola a Giovanna Benitez infermiera di San Paolo di Milano per l'ultimo intervento e poi ci sono le conclusioni di Mario Iavazzi Buonasera compagni ecco il mio intervento non era per nulla previsto però siccome praticamente in diretta sto ricevendo delle notizie e purtroppo negative in ambito laborativo come ha detto la compagna lavoro in un ospedale sono infermiera sono una infermiera di terapia intensiva per cui capirete anche già da questo termine che abbiamo fatto fronte a questa pandemia a questa emergenza le notizie che sto ricevendo ovviamente fanno sì che mi spinga a dover dire qualcosa o almeno a trasmettere le parole di incertezza di incertezza dei colleghi infermieri della terapia intensiva in cui vi viene comunicato il cambiamento in maniera diretta verticale cioè dalla direzione arriva una comunicazione praticamente in cui la turnazione viene stravolta cioè gli orari di lavoro viene cambiato automaticamente senza dover consultare con i sindacati senza dover interpellare ai lavoratori e quant'altro e questo è la conseguenza o il riconoscimento del nostro sforzo del nostro sacrificio come lavoro in questa situazione di emergenza cioè trasmetto anche lo smarrimento dei colleghi lavoratori in cui dicono che facciamo cioè a noi ci arrivano questa comunicazione questo è il pago che ci fa la direzione ma cosa facciamo scriviamo una lettera dobbiamo fare raccogliere firme dobbiamo fare uno sciopero dobbiamo metterci davanti alle porte dell'ospedale ci incateniamo cioè vi rendete conto che loro stanno cercando di rispondere a questa come si dice aggressione a questo attacco da parte di una direzione che ovviamente tra virgolette passata quella emergenza cioè non ha nessun senza remore prende questa scelta o questa decisione cioè questo vi dimostra che i lavoratori sono disposti a fare di tutto per rispondere e quindi io mi chiedo e il sindacato dove sono perché loro stessi dicono dove sono i sindacati quali sono i sindacati a chi ci rivolgiamo e allora dietro ridevo non mi veniva di sorridere sorridevo amaramente perché dicevo pensavo mi veniva da rispondere in diretta aspettate colleghi stiamo arrivando perché adesso sta nascendo no e mi auguro che sia al più presto una nuova area che in qualche modo ci può accompagnare ci può aiutare a organizzarci ci può come si dice condurre in maniera chiara netta ok senza paure senza titubanze no a dover rispondere no a queste aggressioni che sarà la prima non è la prima non sarà l'ultima ovviamente ma è l'inizio e siccome la collega Arianna la compagna Arianna parlava di questo movimento nazionale di infermieri beh non comporterà solo una lotta a livello infermieristico in ambito sanitario ma comporterà sicuramente a tutta la classe lavorativa dipendente della sanità e non solo come abbiamo sentito anche agli altri compagni no per cui io sono felice ovviamente sono contenta della nascita di 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 questa nuova area e che deve rispecchiare e deve rispettare e deve rispondere appunto a queste incertezze a queste richieste di aiuto e al più presto perché come ben sapete ovviamente la crisi come l'avete detto perché è inutile che vi annoio cioè non mi piace ripetere queste parole cioè la crisi è presente da tanti anni dal 2008 e forse anche da prima qualcuno ha detto le condizioni di lavoro le condizioni del lavoro sono peggiorate con la crisi no le condizioni del lavoro erano già peggiorate da molti anni se la sanità adesso diciamo la sanità pubblica ha retto e regge ancora non è grazie all'organizzazione che c'è in campo è grazie a noi ai lavoratori sanitari che che lasciano che lasciano la loro salute la loro vita no per poter non è neanche etica è proprio è insito come si dice forse scusate se qualche parola in spagnolo mi sfugge però è insito nell'essere umano ovviamente di soccorrere a chi ha bisogno no mettendoci magari o mettendo a repentaglio anche la loro sicurezza e per cui io saluto e mi auguro che possiamo andare avanti e vorrei anche rispondere aspettateci che stiamo arrivando per cui dobbiamo dobbiamo come si dice mettere in moto velocemente no per poter dare anche una direzione perché stanno aspettando delle risposte queste persone e niente scusate vi saluto e vi ringrazio bene grazie mille Giovanna è stato l'ultimo intervento abbiamo sforato di un 15 minuti ma direi che ci stavano tutti perché il dibattito secondo me è stato molto ricco e bellissimo ora passo la parola a Mario per le conclusioni dopo ci saranno non andate via perché ci sarà la votazione si sente bene ora compagni penso che da settimane mesi non ci sia stato un lunedì forse questo in effetti me lo son perso in cui Giuseppe Conte o Tridico o un ministro di questo governo abbia promesso che entro il venerdì successivo sarebbero state pagate tutte le casse integrazioni o FIS o casse integrazioni in deroga o tutti gli ammortizzatori che erano a disposizione siamo ancora oggi con centinaia di migliaia di lavoratrici e di lavoratori che dal mese di marzo quattro mesi non hanno visto un centesimo di quello che per loro era previsto per dare appunto una risposta in termini di reddito alla carenza di lavoro nel frattempo gli stessi signori hanno regalato e stanno regalando centinaia di miliardi di euro ai padroni di questo paese ci sono stime che dicono che più di 500 miliardi di euro stanno andando alle imprese sotto forma di finanziamento a fondo perduto sotto forma di anticipi prestiti le formule le stanno trovando il cassa depositi e prestiti questi sono dei farabutti e dei mascalzoni che altro che interessarsi della salute delle persone altro che interessarsi di chi non arriva altro che alla fine del mese ma davvero non è in grado appunto di acquistare per i loro familiari il cibo perché gente che non prende un centesimo lavoratori che non prendono un euro per quattro mesi stanno arrampicandosi sugli specchi stanno chiedendo prestiti a parenti amici pensionati genitori e invece c'è chi appunto che in questi anni ha fatto miliardi di utili sta ricevendo soldi da parte dello Stato in questa assemblea sono venuti fuori con chiarezza una serie di interventi da parte di compagni e compagni che ci hanno raccontato magari dopo essere stati definiti come angeli eroi quanto invece in queste settimane in questi mesi sono stati trattati come carne da macello ormai non lo ricordiamo quasi più in realtà i lavoratori se lo ricordano bene ma i lavoratori della sanità il 9 marzo hanno visto pubblicato un dpcm uno dei tanti decreti del presidente del consiglio dei ministri nel quale c'era scritto che i lavoratori della sanità che entravano in contatto con positivi al covid avrebbero dovuto continuare a lavorare questi farabutti questi farabutti sono stati responsabili della diffusione del contagio e hanno fatto sì che strutture ospedaliere RSA comunità residenziali e tutte le strutture assistenziali fossero il luogo nel quale il contagio è stato diffuso lo diceva qualche compagno prima la scuola stanno dando un miliardo di euro dicendo vedete noi diamo le risorse ai servizi pubblici è come se per anni avessero tolto del gran pane e oggi stessero dando delle briciole dicendo che appunto danno i soldi ai servizi pubblici è successo lo stesso nella sanità quando nel corso della pandemia si sono accorti che non c'erano i letti per le terapie intensive nemmeno per diciamo consentire a pochi malati perché molti altri non li hanno dichiarati o li hanno lasciati nelle case a morire questi bastardi e poi hanno aumentato il numero dei posti letto dicendo che loro erano perché la sanità fosse in grado di dare una risposta e di gestire questa pandemia oggi come sempre non solo non hanno imparato la lezione ma come potrebbero imparare la lezione non si tratta di imparare la lezione per loro gli interessi sono ben precisi e non sono quelli dei lavoratori e delle famiglie dei lavoratori questo processo di privatizzazione sta andando avanti e proseguirà e marcerà ancora più speditamente parlo sempre della sanità guardate stanno utilizzando le misure di sicurezza il distanziamento il fatto che non possono stare tre posti letto nelle camere invece ce ne devono stare due per evitare che i malati siano troppo vicini per ridurre i posti letto e non parliamo delle regioni dove già il privato diciamo avanzato ma parliamo di questa regione stanno tagliando i posti letto negli ospedali pubblici per darli gentilmente ancora una volta al privato in nome di un privato accreditato che per qualcuno nemmeno sarebbe privato perché appunto rientra nel servizio sanitario nazionale in questi giorni ci sono stati a proposito di scuola dei lavoratori delle lavoratrici della scuola che hanno inviato nella mia città delle lettere alle famiglie dicendo guardate che noi a breve riapriremo i centri estivi ma non sono garantite le misure di sicurezza il comune in quel caso lì di Bologna aprirà i centri estivi ma non è in grado di dare una risposta alle misure di sicurezza questi lavoratori sono stati attaccati e criticati perché mettono in discussione il servizio pubblico la scuola pubblica esattamente per la stessa ragione anche in questa organizzazione nella CGL c'è chi dice ancora oggi che in fondo la sanità pubblica ha retto la gravità della situazione ce l'ha fatta in fondo è andato tutto bene a proposito di questo slogan che invece molte famiglie molti lavoratori in realtà hanno sentito proprio nella speranza che andasse tutto bene e dicono e rispondono a chi invece critica la gestione della pandemia da parte della sanità che così facendo tolgono spazio credito e attaccano la sanità pubblica così come attaccano quei lavoratori sono stati accusati di attaccare la scuola pubblica e quindi di lasciare spazio al privato non c'è errore più grande di questo io penso e noi pensiamo che invece i migliori difensori della sanità pubblica della scuola pubblica e dei servizi pubblici sono quelli che dicono con chiarezza che ormai i servizi pubblici non sono in grado e non sono stati in grado di gestire la crisi sanitaria a causa dei tagli che hanno fatto in questi anni dei 40 miliardi 37 miliardi di euro di tagli di finanziamento alla sanità pubblica dei tagli alla scuola pubblica loro sono i responsabili e quindi noi lo diciamo altro che per dire che invece bisogna lasciare lo spazio al privato per dire che tutto deve essere internalizzato per dire che bisogna svoltare radicalmente dal punto di vista politico rispetto ai finanziamenti e ai servizi pubblici i 37 miliardi dei finanziamenti alla sanità privata devono tornare nelle casse della sanità pubblica subito e non tra qualche anno altro che un miliardo o due miliardi di euro della sanità pubblica che l'aumento dei finanziamenti alla scuola pubblica deve essere deve avvenire subito che l'assistenza da parte del pubblico deve essere potenziata bisogna investire e bisogna appunto tagliare con tutti i finanziamenti ai servizi privati alla sanità privata alla scuola privata e ci deve essere una svolta in questo senso insomma in altre parole i responsabili hanno nome e cognome e sono i Conte i Fontana i Tridico i direttori generali delle aziende sanitarie i proprietari delle imprese che se ne sono fregati della salute dei lavoratori e loro devono pagare le conseguenze di questo la storia gli dovrà far pagare la responsabilità dei morti che hanno sulle spalle altro che scudo penale le responsabilità sono loro e dovranno pagarle e chi le farà pagare poi noi chiediamo che anche la magistratura gliele faccia pagare ma quello è diciamo una rivendicazione che è corretta a sostenere ma quelli che devono far pagare le responsabilità a questi signori sono i lavoratori e le lavoratrici nel prossimo periodo dovranno organizzarsi e lottare per mettersi alle spalle questa fase drammatica ai responsabili che l'hanno creato sono stati citati i tragici eventi in Italia e in tutto il mondo ebbene io credo che questi tragici eventi abbiano aperto e apriranno gli occhi ai lavoratori di tutto il mondo sono state citate le lotte negli Stati Uniti dei portuali guardate lotte che non sono rutinarie noi in questi anni abbiamo visto tante volte e le abbiamo sempre salutate con grande ammirazione le lotte dei lavoratori di tutto il mondo ma quello che è avvenuto negli Stati Uniti è che sono state lotte politiche non sono state lotte in difesa del posto di lavoro che pure sono importantissime o per avanzare dal punto di vista della retribuzione sono lotte politiche in sostegno di un movimento di massa negli Stati Uniti che lotta contro quello Stato che usa diciamo i suoi servizi di polizia per ammazzare diciamo dei giovani in quel caso lì neri e quindi io penso appunto che quello che abbiamo visto in queste settimane in questi mesi non solo negli Stati Uniti io durante la pandemia ho parlato con un lavoratore in Portogallo che ci chiedeva diciamo come stavano gestendo i lavoratori in Italia la crisi sanitaria un compagno mi raccontava che la CGT in Francia su un volantino a marzo ha citato gli accordi della Ferrari di Modena spiegando appunto che i lavoratori alla Ferrari di Modena erano pagati al 100% della retribuzione ed erano a casa appunto per tutelare la loro salute come sempre avviene durante i processi di mobilitazione così come è avvenuto in questo periodo le lotte hanno uno straordinario capacità di contagiare di attraversare diciamo la classe lavoratrice che vuole giustamente diciamo imparare la lezione dei propri compagni della classe in altri paesi del mondo si parlava i compagni citavano in maniera straordinaria le politiche di austerità nelle quali noi entreremo perché quei 554 miliardi di euro che in queste settimane stanno andando alle imprese del nostro paese le faranno pagare i lavoratori le faranno pagare con le politiche di austerità e non ho primo citato la sanità ho citato la scuola ma riproporranno il tema del sistema previdenziale e di un nuovo attacco alle pensioni ma poi è stato citato il blocco dei licenziamenti giustamente nella relazione il compagno Brini ricordava che è stata una conquista delle lotte il blocco dei licenziamenti e che quella conquista proveranno a togliercela quanto prima io penso già ad agosto non è detto diciamo che la pressione che si farà sentire magari proregerà di un po' ancora però la toglieranno quel provvedimento perché il padronato in Italia non vuole il blocco dei licenziamenti vuole poter licenziare in particolare nel prossimo periodo tuttavia detto questo forse non è chiaro il fatto che durante il periodo di blocco di licenziamenti in Italia abbiamo perso centinaia di migliaia di posti di lavoro lo ricordavo un compagno prima i contratti di 400.000 fino al mese di aprile quindi probabilmente questo è un dato che va aggiornato un compagno ricordava appunto quanti lavoratori credo che lo ricordasse in occasione diciamo della coppa che spiegava appunto la situazione in quel gruppo contratti di lavoro precari che in questi mesi sono stati fondamentalmente interrotti cessati è un altro volto della licenziamento perché chi rimane senza posto di lavoro fondamentalmente è licenziato anche se giuridicamente diciamo non riceve la lettera di licenziamento ma parliamo anche di tanti lavoratori e soprattutto lavoratrici che hanno sono state costrette a dimettersi perché lo Stato non gli dava uno strumento che gli permettesse diciamo di assistere i propri familiari che fosse l'anziano perché magari prima era in un centro anziani che poi chiudeva che fossero i figli soprattutto perché le scuole erano chiuse e quindi provvedimenti che hanno dato in quattro mesi 30 giorni di congedo straordinario peraltro al 50% non era di sicuro uno strumento per permettere ai lavoratori di mantenere il posto di lavoro e in molti casi appunto hanno lasciato il posto di lavoro fino al mese di aprile sono state aperte 850.000 circa casse integrazioni che è lo stesso numero del peggior anno durante la crisi economica precedente eppure eppure come ricordavo alcuni compagni questa crisi non è nata con la pandemia eravamo già in una situazione di crisi importante c'erano tutti gli elementi e non lo diciamo noi lo dicono appunto gli organismi degli economisti borghesi che facevano prevedere e vedere diciamo come si entrasse in una situazione economica di crisi profonda è stata citata la grande distribuzione ci sono stati gruppi della grande distribuzione che hanno licenziato prima della pandemia penso a Conad penso a Ocean penso alla stessa Copp e insomma io credo che tutto questo che è avvenuto nelle giornate di marzo e penso che questa assemblea abbia espresso molto bene quello che sono state quelle giornate sia piena pregna di lezioni in primo luogo per noi che ovviamente come sempre abbiamo tanto da imparare dalla lotta di classe ma in secondo luogo è sicuramente ancora più importante per la classe lavoratrice in primo luogo i lavoratori hanno visto il cinismo e l'ipocresia dei padroni per loro contava solo il profitto lo abbiamo visto in tutte le occasioni a partire dalle prime giornate di marzo a chiedere ai lavoratori di andare a lavorare quando tutti gli dicevano che bisognava stare a casa lo hanno fatto attraverso le deroghe richieste ai prefetti lo ricordava Brini nella sua relazione quasi 200.000 aziende hanno chiesto deroghe quasi 200.000 aziende per incanto sono diventate essenziali in questo paese lo abbiamo visto negli stessi codici a teco proposti dal governo codici che di fatto non hanno tenuto conto o solo molto parzialmente hanno tenuto conto dell'essenzialità di un settore produttivo e hanno ampliato in maniera significativa e importante diciamo il numero dei settori che potevano e dovevano rimanere aperti eppure i lavoratori durante le giornate di marzo hanno visto la loro essenzialità la parola essenziale ha attraversato il dibattito politico e anche quando un terzo dei lavoratori che è stato costretto a continuare a lavorare un po' perché obiettivamente ci sono dei settori essenziali e tanti lavoratori sono stati chiamati a lavorare e lo hanno fatto anche con consapevolezza e con coscienza perché conoscono il loro ruolo sociale e alcuni diciamo di questi compagni hanno espresso in maniera straordinaria nei loro interventi quanto è forte e importante diciamo il ruolo sociale che hanno i lavoratori di questo settore ma anche i lavoratori non di questi settori appunto sono stati a chiamare a lavorare nonostante un terzo di questi e due terzi per una buona parte del periodo del lockdown sono stati a casa i lavoratori hanno visto che quando non andavano a lavorare obiettivamente la società si è fermata e in strada non girava nessuno c'è stata una riduzione della produzione di automobili del più del 90% insomma dal punto di vista economico e del ruolo sociale che i lavoratori svolgono in questa società non c'è stato periodo migliore nel dramma e negli eventi tragici nei quali siamo entrati per trasmettere ai lavoratori quanto sono essenziali quanto sono l'unico soggetto essenziale di questa società quanto gli altri hanno il capitale e i lavoratori sono invece essenziali senza di loro nulla va avanti senza i padroni tutto va avanti se gli portiamo via il capitale in questa fase abbiamo visto il livello di discredito dei vertici sindacali guardate lo citava credo prima la compagna Esposito sentire i sindacalisti Maurizio Landini i vertici della CGL e dire noi non entriamo nel merito di quando devono riaprire le aziende lo diceva a fine aprile nella discussione che poi ha portato sostanzialmente alla riapertura quasi totale il 4 di maggio noi vogliamo entrare solo nel merito di come aprono è un'abdicazione di un ruolo e cioè sostanzialmente il sindacato in quel momento o meglio i vertici sindacali in quel momento perché poi bisogna sempre specificare per me il sindacato continua ad essere un'organizzazione dei lavoratori e non dei vertici sindacali quindi anche su questo probabilmente anche noi abbiamo bisogno diciamo di definire meglio le responsabilità che sono dei vertici sindacali non sono delle organizzazioni che invece dovrebbero essere riprese dai lavoratori ma chiudo la parentesi sostanzialmente i vertici sindacali in quel momento dicevano no grazie non vogliamo il potere non vogliamo essere noi a dirvi che le fabbriche devono rimanere ancora chiuse che i settori appunto non essenziali devono continuare a rimanere chiusi in nome del diritto alla salute delle persone dei lavoratori e dei loro familiari questo decidetelo voi noi entriamo solo nel merito di quanti dispositivi di protezione ci devono essere cosa obiettivamente giusta insomma come necessità ma non sufficiente in quel periodo visto che c'era un'emergenza così significativa e quindi sostanzialmente vi lasciamo a voi il potere di decidere a voi governo a voi Confindustria tant'è che appunto ci sono state le pressioni di Confindustria vi ricordate anche questa non deve andare nel dimenticato io ho la lettera di Bonomi la lettera di Confindustria di quel famoso sabato o domenica non ricordo comunque del 22 di marzo fondamentalmente il 21 di marzo nel quale appunto diceva guai a chiudere che il paese andrà ovviamente sempre il paese che va in panna non i loro profitti poi dopo non ne usciremo più e le pressioni nei confronti del governo e abbiamo visto anche nel mese di marzo un processo di auto-organizzazione di auto-convocazione delle lotte non le citò perché sono state citate tutte no perché ne sono tantissime però alcune di queste alcune importanti e alcune che hanno visto protagonisti compagni e compagne che sono presenti in questa sala e che hanno giocato un ruolo in quelle assemblee in quelle vertenze in quelle mobilitazioni che ha spinto persino il segretario generale della CGL a minacciare lo sciopro generale perché dico persino perché il compagno Landini in passato ha fatto anche delle lotte importanti e le ha guidate ma perché pochi giorni prima aveva detto che la produzione doveva andare avanti esattamente come raccontava Confindustria in nome diciamo del fatto che tutto andrà bene e tutto deve proseguire e poi alcuni giorni dopo un paio di settimane sulla base della pressione dei lavoratori del processo di autoorganizzazione di autoconvocazioni anche diciamo un dirigente che poche settimane prima aveva detto una cosa poi ha cambiato esattamente versione questo ci spiega quanto i lavoratori sono importanti quanto le lotte determinano persino le scelte di dirigenti che non hanno alcuna intenzione di lottare compagni e compagni ricordiamocelo perché chi dice che bisogna fare dell'altro nella vita che fare una battaglia in CGL per cambiare questo sindacato cosa a cui noi invece crediamo fermamente e anche lui o anche lei in questo caso è abdica ad un ruolo che è quello appunto diciamo di stare nelle lotte e capire diciamo che l'autoorganizzazione può tutto lo ha fatto nella storia è accaduto più volte negli ultimi decenni anche se erano 30 anni che non vedevamo un processo del genere dal movimento di autoconvocati dei primi anni 90 un movimento di auto perché diciamolo chiaramente anche qui noi in questi 30 anni abbiamo visto delle lotte però non tutte anche con milioni di persone però erano tutte lotte diciamo che erano in qualche modo diciamo guidate dall'alto erano anche prima Paolo Brini diceva spintane erano in qualche modo lotte nel quale il gruppo dirigente soffiava sul fuoco oggi altro che soffiare sul fuoco ha buttato acqua sul fuoco ha provato a frenarle eppure c'è stato un processo di autoorganizzazione che ha spinto diciamo il sindacato in qualche modo di intervenire nelle giornate di marzo abbiamo visto il presidente di Confindustria dire io sento nel paese un sentimento anti-industriale lo diceva in primo luogo quando parlava parlava a tutti i lavoratori ovviamente ma lo diceva in quell'occasione nei confronti del governo per dire al governo guarda che tu stai diciamo trasmettendo un sentimento anti-industriale ovviamente come forma di pressione ma è vero noi in quelle settimane in quei mesi nel mese di marzo abbiamo visto i lavoratori vedere diciamo come con chiarezza il nemico di classe fosse il proprio padrone che lo chiamava lavorare la cosa straordinaria è che non c'è lavoratore che non ci possa parlare di una sua singola esperienza di conquista di un dispositivo di protezione oppure appunto di lotta per tenere chiuso il proprio posto di lavoro ho avuto l'onore di partecipare ad un'assemblea organizzata da nostri delegati della IMA intervenuto prima un compagno nella cui assemblea c'era un giovane lavoratore che diceva io sono stato assunto due anni fa non tutti conoscono l'IMA ma l'IMA è riconosciuta sul territorio bolognese non solo per avere un'RSU concertativa storicamente ma anche per avere diciamo azienda che fa prova diciamo a trasmettere un suo senso diciamo di progressismo di essere un'azienda che in qualche modo diciamo non è andata allo scontro col sindacato mai perché in qualche modo ha anche avuto una gestione diciamo di collaborazione effettiva e quel lavoratore ha detto io due anni fa sono entrato in azienda il mio datore di lavoro lo ha chiamato così lui ovviamente il mio datore di lavoro lo vedevo come un datore di lavoro che faceva tanto per noi e oggi ho visto che non è così oggi ho visto che il mio ex datore di lavoro l'attuale mio padrone è uno diciamo che si è disinteressato della mia salute ma ha pensato al suo profitto e anzi lo ha mandato in cassa integrazione dopo che il suo datore di lavoro ha fatto per anni decine di milioni centinaia di milioni di profitti così come in un altro posto di lavoro il compagno non è intervenuto oggi ma avrebbe potuto dire un sacco di cose interessanti quando diciamo un'assemblea di lavoratori smart working a cui hanno partecipato 125 lavoratori di smart working di solito a cui l'assemblea partecipano circa 50 60 lavoratori hanno deciso di iniziare una mobilitazione dei lavoratori di smart working questo diciamo ci trasmette anche il fatto che i lavoratori quando si organizzano e lottano tengono conto del contesto partono da quel contesto e però diciamo fanno un passo avanti per organizzarsi e quindi chi non vede questa svolta nelle giornate di marzo una svolta epocale lo dicevo a qualche compagno prima è destinato ad auto marginalizzarsi che è la stessa ragione per la quale in questi anni diciamo l'area riconquistiamo tutto ha in qualche modo di fatto non giocato un ruolo è stata diciamo in un suo angolo a denunciare a fare anche dei comunicati roboanti e diciamo di denuncia pubblica ma poi non è andata oltre un'incapacità nel radicamento e se un sindacato o un'area del sindacato o comunque chiunque voglia diciamo costruire un lavoro nella classe lavoratrice non è adeguato a radicarsi Brin la diceva prima a fare la battaglia per l'egemonia nel movimento operaio è destinato ad auto isolarsi è destinato a non essere visto come utile dai lavoratori e quindi noi oggi di fatto traiamo le conseguenze di un'inadeguatezza dell'area noi oggi non facciamo nessuna polemica puntuale su una scelta piuttosto che su un'altra scelta dell'ultimo periodo noi sostanzialmente quello che diciamo è che quest'area purtroppo o sotto certi punti di vista per fortuna con chiarezza e non sa non può e non è adeguata a giocare un ruolo non è un caso che in ogni anno si ripropongono le stesse discussioni ogni ogni tot di tempo esce la discussione sul perché stiamo in CGL ma ci credo se tu non fai altro che denunciare 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 fai solo quello la tua base dice scusa ma io perché sto qui dentro se diciamo non esprimi con chiarezza la necessità di organizzare i lavoratori e di smascherare il gruppo dirigente non devi dire il gruppo dirigente traditore anche se magari diciamo nelle esperienze poi i lavoratori a volte lo percepisco ma devi stare al fianco dei lavoratori nelle lotte per smascherare diciamo quel gruppo dirigente devi mostrare il fallimento della linea concertativa della mediazione perché se non le ho dimostri nei fatti o se quando i lavoratori lo vedono tu sei da un'altra parte e non hai giocato un ruolo i lavoratori non verranno da te o usciranno oppure staranno ancora lì diciamo a pensare che tu hai il solo scopo obiettivo di alzare una bandiera più alta oppure l'altra discussione come dire che perennemente si ripropone è la discussione sul discutiamo con i vertici di altri sindacati di base per provare a fare il solito fronte diciamo unitario che poi unitario non sarà mai perché ogni volta fallisce e perché ogni volta diciamo finisce con accuse reciproche e fondamentalmente mi dispiace dirlo diventa ogni volta diciamo uno scambio di idee di proposte tra dirigenti che non hanno alcuna fiducia nel movimento operario questa è la realtà lo abbiamo visto è stato citato in altri interventi qui lo abbiamo visto anche nelle lotte e questa dimostrazione del fatto che noi oggi traiamo le conseguenze di un processo lungo nelle lotte del 2014 contro il Jobs Act nella discussione del sindacato è un'altra cosa di allora c'era disorientamento perché i compagni dirigenti di quell'area peraltro molti dei quali non sono più in CGL dicevano obiettivamente i lavoratori adesso vedono con fiducia Landini perché allora era Landini riferirà quello che sembrava ai lavoratori colui che li chiamava a lottare la fiamma combattiva ce la ricordiamo e quando in quell'autunno si proclamavano le manifestazioni a Roma con centinaia di migliaia di lavoratori lo sciopero generale che poi è stato l'ultimo che è stato fatto e i lavoratori seguivano quella scia giustamente devo dire perché stare in piazza con centinaia di migliaia di lavoratori è molto meglio che starsene chiusi in una stanza a dire quanto tradiscono gli altri e c'era disorientamento quei compagni dicevano non sappiamo cosa dire e invece questa è una prospettiva è un metodo diverso che ci contraddistingue noi non scherziamo quando chiediamo al gruppo dirigente di allora e di oggi che è necessario lottare non scherziamo e quando lanciano le lotte noi le seguiamo con fiducia perché noi stiamo nelle lotte perché noi pensiamo che i lavoratori abbiano bisogno di lottare anche quando diciamo lo si fa su un programma non corretto anche se lo si fa diciamo con chi poi dopo è pronto ad arrivare ad un accordo a perdere perché i lavoratori nella lotta riacquistano fiducia e i lavoratori per noi sono coloro che quando hanno fiducia sono capaci di fare tutto anche di cambiare il mondo come l'ha insegnato la storia in altre occasioni e quindi io penso e lo dicevano e emergeva negli ultimi interventi e mi abbia la conclusione che dalle giornate di marzo quello che possiamo dire di aver capito con chiarezza è che già in quelle giornate ma nel prossimo periodo vediamo un bacino molto più ampio di lavoratori di nuovi militanti di attivisti che sono disponibili a ruotare i lavoratori e le lavoratrici che oggi sono intervenute che non hanno esperienze sindacale e che non sono delegati e cui io ringrazio davvero tanto per l'intervento che è stato fatto esprimono esattamente questo concetto e cioè che tanti lavoratori attraverso l'esperienza e le lezioni di cui parlavo delle giornate di marzo oggi decidono di diventare protagonisti e sono loro molto più avanzati di tanti delegati sindacali e tanti attivisti sindacali che per 20-30 anni ci dicono che non c'è più niente da fare e noi da lì e da quell'ispirazione vogliamo partire e da quell'ispirazione che vogliamo trarre le conseguenze e a quei lavoratori noi ci rivolgiamo perché chi non è in grado e non capisce l'importanza di rivolgersi alla massa dei lavoratori è destinato ancora di più a marginalizzarsi un dirigente un grande dirigente del movimento operaio Vieni diceva spiegare pazientemente e io credo che lo spirito di quest'area è quello di spiegare pazientemente a tutti i lavoratori quanto questo sistema economico sia un disastro per loro e che appunto li porti a diventare cane da macello ad essere cane da macello non dobbiamo mai dimenticare questo slogan allo stesso tempo dobbiamo essere consapevoli che nel prossimo periodo alla pazienza dovremo aggiungere l'audacia perché i lavoratori sono audaci saranno molto più adaci di quanto abbiamo visto nel corso degli anni scorsi e penso che in questo spirito in questa scia noi dovremmo lavorare ho finito io credo che questa sia stata un'assemblea straordinaria di solito le assemblee si finiscono con chi ha partecipato all'assemblea che torna a casa un po' sfiduciato diciamo la verità le assemblee spesso ti trasmettono un pessimismo che quando arrivi a casa dici anche oggi è passata mi ha fatto questa assemblea però siccome sono un militante sindacale ne farò un'altra però da questa assemblea non è che trago tanto entusiasmo io penso che questa assemblea invece abbia trasmesso un sacco di entusiasmo non so voi compagni a me molti interventi mi hanno fatto venire la pelle d'oca perché sono interventi che hanno parlato della loro condizione ma oltre a parlarne diciamo erano pieni di fiducia di ottimismo erano interventi diciamo che superavano il concetto del lamentiamoci e raccontiamoci di quanto è brutto e difficile il mondo ma provavano diciamo a vedere le prospettive in una luce positiva ma non perché noi siamo positivi poi se c'è come dire se c'è da essere positivi non ci tiriamo indietro però è solo le contraddizioni è l'esperienza concreta dei lavoratori e delle lavoratrici in ultima istanza diciamo a trasmettere questo ottimismo a far sì diciamo che i lavoratori imparino dall'esperienza molto più rapidamente di quanti tanti leggono tanti libri spesso non capendoli e quindi io penso che attraverso questo spirito noi ci metteremo a disposizione per cambiare il sindacato per cambiare la CGL e allo stesso tempo diciamo ci metteremo a disposizione questo spirito per intervenire nella classe lavoratrice e per provare nel nostro piccolo oggi e speriamo diciamo nel nostro grande domani a dare un contributo affinché i lavoratrici giochino il ruolo che devono e che possono giocare in questa società grazie allora compagni siamo arrivati alla conclusione di questa assemblea e quindi siamo chiamati a appunto a prendere delle decisioni quindi a essere conseguenti con le proposte dell'analisi il dibattito che abbiamo fatto oggi c'è da votare innanzitutto la risoluzione che avete che vi è stata data che avete letto non ci sono pervenute le richieste di modifiche devo dire che anche nel dibattito non ci sono state obiezioni in merito quindi innanzitutto vi chiedo vi chiediamo di votare per alzata di mano sul documento è chiaro che l'approvazione di questo documento implica come conseguenza il fatto che il nostro compagno al direttivo nazionale della Cigelle Mario Iavazzi dunque formalizzerà la nascita di una nuova area programmatica all'interno del secondo documento e il che naturalmente implica come conseguenza che i compagni tra di noi quindi per quello che riguarda l'esecutivo nazionale Mario il sottoscritto Antonio Forlano e a cascata nelle regioni nei territori formalizzano nei confronti dei compagni di Riconquistiamo tutto l'uscita dall'area perché naturalmente approvando questo documento la conseguenza è questa quindi io chiedo ai compagni so che sono anche su al decimo piano che ci stanno guardando aspetta dammi il cellulare che sono in collegamento diretto col voto con Matteo Parlati che è su a fare il contatore quindi vi chiedo per alzata di mano chi è favorevole alla risoluzione chi ok giù chi è contrario chi si astiene dalla regia mi dicono decimo piano unanimità unanimità anche qui il documento è stato approvato all'unanimità seconda e ultima votazione abbiamo fatto una proposta di lista appunto come si diceva intanto provvisoria di compagni del coordinamento nazionale e quindi intanto chiediamo non ci sono state proposte anche qui né di modifica né di altro in merito quindi chiediamo intanto di votare questo coordinamento provvisorio poi come detto giustamente da Paolo nel suo intervento prima quando faremo l'altra alla prossima assemblea nazionale integreremo e formalizzeremo ulteriormente chi è favorevole alzi la mano chi è contrario chi si astiene cosa dice la regia unanimità approvata anche questa è l'unanimità grazie compagni al lavoro e alla lotta come si soltiva grazie a tutti